è ripartito allora è ripartito il consigliere Casiraghi può continuare il suo intervento va bene riprendo quindi ritornando a noi 3 settimane per stanziare 100.000 euro sui 243.000 euro che in realtà il governo ha trasferito al comune di Lodi quindi meno della metà degli stanziamenti verranno erogati e verrà fatto in 3 settimane andando oltre ci sono ancora alcune precisazioni che andrebbero fatte rispetto a SICL innanzitutto la prima cosa che mi viene a sottolineare è che in commissione quando si è parlato avevamo chiesto quali fossero i motivi più urgenti secondo lui e poi vediamo l'urgenza tra virgolette che è relativa a questo bilancio e ci sono state citate due cose i cantieri per fare manutenzione alle scuole e il verde la manutenzione del verde pubblico il primo i cantieri come ho avuto già modo di dire in commissione sono tutti fermi per un'ordinanza di regione Lombardia quindi la Lega in autonomia l'unica regione d'Italia ha deciso di interrompere tutti i cantieri pubblici quindi quella che era una delle urgenze in realtà era una balla idem il verde pubblico perché fa parte sempre delle attività che a regione Lombardia sono state stoppate e quindi diciamo delle due motivazioni per cui ci avete detto ah adesso dobbiamo correre per approvare questo preventivo che l'assessore al bilancio eh non un consigliere qualsiasi l'assessore al bilancio ci ha dato entrambi non stavano in piedi poi riguardo a fantomatici eh eh politici che andavano in giro a farsi le foto politici nazionali che andavano in giro a farsi le foto eh fra bar e ristoranti io ricordo che il vice sindaco della giunta di cui Sickel fa parte era lui che ogni due ore ci postava il cafferino il panino l'insalatina e di nuovo il cafferino e poi l'aperitivino ecco questa è la serietà degli amministratori pubblici che abbiamo poi la stupidità di queste persone degli atti di queste persone sia poi insomma avrà sicuramente influenzato nel contribuire a determinare purtroppo la situazione tragica che poi si è determinata e anche su l'osservazione che Sickel si vanta di essere arrivato prima dello Stato nella definizione della chiusura del bilancio ricordo che il bilancio preventivo un po' come dice la parola stessa il bilancio preventivo 2020 in teoria dovrebbe essere fatto prima dell'inizio del 2020 in maniera tale che l'amministrazione si sblocca quelli che sono un po' appunto i fondi e a modo di lavorare durante l'anno senza entrare in dodicesimi ora noi siamo ad aprile e voglio ricordare che se non ci fossero state le proroghe date poi dal governo con i vari dpcm saremmo in straritardo noi rispetto anche alla scadenza ultima del ritardo massimo ammissibile quindi che siamo arrivati i primi proprio non sta né in cielo né in terra faccio un esempio di città insomma è stata citata a crema ma faccio anche un esempio che di solito viene citata un po' come la mala gestione dei comuni italiani Roma il bilancio preventivo la giunta l'ha approvato a novembre e il consiglio comunale di Roma l'ha approvato a metà dicembre il bilancio preventivo del 2020 questo ha permesso al comune di Roma oggi in emergenza covid di dare di cancellare 90 milioni di tassa di occupazione di solo pubblico per le attività commerciali quindi chi ha lavorato muovendosi in anticipo è riuscito a dare aiuti concreti e diretti alle attività e ai cittadini di quei comuni noi ad aprile siamo qua ancora a parlare di un bilancio che contiene 0 euro per quanto riguarda l'emergenza covid e poi veniamo un attimino alla ricostruzione delle date perché adesso insomma questa urgenza questa opposizione che sembra che voleva far lavorare questo comune in dodicesimi per tutta la vita veniamo un po' alle date l'emergenza del coronavirus diciamo il primo caso viene rilevato qua nella nostra provincia il 20 febbraio dal 20 febbraio voi avete approvato lo schema di bilancio in giunta il 6 marzo ok quindi ci sono passate due settimane abbondanti e due settimane in cui voi eravate liberi di incominciare ad andare a rivedere almeno le principali voci di bilancio perché qua nessuno a voi vi ha mai chiesto di stravolgere il bilancio quello che noi chiedevamo era andiamo a individuare due o tre voci distanziamenti che sicuramente dovranno essere rivisti l'esempio più clamoroso potrebbe essere quello di Lodi al sole ma io cito sempre anche l'esempio dei fondi relativi al trasporto pubblico locale per cui avete tagliato il 60% delle corse ho chiesto in commissione che risparmi questi comportava per l'amministrazione comunale sono passate due settimane risposte non ne sono arrivate quindi la proposta era individuare due o tre macro voci da cui attingere prendere questi fondi e poi andare a portarli su diciamo voci che potevano essere le più urgenti per quanto riguarda cittadini e imprese questo voi avreste potuto farlo tra il 20 febbraio e il 6 marzo non l'avete fatto il 6 marzo avete portato lo schema di bilancio in giunta è stato approvato e poi dal 6 marzo al 25 marzo non si è mosso niente poi il 25 marzo abbiamo cominciato a fare commissioni a tappeto venerdì sera sabato sera domenica pomeriggio commissioni per poi arrivare a discutere un bilancio a iniziare a discutere un bilancio alle 2 di notte del venerdì santo e questo quindi sono più o meno le tappe quindi noi non è che siamo degli irresponsabili che vi chiedevamo di buttare nel cestino il lavoro fatto nei mesi precedenti dagli uffici quello che voi avreste dovuto fare è tra il 20 febbraio e il 6 marzo aprire gli occhi rendervi conto di cosa stava succedendo intorno a voi e incominciare a lavorare invece voi aprire gli occhi non esiste mai le cose vi devono sempre cascare adosso vi sbattono in faccia e allora a quel punto incominciate a elaborare magari un minimo di reazione venendo appunto a cercare a quello che era il contributo positivo che noi volevamo dare già da prima relativo a questo bilancio e che comunque diciamo non è stato possibile abbiamo presentato tre ordini del giorno di cui io adesso ne illustrerò due e poi il terzo lo illustrerà il mio collega Degano e sono relativi a interventi che noi riteniamo di particolare urgenza e su cui appunto chiediamo un impegno della giunta il primo penso che l'abbiate ricevute tutti le mail il primo che discuto è appunto il numero uno e sostanzialmente diciamo considerata appunto l'esplosione della pandemia e del coronavirus considerando le difficoltà economiche che questo ha generato la chiusura delle attività economiche quindi insomma i negozianti hanno avuto di sicuro delle perdite economiche ma allo stesso tempo anche insomma partite IVA lavoratori cassa integrazione insomma tutti hanno subito in qualche modo delle decurtazioni diciamo rispetto al loro reddito medio annuale e quindi diciamo questa difficoltà questa minore entrate ovviamente stanno generando delle difficoltà economiche di cassa ai cittadini nella loro quotidianità benché c'è chi pensi che 100 euro in più 100 euro in meno non cambiano niente per moltissimi cittadini sui 45 mila abitanti questo fa una differenza e quindi preso atto di queste difficoltà economiche determinate da questa situazione preso atto che il governo in termini di aiuti economici alle famiglie quantomeno per far fronte all'emergenza alimentare ha stanziato appunto per l'odi 243 mila euro di cui voi forse tra qualche giorno riuscirete a derogarne 100 mila resta un problema a nostro avviso che vi chiediamo di impegnarvi a risolverle e relativo appunto alla difficoltà di eccesso di alcune famiglie all'acquisto di farmaci e di mascherine e dispositivi di protezione individuale come le mascherine o i quanti notizia di questi giorni l'avete vista una mascherina nelle farmacie comunali arriva a costare 12 euro e 50 all'una quindi non una cifra decisamente come dire a portata di mano di tutti e quindi per questo motivo quello che noi vi chiediamo è di valutare l'istituzione di un fondo economico finalizzato a supportare l'acquisto di farmaci e dispositivi di protezione individuale rivolti ai cittadini in situazioni di difficoltà economica ecco questa cosa qua a nostro avviso è molto importante non solo simbolicamente perché un comune insomma dovrebbe pensare al benessere dei suoi cittadini non solo perché la sindaca è la prima responsabile della salute dei cittadini e qui parliamo di dispositivi volti a tutelare la salute delle persone ma anche perché questi stessi dispositivi sono estremamente necessari in moltissimi contesti per contenere la diffusione del virus e quindi chi non ha i soldi per poterseli comprare come dire resta escluso dalla possibilità di proteggersi ma allo stesso tempo quindi determina come dire un problema per se stesso ma questo problema poi si ripercuote sull'intera società per cui vi chiediamo di impegnarvi non ha appena approvato questo bilancio preventivo per considerare una variazione ad hoc volta ad andare a costituire questo fondo il secondo ordine del giorno che io presento è sempre volto a tutelare diciamo la salute dei cittadini e della quindi insomma premesso insomma l'emergenza del del coronavirus considerato che insomma in queste settimane a causa della scarsità dei posti letto negli ospedali pubblici molti contagiati sono stati costretti e lo sono tuttora a curarsi a casa nelle loro abitazioni anziché essere ricoverati considerando poi che il covid è un virus altamente infettivo quindi il rischio di contagio soprattutto in ambienti chiusi familiari è elevatissimo considerato anche che non solo chi sta facendo la malattia a casa ha questo problema ma anche chi viene dimesso dall'ospedale perché quando uno viene dimesso resta ancora come dire una fonte di contagio e di diffusione del virus e quindi viene messo deve essere messo in isolamento per almeno 14 giorni dopo le dimissioni e considerando che non tutti i cittadini hanno delle condizioni abitative sufficienti a garantire questa questa sicurezza c'è chi magari in un bilocale vive in due o tre persone quindi è materialmente impossibile garantire che questa persona non entri mai a contatto con i suoi familiari quindi non gli esponga a dei rischi sottolineo che nel caso in cui ad esempio un nucleo familiare di due persone anche solamente vive in un bilocale questi dovrebbero vivere sostanzialmente quasi tutto il tempo con una mascherina indosso 12 euro e 50 vuol dire che più o meno dopo 10 ore questi 12 euro e 50 andrebbero buttati via quindi questa è la realtà e il contesto di cui sto parlando e quindi l'impegno che noi vi chiediamo è di valutare l'istituzione di un fondo con una dotazione economica consona accompagnato da una convenzione con alcuni hotel e cittadini finalizzati a mettere a disposizione delle diciamo delle stanze degli alloggi in maniera tale che le persone o infette o infette che stanno diciamo che sono nel pieno della malattia oppure che sono state curate e dimesse dagli ospedali possono come dire andare in questi hotel qua per svolgere insomma il loro periodo di isolamento in sicurezza per loro e in sicurezza per le loro famiglie sottolineo che non è che sia una misura questa come anche quella precedente che ho illustrato che ci siamo inventati noi in questo momento qua per fare cacciara politica o polemica visto che poi sempre veniamo tacciati così ci sono decine di comuni che l'hanno fatto soprattutto capoluoghi perché chi ha un ospedale soprattutto come appunto l'ospedale di Lodi che è un punto nevralgico per tutta la provincia nella cura dei pazienti affetti da coronavirus è indispensabile che ci siano queste strutture per garantire appunto un contenimento della diffusione del virus tra l'altro notizia credo di oggi se non sbaglio ci sono già degli hotel che si sono fatti avanti quindi quello che noi vi chiediamo di fare al più presto è contattarli stipulare delle convenzioni e come dire costituire questo fondo che in qualche modo possa aiutare il cittadino a far fronte a questa spesa perché non si può poi pretendere che tutto venga scaricato ancora una volta sul cittadino quindi vi chiediamo a voi di attivarvi perché il comune di Lodi sia parte attiva nel contribuire allo stanziamento di questo fondo per insomma arginare la diffusione del virus grazie grazie consigliere Casiraghi ha chiesto la parola consigliera Tagliaferri ecco chiedo una cortesia se alla consigliera Baggi se mi può sostituire qualche minuto gentilmente certo non c'è nessun problema grazie grazie prego consigliere volevo anch'io in partenza intanto ringraziare il personale informatico Brambati che ci permette di esercitare la democrazia locale anche in tempi di pandemia insomma ci troviamo in una situazione un po' particolare però il consiglio comunale sta andando avanti e quindi credo che questa sia una bella conquista un'altra premessa che volevo fare mi associo un po' a quanto diceva poco fa la collega Pozzoli credo che prima di parlare dei conti non si può che parlare delle persone non ero intervenuta in precedenza su Santa Chiara per ragioni di tempi erano già intervenuti i miei colleghi ma credo che qualcosa comunque vada detto vada sottolineato perché è chiaramente al centro dell'attenzione per tutti noi al centro delle nostre preoccupazioni in apertura il sindaco diceva ci accusava di imputarle di aver mentito sulla relazione io non so se ha mentito o no ma in ogni caso il fatto di non avere la relazione non è meno grave dell'aver mentito cioè noi le imputiamo o di averci mentito sulla relazione oppure di non averla che è altrettanto grave perché è indice di un disinteresse e così appunto disinteresse peraltro evidenziato dal fatto che c'è stato bisogno dell'intervento dei consiglieri di opposizione perché qualcosa si muovesse mentre a Santa Chiara avveniva un'ecatombe arrivando invece ai conti al bilancio oggetto di di questa sera il consigliere Casiraghi poco fa diceva che cercava una visione una vision dell'emergenza che stiamo vivendo all'interno del bilancio a me sarebbe bastata anche una visione della città non che me l'aspettassi visti gli anni precedenti però diciamo che quantomeno ci speravo invece ancora una volta come siamo stati abituati già nei due anni precedenti l'elenco della spesa che settore per settore mette sullo stesso piano la bucca tappata e priorità strategiche priorità strategiche su cui tra l'altro ci sarebbe molto da dire se pensiamo ad esempio al sottopasso della stazione per cui sono state stanziate le risorse nel 2016 poi spostate altrove senza criterio e adesso arriveremo forse alla progettazione definitiva nel 2020 oppure pensiamo all'isola Carolina un tema chiave sentito sul cui percorso di coinvolgimento della città ancora non c'è nessuna chiarezza però dicevo a prescindere da da questo la consigliera Gualteri si lamentava della nostra insistenza sull'inadeguatezza sul fatto che cioè si lamentava del fatto che in tutte le commissioni noi insistessimo sull'inadeguatezza del bilancio rispetto alla situazione corrente bilancio che tra l'altro risale al 6 di marzo quando comunque già che la situazione fosse un pochino più grave di quello che era apparso in principio si poteva si poteva intuire ma il problema è che sbagliati erano già gli ingredienti di partenza cioè pure lasciando da parte completamente il coronavirus diceva prima il mio collega fu regato la spesa sociale ha toccato i suoi minimi da sempre la spesa per gli eventi i suoi massimi da sempre quindi la contraddizione interna c'era già indipendentemente dal coronavirus figuriamoci ora che ovviamente i bisogni sociali sono aumentati non c'è nessuna diminuzione di imposte di tariffe nessuna misura a sostegno delle famiglie e delle imprese abbiamo assistito questo finalmente all'occasione di dirlo a un teatrino pessimo per tutto il primo mese della crisi mentre noi stavamo in silenzio e c'eravamo imposti di stare in silenzio perché guardate io credo che ci sia il momento della politica e il momento delle istituzioni e nei momenti difficili è il momento delle istituzioni e anche nel momento più difficile da parte del sindaco non ho assistito ad altro che ad un continuo martellamento peraltro analogo a quello di altri sindaci della lega e quindi ovviamente in risposta a un ordine di scuderia sull'inerzia del governo centrale rispetto alla regione nessuna iniziativa presa tutti i provvedimenti anche quelli di salute pubblica anche quelli su cui il sindaco avrebbe avuto libertà di azione sono stati presi alla moviola tutte le volte con uno scaricavarile costante di responsabilità nei confronti del governo centrale ecco adesso il tempo passa ovviamente ci si inizia a porre anche come dire un'idea di prospettiva rispetto alla famosa fase 2 e io credo che ognuno davvero debba fare la propria parte per le competenze che ha il governo ha stanziato 750 miliardi per le imprese italiane con il decreto imprese poi lo sblocco delle liquidità il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi 46 milioni di aiuti per gli affitti il bonus per gli autonomi poi si può essere più o meno d'accordo si può pensare che le risorse da stanziare fossero di più di meno non importa però comunque qualcosa è stato fatto e adesso il comune nei limiti delle sue competenze deve fare la propria parte e non penso solo o meglio penso anche a quanto abbiamo detto prima nei punti all'ordine del giorno precedenti sull'Atari ma a ciò che si può fare in termini di per le attività produttive ad esempio per le attività per gli esercenti di plateatico di affissioni quindi sgravi su quel genere di costi che sostengono le attività economiche ma penso anche ad esempio ad un fondo di solidarietà per le imprese che tra l'altro avevamo lanciato con un volantino in tempi non sospetti mentre si stava formulando il bilancio il vice sindaco andava nei bar a farsi selfie avevamo un po' come dire fatto questa ipotesi per necessità che certo allora non sapevamo prevedere non sapevamo neanche esattamente quantificare però dicevamo caspita cioè si sta si sta delineando una situazione poco chiara di cui non abbiamo certezze non è chiaro quanto durerà accantoniamo un fondo di solidarietà per le imprese per gestire l'emergenza in vista di tempi che non possiamo cioè questo significa avere una progettualità politica invece guardate nell'antica Roma chi voleva fare carriera politica offriva panemet circenses che erano elargizioni di grano che non risolvevano in alcun modo i problemi sociali ma che placavano la pancia per un giorno e poi sfarzosi ludi gladiatori che aiutavano a dimenticare i problemi duemila anni sono passati e ci troviamo nella stessa situazione potremmo dire mascherine circenses la distribuzione gratuita di mascherine doverosa ovviamente anche perché sono comunque arrivate da fuori ma che nasconde i rincari adottati nelle farmacie comunali sul prezzo di vendita ne parlava prima il collega Casiraghi rincari vergognosi e mascherati con panem della distribuzione diciamo di quelle arrivate dalla regione e dalla Cina e poi Cercenses con un bilancio che prevede 214 mila euro di intrattenimento a preventivo se guardiamo i dati dal 2012 ad oggi dal 2012 al 2016 vediamo che sono sempre stati previsti tra i 130 e i 150 mila euro stanziati poi cioè diciamo rispetto alla previsione lo stanziamento finale poi alla fine aveva una discrepanza di 10-20 mila euro al massimo in più invece guardiamo gli ultimi due anni cioè gli ultimi tre anni diciamo con quest'anno nel 2018 quindi passiamo da 130-150 mila euro stanziati e massimo 10 mila euro in più al 2018 190 mila euro stanziati spesi 250 mila 2019 180 mila euro previsti a preventivo spesi 265 mila 2020 lo stanziamento sale di 34 mila euro rispetto all'anno scorso quindi stanziati 214 mila allora io sono la prima che ritiene che la città vada animata e non metto neanche in dubbio che ci siano stati comunque negli anni degli eventi di qualità ma a che prezzo e poi Renella Bulgara che personalmente non ho come dire il piacere di conoscere non so neanche come dire che tipo di musica faccia ma vale il sottrarre risorse agli ultimi perché non è che le risorse dei comuni sono aumentate così da giustificare questo innalzamento delle spese ciò l'hanno detto i miei colleghi ma credo che valga la pena di ripeterlo perché è importante ha zerato il fondo anticrisi ha zerato il fondo per le borse lavoro ridotti del 40% i contributi economici per le persone in difficoltà diminuiti i fondi per il centro anziani tagliati di 20 mila euro i servizi estivi per i bambini e di 26 mila euro l'assistenza domiciliare poi avete ben da dire che dopo si reintegra con gli equilibri eccetera eccetera però è il bilancio preventivo quello che definisce gli obiettivi di un'amministrazione cioè gli ingredienti che uno considera strategici come dire i cardini dell'azione amministrativa la visione di città che si ha d'altronde che non ci fosse questa come dire questa visione in campo in campo sociale lo si era già visto con l'uscita dal consorzio il cui risparmio emerge che è quantomeno dubbio adesso senza entrare nel dettaglio però quantomeno dubbio è dettato da un ordine di scuderia che ha spinto ad abbandonare l'esperienza di una vision di gestione territoriale dei bisogni degli ultimi lo si è visto con la gestione dei buoni spesa che dimostra la non conoscenza delle reti territoriali esistenti perché ora io credo che una rete territoriale esistente si parlava del fatto che fa perdere più tempo io credo che faccia perdere invece meno tempo non di più e infatti mi risulta che ancora notizia leggevo oggi sul giornale che ancora si sta individuando la platea si stanno facendo i colloqui di selezione mentre invece utilizzando le reti già esistenti a cui aggiungere eventualmente i nuovi bisogni sorti con con l'emergenza perché ovviamente c'erano le povertà già note e quelle sopraggiunte credo che il tempo invece si sarebbe risparmiato non perso e ancora lo si è visto con la polemica sollevata in occasione dell'arrivo degli stessi buoni spesa che rappresentavano un incremento di quasi il 3% delle risorse correnti dei servizi sociali e che invece sono stati trattati come carta straccia quindi insomma un bilancio nel quale si vede un aumento delle spese per l'intrattenimento senza precedenti e una diminuzione delle spese sociali senza precedenti questi sono i tratti salienti dell'idea di città che ci state proponendo e che state sottoponendo al nostro voto il fatto che non tenga conto della crisi sanitaria non è che un aggravante rispetto a un vulnus di partenza che comunque già c'era ci sarebbero poi molte altre cose da dire penso ad esempio alla voce della sicurezza citata in partenza dal collega Piacentini la versione napoletana borbonica del panemet cercensis latino è feste farine forca quindi praticamente la stessa cosa dell'antica Roma con il detto napoletano aggiunge anche la forca quindi il tema della sicurezza la risposta ai cosiddetti fenomeni predatori risposta che sembra concretizzarsi in appunto quattro assunzioni cioè nelle nuove assunzioni le nuove assunzioni non sono diciamo quelle nuove in aggiunta non sostituzioni sono tutte di polizia locale quando si sarebbe in realtà potuto destinare almeno uno di questi magari a dei servizi da sostenere come la biblioteca o ad una delle deleghe scoperte ad esempio quella dell'ambiente come avevamo proposto l'anno scorso ma va bene consideriamo anche la sicurezza ma l'odi non è Gotham City e quindi la descrizione dei fenomeni predatori in aumento che è stata che è stata come dire che è stata fornita nel loop non corrisponde assolutamente alla realtà ma comunque se proprio dobbiamo parlare di fenomeni predatori andiamoci ad occupare di quello che davvero è un problema di sicurezza della città e mi spiace tornare sempre su quello che è un mio refrain non vorrei essere ripetitiva però è un ambiente che conosco e quindi alla fine ci torno e parlo delle scuole che dall'inizio dell'anno scolastico ma in realtà da sempre sono costantemente oggetto di furti e vengono costantemente svaliggiate e c'entra anche questo con l'emergenza coronavirus perché sappiamo bene voi lo sapete lo so io e non è magari non è stato reso pubblico perché anche per evitare come dire di rendere noti fenomeni che possono poi suscitare attrazione e magari indurre al furto però sappiamo che ci sono stati ulteriori furti anche molto gravi nelle scuole di Lodi dopo l'inizio dell'emergenza con il fatto che le scuole sono chiuse e lo sapete pure voi quindi se c'è una cosa che serve e che doveva essere una priorità che doveva essere inserita sono i sistemi di allarme perché non può essere che in una scuola sparisca completamente perché la scuola resta chiusa per un mese sparisca completamente la dotazione informatica magari nuova questo è il problema di sicurezza di fenomeni predatori non altro ci sarebbe molto altro da dire però torno appunto al discorso di partenza cioè che questo bilancio è sbagliato nei suoi ingredienti iniziali di fronte alla crisi epocale che stiamo attraversando un bilancio appunto non può partire dalla contraddizione di fondo tra i circenses e il sostegno agli ultimi io spero che ci sia davvero l'intenzione che voi che il sindaco insomma nell'illustrazione ha premesso dicendo che comunque poi si andrà ad aggiustare però appunto se le vostre intenzioni visto che è scripta manent se le vostre intenzioni sono reali allora di metterci mano sono reali allora vi chiedo di sottoscrivere quest'ordine del giorno che ho inviato prima tra l'altro con i firmatari incompleti perché mancano sicuramente milanesi scotti e probabilmente ce ne sono anche anche altri credo sia firmato da tutta l'opposizione che chiede appunto di spostare una parte delle risorse da quantificare ovviamente perché poi siete voi che amministrate quindi l'entità della cifra sta poi a voi stabilirla dall'intrattenimento al sociale e questo è il nostro primo ordine del giorno e poi c'è un'altra che è sottoscritta da tutta l'opposizione allora stiamo dedicando questa notte sul reale ad approvare un bilancio che è completamente discronico cioè fuori dal tempo voi stessi appunto dite che poi lo modificherete bene allora noi vi chiediamo questo nel farlo coinvolgete la città cercate di ascoltare i bisogni reali ascoltate cioè coinvolgete innanzitutto perché ci state sottoponendo un bilancio non attuale quindi nel momento come dire più importante della vita di un consiglio comunale che è quello in cui si delineano gli obiettivi stiamo approvando una cosa che poi non sarà quella reale quindi coinvolgete le commissioni vi chiediamo l'impegno scritto a farlo e in questo sta il senso dell'ordine del giorno ma non solo le commissioni anche le associazioni di categoria le realtà del terzo settore il volontariato le associazioni dimostratevi essere quella giunta dell'ascolto di cui avete fatto uno dei vostri slogan in campagna elettorale perché fino a questo momento onestamente abbiamo visto solo una giunta della sordità grazie grazie a lei lascio la parola al consigliere Caserini sì grazie consigliere Abadut sono rientrato grazie ok perfetto prego consigliere Caserini buonanotte buonasera a tutti cosa posso dire innanzitutto posso dire che mi trovo a dover intervenire qua alle alle 3 e 6 di notte sono già passate 8 ore e mezza da quando ho iniziato questo questo consiglio e quindi vorrei iniziare dicendo che questa cosa che stiamo vivendo non era obbligatoria si poteva fare altro e l'abbiamo chiesto di fare altro e invece avete scelto di andare incontro a un consiglio che si sapeva sarebbe stato più lungo di un consiglio normale anche per via dei tempi che avete visto abbiamo messo per gestire la fase online quindi si potevano benissimo fare due sedute ognuna da 5 ore anziché fare una seduta che mi sembra ci siano 6 ordini del giorno quindi non so se questa seduta finirà alle 5 o alle 6 del mattino io ho finito il mio intervento dopo poco dopo una mezzoletta me ne andrò non ce la faccio perché mi fa già male adesso la testa però ecco quello che voglio dire l'assessore ai rapporti con i consiglieri l'assessore Cerri che questa è una sua responsabilità che io voglio anche qui richiamare in modo formale perché è un altro segno di come lei ha ubbidito a dei diktat che le sono arrivati dalla giunta e non ha ascoltato le parole di buonsenso che sono arrivate dai consiglieri ecco questo è un esempio come non ascoltando si commettono degli errori perché io penso che ho visto un po' adesso ho fatto un giro a vedere le facce un po' di tutti i consiglieri cioè un essere umano non può stare 9 ore seduto essere concentrato si vive male si ragiona male e qui non so adesso come andrà avanti il confronto se decideremo di tagliarlo e non farlo però non fare un confronto sugli ordini del giorno in questo momento è grave io penso di votare a favore a quello proposto della maggioranza però mi dispiace non esserci a dirlo passo oltre sul bilancio cerco di essere non andare a dire cose già dette magari faccio notare una cosa di cui nessuno ha parlato come di fatto sul tema ambiente clima energia nonostante quello che è successo nel 2019 avete visto in piazza i nostri giovani anche di Lodi hanno fatto manifestazione avete avuto la piazza piena e quello che avete fatto l'incarico per l'energy manager fatemelo dire abbastanza pietosa cioè guardate quello che si fa nel mondo quello che si fa negli Stati Uniti dove c'è Trump guardate l'Europa l'European Green Deal 2050 missioni nette zero ecco quindi anche nel nel bilancio pre-covid eravate fuori dal mondo e questo io lo dico poi so che insomma il vice sindaco ha portato in consiglio comunale ha letto le tesi di un negazionista squinternato che racconta le peggio palle sul clima per cui so che ci sta che voi non ne freghi niente dell'energia del clima ma ecco la città interessa i vostri giovani interessa io faccio fatica a discutere questo bilancio perché avete parlato molto delle cose fatte in modo poco critico e a volte anche autoincensatorio in particolare l'assessore Sickel che vorrei ricordare un dialetto che dice c'è un modo di dire in dialetto che dice aspetta che te vanta il tuo vecino insomma cioè qui mi sembra che vedete da soli che siete bravi io vi chiedo di farvelo dire dalla città provate a organizzare dei momenti in cui vi confrontate con la città perché non è che mi sembra che ne fate tanti in sui singoli temi dall'urbanistica all'ambiente l'isola Carolina non la cito ecco mi sembra che la modalità non è stata molto quella del confronto è stato subito il confronto o si sono fatte rapporti personali cioè si è parlato personalmente con i cittadini non si è venuto in commissione neanche ma su questo parlerei quindi la città si stava già accorgendo di come stavate amministrando e quindi penso che oggi sentendovi ho pensato che questo virus è disgraziato anche perché vi permette di mascherare in parte quello che sarebbe stato il risultato del vostro lavoro il risultato insufficiente chiaramente in settore ad esempio come i servizi sociali questo disastro che impatterà molto sui servizi sociali vi permetterà di nascondere quello che è un'operazione che avete condotto male che si stava rivelando un'operazione fallimentare costosa quindi questo adesso questo rimescolamento delle carte di questo virus insomma è un peccato anche perché si avrebbe fatto senza il virus e si sarebbe visto molto bene in quest'anno quanto molto delle parole che dite anche quando fate questi interventi fiume sul bilancio alla fine sono cose che leggete ripetete ma insomma poi la sostanza è un'altra parlo ad esempio del tema sanzioni guida col cellulare multe lavaggio strade squadra antidegrado decoro spazi body cam sicurezza urbana ecco io ho messo in multe lavaggio strade non è stato detto l'ho detto io ecco perché perché io ho una richiesta pendente da metà novembre per sapere a chi sono state tolte le spese del lavaggio strade ecco adesso l'emergenza virus naturalmente non mi metto adesso a chiedere questa cosa non potrei neanche andare negli uffici a vedere è certo che io ho diritto a vedere quei documenti ho letto il vadevecum che ci è stato consegnato è sicuro è stato detto per la privacy ecco comunque da metà novembre a 20 febbraio non sono riuscito a esercitare il diritto che ho chiesto e richiesto con diverso accesso agli atti per sapere perché alcuni cittadini a parte il disastro di aver fatto pagare decine di migliaia di euro ai cittadini per molte chiaramente che non andavano riscosse perché erano dovuti errori dell'amministrazione della vostra incapacità di gestire e poi a qualcuno è stato tolto in modo differenziato non si può sapere chi e comunque appena finisce l'emergenza virus questa cosa andremo incontro sperando che non sia troppo tardi per qualche motivo legale ecco io su questo tema del del body cam sicurezza urbana la squadra antidegrado decoro ho sentito molte volte decoro quando avete parlato ecco vi invito a pensare che forse questo anno lasciamo da parte il decoro perché quest'anno la città andrà incontro a qualcosa in cui forse non dobbiamo pensare al decoro dobbiamo pensare alla solidarietà ringrazio il consigliere Piacentini che ha trovato quella frase che io ho trovato veramente incredibile non ho visto commenti da parte dei consiglieri di maggioranza mi sarei aspettato subito che si fossero con Whatsapp chieste informazioni subito per smentire perché se davvero c'è scritto e non ho motivo per pensare che il consigliere Piacentini si sbagli constatiamo che l'aumento della criminalità e dei fenomeni delinquenziali predatori è uno dei problemi che si devono affrontare allora qui ci sono due casi o non è vera allora chi l'ha scritta dovrebbe giustificarsi non so se l'assessore la sicurezza la sindaco oppure il dirigente ma non è che si scrivono le cose palesemente sbagliate e vale tutto se non è vera cioè se invece è vera allora vuol dire che voi certificate il vostro fallimento ossia la strategia dell'app di tutta la squadra antidegrado non serve perché se aumenta la criminalità allora vuol dire che state sbagliando tutto e allora che occuparsi della sicurezza percepita come mi ricordo avete detto anche vantando non funziona allora quindi fateci capire perché insomma se andate avanti sulla stessa strada scrivendo che la criminalità aumenta allora c'è qualcosa che mi sembra così che proprio non si riesce a capire ecco poi mi sembra che vivete nel mondo parallelo io ho sentito trasformazioni della città sempre più attrattiva per gli studenti abbiamo saputo approfittarne ma io la vivo la città francamente andando in giro la sera prima del virus naturalmente non ci siamo mica accorti dell'università che è qualcosa di separato non siete stati capaci di integrare in nessun modo l'università nella città non ne stiamo godendo dei benefici della città dell'università poi a volte viene il dubbio di vivere in una città parallela però ecco non solo io ho chiesto anche al mio gruppo non ecco visiere per stampanti in 3D ecco io qui vi chiedo veramente su queste cose però sono cose importanti e delicate vi chiedo di spiegare se è una cosa simbolica quante visiere per i sanitari si è stampate 10 100 1000 cioè è una cosa simbolica o è un numero che incide perché le cose simboliche sono comunque importanti però attenzione se parliamo di fare qualcosa per il covid ecco diciamolo dite i numeri perché è solo fatto di avere un progetto con delle visiere per sanità ecco non citiamo una relazione al bilancio su una cosa simbolica perché qui c'è bisogno di risposte serie io vorrei dire questa sulle mascherine ecco non voglio ha detto prima mi ha preceduto però qui ci sarebbe da dire qualcosa d'altro visto che parliamo del bilancio io l'ho fatta la richiesta per chiedere il 23 marzo non ho avuto neanche una risposta sul che avevo veramente chiesto ma non era una cosa polemica come avete visto chiedevo ma non si può fare in modo che l'azienda farmacie comunali che comunque ha un suo bilancio che la gente comunque anche gli altri farmaci li consuma sull'emergenza se deve vendere dei prodotti che servono per ridurre il contagio non ci faccia sopra un ricarico il fatto che non si è preso in considerazione è grave questa cosa vorrei dire una cosa rispetto appunto a quanto diceva la consiglia da Baggi diceva che rispetto a chi sta garantendo continuità bisogna mostrare rispetto e io cerco di mostrare rispetto a volte so che i miei toni a volte sembrano un po' come dire troppo acidi o troppo duri però penso che faccio con passione l'attività politica e a volte penso che sia giusto usare delle parole dure perché ecco a me sembra che il consigliere Baggi vede a me sembra che noi dobbiamo portare rispetto perché siamo tutti a questo confronto del consiglio comunale questo gioco ecco possiamo vederlo però il tavolo è truccato è truccato perché le regole non vengono rispettate faccio un esempio ho parlato prima dell'accesso agli atti sul tema delle molte lavaggiostrade che non ho avuto accesso quindi questo non ci sta lo stallo si è parlato lo stallo banca popolare comune l'accertamento del tribunale ecco io vorrei capire qualcosa per poter anche magari quando parleremo del bilancio consolidato capire ho presentato richieste di accesso agli atti per avere i pareri legali su questa vicenda non mi sono stati dati non ho avuto una risposta scritta sul perché non mi vengono dati i pareri legali allora cioè di cosa parliamo cioè io ci sto ecco rispetto rispetto è un rispetto quello personale lo do per scontato mettendo un rispetto politico ecco a me sembra che però dovete meritarvelo questo rispetto perché io mi sembra che di stare in una competizione in cui qui c'è un trucco dietro e questo non lo possiamo accettare vengo però a una parte costruttiva parto da quello che è stato detto che mi ha un po' stupito 500 euro per la protezione civile adesso ho avuto pensato di aver capito male poi ho chiesto ed è veramente 500 euro per la protezione civile anche i soldi per le riviste così ridotti veramente c'è da mettersi le mani nei capelli allora io presento un ordine del giorno che ho trasmesso oggi in l'ora di pranzo tutti i consigli capigruppo e quindi poi l'ho trasmesso anche via mail all'email che è stata detta che quindi non sto a leggere per intero perché l'avete già detto e quindi lo do un po' per letto ne ripeto il principio cardinal il principio è quello che noi abbiamo vissuto all'odi un'altra situazione che ci ha portato su tutti i giornali che si è conclusa in modo abbastanza chiaro ossia il comune ha perso un tribunale una sentenza chiarissima e dopo questa sentenza ci sono state tante altre sentenze che sono nate tutte nella stessa direzione hanno detto in modo molto chiaro che quei certificati in più non si possono chiedere non soltanto per l'ISE anche per le abitazioni l'ultima sconfitta di questo fronte discriminatorio quella di Sesto San Giovanni è la sconfitta più clamorosa perché sull'ISE ormai è chiaro che non ci sono giochi almeno lì si pensava che si potesse reggere voi pensavate di poter reggere quindi dal punto di vista dei tribunali ormai la partita e anche poi quello che è successo a livello del livello ministeriale parlamentare i giochi sono fatti quindi mentre penso quando avete presentato il ricorso qualche speranza potevate anche averla adesso dopo tutti questi pronunciamenti penso che sia abbastanza acclarato e i vostri stessi legali ve lo dicono se ve lo chiedete che adesso la situazione è veramente dura se prima potevo mettere in conto di perdere il ricorso adesso veramente sono pronto a scommettere quello che volete ma il quadro giuridico è consolidato assolutamente e quindi a questo punto io vi chiedo un atto di ragionevolezza che è quello di chiuderla qua per cercare di risparmiare dei soldi ora sappiamo che soldi poi per il comune di Lodi l'assessore Sicil magari potrebbe essere dire che lo 0,03% del bilancio ma è anche un segnale che diamo noi risparmiamo se interrompiamo qua al ricorso un appello un po' di soldi perché il vostro avvocato vi farà pagare un po' di meno perché non ha dovuto seguire tutto il dibattimento l'avvocato guariso se non pagherete quello che pagherete in un caso di sconfitta perché metterla fuori o magari penso di poterlo convincere magari a cavarsela a farvi lo sconto come segno di pervenire incontro io penso che potremmo portare a casa sicuramente 10-15 mila euro di risparmio rispetto ai soldi che sono già stati pagati e sono tanti in spese legali li ho segnati nell'ordine del giorno che avete visto ecco io quindi ho presentato un ordine del giorno in cui chiedo appunto come consigliere comunale di impegnare la giunta a ritirare questo ricorso in modo tale da avere dei risparmi di minori spese legali per finanziare l'acquisto di materiale per i volontari a protezione civile in commissione l'assessore Buzzi ha una specifica domanda che ho rivolto ha detto che insomma aveva non ricordo l'appellativo che aveva chiamato l'assessore Sickel ma non era molto gentile però di fatto era una lamentela per il fatto che non gli danno i soldi che avrebbe bisogno come protezione civile e penso che in questo momento la protezione civile sia un settore in cui non dobbiamo risparmiare adesso e nei prossimi mesi e quindi io propongo di destinare questi 10.000 euro se saranno 7 se saranno 15 o 20 chi lo sa dipendono poi le spese legali quali saranno a dare tutte la protezione civile se poi l'assessore dirà ma no guarda me ne bastano di meno abbiamo sicuramente in secondo ordine possibilità di destinare le interventi di solidarietà vi invito a vedere questa mia richiesta come una richiesta non non come dire polemica e per acquisire visibilità anzi in questo momento se volete potete prendere la palla al bazzo rispetto magari a una sconfitta fra un anno e mezzo poco prima della campagna elettorale futura uscirne oggi mentre si parla di coronavirus di tante altre cose vi permette di uscire nel modo per voi forse migliore quindi penso che se ci pensate anche nel vostro interesse chiuderla qua potrebbe essere la cosa giusta quindi presento quest'ordine del giorno se non mi fermerò chiederò appunto agli altri consiglieri di minoranza di sostenerlo eventualmente dopo nella fase di dichiarazione di voto vorrei finire con un ultimo discorso che è quello sul su quello che è successo in questi giorni che che io devo dire in questo momento non posso non dirlo e mi rivolgo alla signora sindaca perché ho già detto prima del del mio scontentezza per insomma essere qua le tre di notte e tutto ma la mia scontentezza l'amarezza di questi giorni deriva dal fatto che io penso che non posso accettare come consigliere quello che è successo vede signora sindaca nella commissione capigruppo lei ci ha raccontato e mi ha raccontato dopo una mia richiesta di otto giorni prima in cui chiedevo di sapere perché del costo delle mascherine ha detto appunto che ricarica le farmacie di 30 centesimi non di più se volete vi faccio il conteggio che banalmente mi ha fatto l'azienda le farmacie online non fanno un ricarico eccessivo cioè ricaricano di 30 centesimi poi eventualmente se vuole le mando via me il conteggio nessun problema io le ho chiesto il conteggio non me l'ha mandato ho dovuto aspettare l'altro ieri ecco questo io cioè io capisco che lei è impegnata ma anch'io non devo avere non devo perdere tempo per chiedere tre volte è l'inoltro di una mail questo cioè è una questione di rispetto verso i consiglieri poi qui si crea un problema gigantesco cioè o lei ci ha detto un ricarico di 30 centesimi e non ha capito quello che erano le carte perché lì non c'è un ricarico di 30 centesimi lì c'è un ricarico di 4 euro e mezzo cioè questa è una differenza fondamentale cioè la mia richiesta che in cui le chiedevo di non far pagare queste questo sovrapprezzo lei me l'ha menata via dicendo ma sì tanto danno 30 centesimi cioè la cosa più grave è se lei non ha capito mentre leggeva che lei ci stava raccontando una cosa che non era vera e questo si lega al secondo episodio che abbiamo detto all'inizio di questo consiglio quello della 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 relazione lei mi ha raccontato prima che ha parlato col dottor Sanciglio e e le ha confermato che esiste questa relazione io quando l'ho ascoltato non ci volevo credere lei quindi al dottor Sanciglio non ha detto me la faccia vedere io non ci posso credere io mi rifiuto di credere che la sindaca della mia città qua a 60 morti nella casa di riposo viene a conoscenza che c'è una relazione dettagliata in cui c'è la spiegazione tutta una serie di considerazioni che interessano i gruppi di minoranza lei non se la non dico di farsela dare per darle il consiglio di minoranza che lo ritengo doveroso ma lei non la vuole leggere signora sindaca io le dico veramente adesso le 3.25 di notte lei pensi veramente se non è il caso di dimettersi e lo chiedo guardi non cioè io penso che qualsiasi commissario prefettizio non potrà fare peggio di così non è possibile questa cosa in un momento del genere sapere che lei non chiede quella relazione e soprattutto io mi ricordo eravamo insieme a fare campagna elettorale tutti parlavano la casa di vetro la trasparenza è tutto e qui noi chiediamo una relazione su 60 morti nella casa di riposo e lei non ce la procura non fa di tutto per darcela dice il sindaco Maggi lei dov'è ma com'è possibile che lei che ha espresso il presidente di Santa Chiara quando viene a sapere di questa relazione non si fa in quattro per farcela avere ma si deve vergognare lei dice il sindaco non è possibile questa cosa non è accettabile in nessun modo stiamo parlando di morti di decine di morti vogliamo sapere perché lo vogliono sapere i familiari quella relazione deve essere sul sito di Santa Chiara al più presto per tutte quelle persone che hanno perso delle persone care non è possibile che ce l'abbiano soltanto in consigliere di amministrazione che noi abbiamo dovuto indicare queste votate proprio indicate dalla sindaca ho ricevuto una telefonata ad agosto per dire cosa proponeva consigliere di amministrazione e poi non posso sapere niente di quello che fanno i coscioli di amministrazione ma io veramente mi chiedo cosa ci faccio qua ma se lo chiede anche il mio gruppo il mio gruppo dice ma ha senso che tu stai lì se succedono queste cose in questo momento veramente al di là delle polemiche io adesso mi dispiace non dover ascoltare tutto il dibattito ma sono veramente troppo amareggiato ve lo dico non è una questione di mancanza di rispetto se chiedo le dimissioni della sindaca le assicuro che è proprio perché io credo nella funzione della sindaca la invito a pensarci signora sindaca non è un attacco personale questo è il consigliere alla sindaca non è Stefano alla sindaca Sara Casanova è un discorso di ruoli io come consigliere comunale non posso accettare che con quello che sta succedendo a Lodi una vicenda così importante noi come consiglieri facciamo la richiesta di accesso agli atti a fondazione Santa Chiara perché non veniamo aiutati da sindaco e vice ha mandato un messaggio al presidente di Cerri io se posso finire ho finito ancora un paio di minuti poi basta io voglio dire questo la chiedo veramente di pensarci di riflettere durante sabato durante la domenica di Pasqua non voglio la risposta oggi appunto ripeto io magari non mi fermo quando lei risponderà forse meglio ecco perché se no magari dormo ancora peggio e sono diversi giorni vi assicuro che come molti di voi forse non faccio delle belle non dormo bene ve lo dico ma non mi sento irresponsabile sappiamo ma tutto il modo non muoversi in questo clima globale di paranoia di paura che c'è in città ecco abbiamo bisogno una sindaca diversa glielo dico veramente di una sindaca che pensi meno al suo partito ecco questo fatto io vedo non la vedo come sindaca degli rodigiani la vedo come sindaca della Lega e va bene durante gli altri non va bene neanche durante il resto però lo posso accettare durante come dire un periodo normale non in questo periodo si sforzi di più di essere vicina a tutti i cittadini perché guardi che le persone che vengono a sapere che c'è questa relazione lo leggeranno domani sul cittadino e sugli altri giornali e dicono ma cos'è questa cosa ma perché non la possiamo subito sapere ecco aggiunge sconforto a sconforto io ovviamente sono sono indignato per il fatto che abbiamo il consigliere Casirati io poi ho risposto al consigliere Scotti abbiamo chiesto questa relazione e dopo tre giorni la ciberia io non ce l'ho come se fosse guarda la relazione della cosa delle multe oppure quella lì del parcheggio del pazzo Matteotti queste sono cose diverse ma vi rendete conto abbiamo 300 morti in città il livello di tensione che c'è nella gente il livello di paura di dolore che risposte diamo come consigliere questi discorsi qua in cui andiamo lì a parlare del concerto di Santa Chiara o dei piccioni che ho sentito stasera io veramente vi posso far vedere il whatsapp del mio gruppo che ha seguito il consiglio dice ma voi state vivendo in una bolla ma la città non vi chiede quelle cose lì io mi fermo qua ecco volevo esprimere questa amarezza che comunque penso che sia giusto esprimere perché non c'è bisogno di fare qualcosa di diverso lo chiedo anche per pensarci grazie grazie consigliere Caserini consigliere Zendarini buongiorno io vorrei limitarmi a ricordare i fatti degli ultimi giorni noi abbiamo fatto il 30 di marzo una commissione di capigruppo telematica ovviamente in questa commissione il sindaco Casanova ha detto che il bilancio ha serie incongruenze ci sarà bisogno di una manovra decisa di concerto in commissione durante abbiamo fatto qualche commissione poi il 6 di aprile c'è stata un'altra commissione la commissione bilancio che io ho presieduto in quell'occasione le stesse promesse le ha ripetute l'assessore Sickel le stesse promesse le ha ripetute il presidente della commissione welfare Giuseppe cosa mi aspetto a questo punto stasera Sickel dice abbiamo approvato la giunta ha approvato un bilancio il 6 marzo poi è successo il coronavirus è tutto da rivedere lavorando tutti insieme io mi aspetto a questo punto che le promesse di tre esponenti due esponenti della giunta e un presidente e Corbellini presidente della commissione welfare non siano vaghe promesse ma secondo me sono un impegno io mi aspetto che le correzioni che noi tutti sappiamo saranno necessarie per correggere questo bilancio non siano prese dalla giunta e poi portate in commissione bilancio a essere ratificate non è questo che ci aspettiamo io credo non è questo che si aspetta neppure la città se come sostiene Corbellini ancora meglio prima che in commissione bilancio debbano passare nelle commissioni tematiche è giustissimo ma devono passare nelle commissioni questo secondo me è un impegno che noi tutti ci siamo segnati è un impegno del quale esigerò che sia rispettato credo sia fondamentale l'esame di questo di questo bilancio a quest'ora del mattino mi interessa meno mi interessa di più la promessa che ci rendiamo tutti conto che il bilancio è superato non è più in linea con la realtà e deve essere adeguato adeguato con il concorso di tutti questo è un impegno che in particolare con l'assessore Sickel con la quale ho la fortuna di collaborare in commissione bilancio cercherò di esigere da chi l'ha promesso l'ora è tarda ma spero che nessuno lo dimentichi le promesse grazie grazie consigliere scotti consigliere gendarini ha chiesto la parola il consigliere scotti grazie grazie presidente buongiorno a tutti io spero che ci sia ancora presente il consigliere caserini ho sentito con con interesse come al solito il suo intervento prevedibile pesantissima in un momento in cui era sicuramente inatteso ma già il rodaggio di questi due anni e mezzo di giunta con due teste che è stata costruita imponendo di piacersi ha reso difficile l'ordinario e ha reso impossibile la gestione di questa vicenda allora noi l'hanno già detto molto bene i miei colleghi che mi hanno preceduto ci troviamo qui ad approvare un bilancio farlocco psicolabile un bilancio che non rappresenta la realtà della situazione un bilancio discronico ha detto la consigliera Tagliaferri bellissimo e ci troviamo con un calendario che ci porta alla notte del venerdì santo ormai siamo nel sabato santo dopo aver fatto lo hanno ricordato consiglieri prima di me tutte le commissioni all'inizio dal 30 di marzo al 6 di aprile dopo un periodo di silenzio assoluto da parte della giunta tutto il mese di febbraio la fine di febbraio e tutto il mese di marzo è stato silenzio c'era il torpore una sorta erano groggi il sindaco e giunta come quei pugili suonati sul ring che barcollano silenziosi nessuno nonostante le nostre proposte ha deciso di confrontarsi con noi fino a quando ad un certo momento diventa necessario impellente urgentissimo approvare il bilancio decisione probabilmente degli uffici perché si ha sempre di più la sensazione che qui questa giunta sia in ostaggio degli uffici che dettano i ritmi dettano i tempi dettano le procedure e quindi tutti noi siamo qui alle 3 e mezza del mattino a discutere un bilancio che non ha nulla a che vedere con la realtà perché è stato deciso la settimana scorsa che dovesse essere approvato oggi non entro nel merito delle poste di bilancio lo hanno già fatto benissimo i consiglieri di minoranza che mi hanno preceduto quello che volevo fare volevo dire stasera è una riflessione è quale modello di città appare da questo bilancio che cosa avete in mente come vedete l'odi che cosa avete pensato per la nostra città e io mi sono segnato le parole del sindaco i verbi sia del sindaco che della consigliera Gualteri allora e anche della consigliera Baggi faremo progetteremo proseguiremo avvieremo non appena sarà possibile investiremo è in programma impiegheremo le strutture e via discorrendo tutti i verbi al futuro faremo poi ci sta in un bilancio di previsione che si parli al futuro resta però da gettare uno sguardo sul passato e vedere che cosa è stato fatto ma soprattutto dopo due anni e mezzo cercare di capire come mai alcune questioni ci vengono riproposte per tutti i DUP che ci vengono sottoposti c'è solo qualche piccolo appunto il sottopasso di Venino dall'oro la piscina di Ferrabini l'incoronata l'isola Carolina sulla quale abbiamo dato il meglio di noi ma perfino il manto della pista di atletica cioè sono tre anni che si deve rifare il manto della pista di atletica la copertura in Eternit della Faustina in campagna elettorale mi ricordo diverse liste che facevano i selfie e i video rifare togliere l'Eternit dalla copertura della Faustina poi ho sentito dire che l'università la città è risultata attrattiva per gli studenti abbiamo saputo approfittarne le strade sono a pezzi i viadotti da riqualificare passano i mesi i semestri e i viadotti sono ancora da riqualificare via sforza è ristretta nella sua carreggiata forse da sei mesi forse di più vabbè adesso arriva l'esse lunga in città arriva l'esse lunga questa qui è l'occasione è quello che risolve tutto quella è veramente la prova perché è lì che si vede la capacità di un'amministrazione l'esse lunga stravolge il centro della città modifica l'urbanistica modifica la viabilità cambia le strade cambiano le destinazioni d'uso cambia l'assetto è un intervento importante e lì si vede che città abbiamo in mente e che cosa ce ne facciamo degli oneri di urbanizzazione qual è lo scopo incamerare dei soldi incamerare dei soldi per l'ordinario ecco qui si vede la capacità di divisione la capacità contrattuale che ha una città si vede la struttura che ci sta sotto poi è stato fatto un passaggio veloce sulle partecipate sogir non ancora chiusa ma ci siamo quasi la gis è ancora in liquidazione ma ci siamo quasi l'odinnova l'odinnova riceve un precetto dal banco e noi dopo non aver pagato rate noi come l'odinnova noi indirettamente perché siamo soci di maggioranza di quella di quella società ne avevo già parlato in altre occasioni ma qui voglio capire la visione adesso la strategia messa in atto è quella di chiedere a un terzo libero in questo caso il tribunale se scatta l'articolo 8 che forse qualcuno ricorderà dava la possibilità all'odinnova al comune di rientrare nel possesso del sedime con tutto quanto ci sta sopra sottraendo di fatto al banco che ha prestato i soldi che ha dato i denari quando gli sono stati chiesti gli tolgono dalle mani il bene che è andato a pignorare ma qui io non capisco ma i soldi ve li ha dati o no? l'odinnova ha preso i soldi dal banco adesso per quale ragione si cerca di sottrarre il bene che il banco ha iscritto a tutela del proprio credito con un artificio di questo tipo? secondo voi è un'azione corretta questa? poi vabbè del consorzio servizi della persona ne è stato già ne è stato già detto abbondantemente sulle farmacie comunali la questione delle mascherine è disarmante è veramente mortificante questa è l'idea di città che abbiamo io l'ho già detto altre volte sempre in queste occasioni quando si approva il bilancio preventivo secondo me l'odi merita di più il problema vero è che quando la folla è chiamata a scegliere sceglie Barabba ho finito Presidente grazie grazie consigliere Scotti ha chiesto la parola a consigliere Ferri Leonora grazie Presidente allora data l'ora cerco di fare più rapidamente possibile qualche considerazione una è di metodo e l'altra è di merito credo che entrambe racchiedano il significato di questo periodo delle discussioni che abbiamo avuto nelle commissioni e soprattutto diano la misura di quello che ci aspetta dopo l'approvazione di questo bilancio ossia con la fase 2 che vedrà il nostro comune impegnato a portare risposta ai nostri cittadini partendo dalle considerazioni di metodo siamo chiamati oggi a valutare un bilancio preventivo 2020 che molti anche questa sera hanno definito pre-covid e con questa giustificazione hanno richiesto più volte di spostare l'approvazione al mese di maggio richiesta legittima io non lo metto in discussione ma anche mossa da intenti positivi quali dare risposte immediate rispetto all'emergenza che noi stiamo vivendo però dobbiamo anche comprendere due cose la prima che la limitazione di dodicesimi per il comune è una limitazione non estendibile per i prossimi mesi come è già stato detto ampiamente dai miei colleghi e dall'assessore la seconda è relativa a un concetto molto semplice ovvero le risorse umane non sono infinite quindi questo lo affermo per far comprendere se si fosse deciso di impegnare le risorse umane in una revisione del bilancio preventivo 2020 non potremmo oggi concentrarci assiduamente sulla chiusura del consuntivo 2019 che ci aiuta a liberare un notevole quantitativo di risorse utile da destinarsi alla successiva variazione questo lo dico perché nel bilancio consuntivo che verranno liberate la maggior parte delle risorse da impiegare su 2020 per fronteggiare l'emergenza che abbiamo vissuto e come ben detto più volte da SICEL in prima istanza per coprire le migliori entrate che avremo nel corso dell'anno quindi su questa fotografia che ci siamo trovati e che ci siamo trovati di fronte a una scelta da compiere ovvero avere due fori e una sola pallina per coprirne uno di essi abbiamo quindi deciso di concentrarsi sul 2019 sul consuntivo che è come detto il bilancio che una volta approvato libererà la maggior parte delle risorse da applicare successivamente permettetemi una consecchiatura politica lo stolto guarda il dito mentre il stagio guarda la luna questo lo dico alle opposizioni visto che in tutte le commissioni hanno richiesto un qualcosa che però avrebbe impedito di dare risposte concrete ai cittadini l'iter è molto semplice approviamo il preventivo 2020 per uscire dall'esercizio provvisorio intanto abbiamo risorse per lavorare sul consuntivo 2019 una volta pronto approveremo e con le risorse a disposizione anche la variazione di bilancio per il 2020 la seconda considerazione è quella di merito e vi elenco un dato che parla dei tempi medi di pagamento ora non sto leggerli tutti perché l'ora è tarda riporto solo quello del 2016 dove l'indicatore annuale era 108 183 giorni invece quello annuale del 2019 meno 41 giorni come detto prima l'assessore questo dato non ve lo racconto solo per evidenziare il buon lavoro anzi direi ottimo eseguito dall'assessore dagli uffici che ringrazio non ve lo racconto perché questo è frutto del costante controllo che stiamo mettendo in atto sul bilancio del comune ve lo racconto perché questo indicatore di bontà amministrativa ci ha permesso una riduzione del fondo credito sub esigibilità consentendoci di accantonare il 90% anziché il 95 questa condizione ci ha permesso un risparmio di più di 200.000 euro sulla parte corrente i numeri raccontano una situazione di quadratura corrente complicata determinata da due fattori il primo definire un contenimento di spesa su una situazione che oramai è ridotta all'osso e il secondo determinare delle azioni concrete per far fronte all'aumento del fondo crediti dubbia esigibilità che sarebbe cresciuto dal 2019 ad oggi di una cifra pari a più di 700.000 euro sapete il perché di questo aumento perché gli uffici hanno lavorato bene e l'assurda condizione che stiamo vivendo è determinata a seguito di entrate straordinarie per 1.500.000 euro dovute all'accertamento i mutari eccetera e di conseguenza aumentato anche per via del crescente accantonamento imposto al 95% siamo quindi riusciti a contenere la situazione descritta solo grazie ai tempi di pagamento e allo sforzo di controllo che ogni giorno operiamo sul bilancio lo squilibrio quindi è stato contenuto condividendo una serie di scelte che non potranno piacere all'opposizione ma che sono frutto di vincoli normativi con cui dobbiamo convivere quindi è facile parlare senza conoscere è facile fare opposizione dando per scontato tutto non è semplice amministrare e fare scelte magari infelice che sono scelte sapremo aggiustare nelle successive fasi ma non potrete mai dirci che non lavoriamo e che non siamo attenti ai bisogni dell'ente e quindi su queste difficoltà che ancora una volta però abbiamo costruito un bilancio che sa parlare a tutte le istanze che si rivolgono al comune mantenendo gli impedi presi in campagna elettorale io non sono assolutamente d'accordo con quanto ho detto prima dei consiglieri di opposizione perché non vado a rivangare le solite questioni siamo a metà mandato il metà mandato l'abbiamo superato però io sono convinta che la riga si terrà alla fine e non adesso che permetterà di mantenere in equilibrio il nostro ente infatti proseguiremo con i lavori con gli interventi che sono presenti nel piano trenale delle opere pubbliche con le manutenzioni che da sempre la sinistra ha trascurato con i progetti che ci caratterizzeranno quindi io ringrazio davvero l'assessore Sickel tutta la giunta che ogni giorno riceve attacchi politici e anche permettetemi poco eleganti da parte delle opposizioni e in silenzio porta avanti il lavoro con umiltà di chi sa compiere le scelte giuste io questa sera ho sentito ho ascoltato attentamente i colleghi e rapidamente vorrei dare fare qualche puntualizzazione partendo dal consigliere Furegato e anche il consigliere Pozzoli che rispetto a quello che sono i tagli al sociale onestamente non so forse sfugge anche quanto il governo ha tagliato e si parla di 500 mila euro sulla regione Lombardia per il fondo famiglia 2020 e al governo ci siete voi consigliere Casiraghi forse non si è accorta che il consigliere Volteri ha presentato un ordine del giorno a nome della maggioranza e quindi probabilmente lei che non sta capendo cosa succede e non noi noi ci siamo ben resi conto l'abbiamo più volte ripetuto della situazione di emergenza da covid che stiamo attraversando ma altrettanto vero mi sono state spiegate tutte le motivazioni per quale siamo qui stasera ad approvare questi bilanci quindi la stupidità citando il suo termine riferito ai suoi colleghi consiglieri e ai membri della giunta mi dispiace ma è un termine che non trovo corretto e nemmeno rispettoso riferito al vice sindaco che va a farsi le foto contestualizzi cioè non è che prenda una parola e ci faccia 10 minuti di discorso consigliere Casiragli la sua arroganza credo che veramente anche adesso l'ha dimostrato comunque io onestamente se è tutto un bilancio di quello che è il comune di Lodi lei deve andare a rivangare i selfie le foto gli aperitivi i caffè quant'altro vuol dire che forse nel merito della questione ha ben poco da dire per quanto riguarda le mascherine già sono stati ambi discorsi fatti già sono state date risposte io quello che ricordo rispetto anche a quanto proposto dal consigliere Casiragli che tramite l'ordine del giorno che ad esempio Regione Lombardia le ha fatte arrivare ai cittadini discutibili o meno la qualità in che maniera a parte quello la Regione Lombardia ha fatto arrivare le mascherine a tutti i cittadini di Lombardi a differenza di esempio del governo Conte ricordo peraltro che lo Stato articolo 32 della Costituzione deve garantire la salute quindi di fatto anche il governo avrebbe potuto attivarsi per fare in modo che le mascherine arrivassero a tutti i cittadini per quanto riguarda invece la consigliera Tagliaferri i buoni spesa trattati come carta straccia anche qui la correggo nel senso che questa è una sua opinione e la carta straccia è come probabilmente l'ha inteso lei quello che è stato detto dal sindaco e da altri sindaci della Lega è che il governo scaricava sui comuni quindi sui sindaci la gestione non è che è carta straccia e c'è una bella differenza probabilmente le sfugge per quanto riguarda la sicurezza mettetevi d'accordo perché onestamente ho sentito dire che ci si scandalizza perché il DUP contiene sciocchezze perché l'Odi è la città sicura e quindi sembra di vivere nel Bronx però dall'altra parte mi sento dire dalla consigliera Tagliaferri che ci vuole la sicurezza nelle scuole perché ci sono i malviventi quindi trovate un accordo cioè l'Odi è sicura o non è sicura per quanto riguarda le scuole peraltro ricordo che da quando siamo arrivati 1.300.000 euro sono già stati sono già diciamo lavori che sono già stati attuati per i nostri istituti scolastici più tutti quelli che mancano che verranno fatti nei prossimi tempi e tutti sono adevoamenti anche incendio tutto a livello di sicurezza quindi perdonatemi mi perdono i consiglieri Tagliaferri però mi chiedo anche qui andiamo a parlare delle scuole e dire che ci vuole più sicurezza perché mi sembra che la nostra giunta di sicurezza ne abbia messa a voglia quanta rispetto a tutto quello che probabilmente voi avete dimenticato negli arco degli anni l'ultimo l'ultima precisazione al consigliere Scotti una giunta ostaggia degli uffici onestamente io penso che allora anzitutto colgo l'occasione per ringraziare di nuovo gli uffici per l'immenso lavoro che stanno facendo e trovo che sia offensivo anche per loro sentirsi dire un'affermazione del genere la giunta lavora come lavorano gli uffici e nessuno è ostaggio di nessuno penso di avere finito eventualmente poi dopo mi riservo di replicare grazie 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 consigliere De Gano sì grazie presidente io volevo presentare l'ordine del giorno quello indicato come numero due ok allora vi spiego un attimo la questione il 14 marzo io ho inviato alla PEC del comune di Lodi e alla PEC della prefettura una comunicazione con cui ponevo la questione assolutamente non in modo polemico semplicemente facevo presente che c'era anche questa questione qua delle persone senza fissa dimora che di notte vanno a dormire nei vari dormitori ma di giorno siccome i dormitori hanno degli orari notturni appunto dalle 9 di mattina dalle 8 di mattina in poi si vedono costretti a vagare per la città non avendo appunto un punto in cui andare è chiaro che così facendo con questo comportamento che va contro alle restrizioni che man mano nelle settimane sono state emanate sempre più restrittive tra l'altro si creava una situazione molto pericolosa sia per la loro salute ma per la salute anche della cittadinanza il 14 a quella mail il 17 mi ha scritto il prefetto al comune di Lodi mettendomi per conoscenza dove chiedeva al comune appunto quale determine aveva aveva fatto per far pronte a questa problematica ecco volevo segnalare il fatto che io di quella mail che avevo mandato il 14 marzo io non ho mai ricevuto nessuna risposta sono andato anche oggi a controllare la PEC sinceramente ripeto questo rientra in quello che vi dicevo prima di quanta fatica facciamo noi consiglieri per cercare di dare una mano e io questa mail che avevo mandato non era assolutamente polemica era solo di presentazione della questione non ho mai ricevuto riscontro è passato un mese e non ho ancora ricevuto riscontro ho posto la domanda nella commissione welfare all'assessora Sobacchi e mi ha detto che il problema era stato risolto perché erano stati aperti altri due dormitori che potevano aprire che potevano due dei quali quindi quattro in tutto due dei quali aprivano anche di giorno quindi la problematica sembrava risolta in realtà poi indagando informandomi ho scoperto che sì non è un grosso segreto ho scoperto che sì è vero hanno aperto due nuovi dormitori però quelli che hanno aperto anche 24 ore su 24 diciamo sono quelli in gestione della Caritas quelli invece comunali continuano ad avere orari esclusivamente notturni quindi a fronte del fatto delle mancate risposte del mancato confronto su questo ecco mi sono sentito in dovere di preparare insieme e viene sottoscritto da anche altri colleghi di opposizione questo ordine del giorno dove si impegna la giunta a valutare di reperire le risorse necessarie affinché venga trovata una soluzione che consenta a tutte le persone senza fissa dimora di poter vivere in sicurezza anche durante il giorno quindi come vedete non ho voluto fare polemica non ho voluto fare un ordine del giorno credo che vada nella direzione di quello che prima ha detto sì che nessuno deve rimanere indietro ecco questi che io considero sono già ultimi di loro ecco cerchiamo di salvaguardare almeno la loro salute grazie grazie consigliere Degano ha chiesto la parola al consigliere Milanesi sì grazie presidente io noto un po' di non so se saranno le 3.59 del mattino sarà lo scoramento dei miei colleghi di minoranza che insomma ci sentiamo continuamente apostrofati in qualche maniera però io non ci sto intanto volevo fare una premessa che mi sembra doverosa finora solo la consigliera Ferri che è intervenuta un paio di appunto di interventi fa ha ringraziato gli uffici perché non deve passare il messaggio assolutamente che da parte dell'opposizione si sia fatta una contestazione per quanto riguarda l'approvazione di questo bilancio una contestazione agli uffici gli uffici fanno il loro lavoro lo fanno bene quest'anno c'è stato come dire questo questi impedimenti che sono dovuti c'è la situazione straordinaria che stiamo vivendo ma gli impedimenti che si sono purtroppo presentati non devono diventare una scusa da utilizzare negli interventi come per esempio ha fatto l'assessore Sickel perché stiamo vivendo un momento straordinario e questo siamo d'accordo a tutti è un momento comunque di difficoltà per tutti noi per le nostre famiglie e soprattutto per le famiglie che hanno avuto delle perdite il nostro compito è di fare tutto quello che è in nostro possesso dobbiamo fare il massimo che siamo capaci di fare io questa sera non voglio entrare nuovamente perché davvero sono le 4 del mattino e chi mi ha già preceduto in particolare il collega Foregato ha fatto una disamina del DUP e del bilancio davvero di qualità e di livello questa sera mi aspettavo una cosa dal mio sindaco perché è anche il mio sindaco il nostro sindaco mi aspettavo che nel parlarci del DUP che comunque è il documento unico di programmazione che dura per tre anni o comunque tutti gli anni viene aggiornato ma ha un respiro di almeno tre anni mi aspettavo che in qualche modo ci dasse una prospettiva di ampio respiro che ci tranquillizzasse anche rispetto alla situazione che stiamo vivendo e che in qualche modo riuscisse a guidarci a guidare la nostra città adesso con una battuta in alcuni in alcuni passaggi dell'esposizione del sindaco mancava solo la frase come se fosse Antani e poi insomma diciamo che la super e non vado avanti altrimenti il presidente poi mi toglie la parola e la super era completa insomma e io chiedo perché ho sentito parlare di scelte politiche di progetti ho sentito il compito il compitino che ha fatto la collega Baggi con un elenco di cose che erano contenute in questo bilancio ho sentito il sindaco parlare tante volte anche al passato quasi come se fossimo in una fase di approvazione di un rendiconto di un bilancio consuntivo ho sentito la collega Gualteri in modo molto appassionato che cercava in qualche modo anche di trovare del buono dentro questo bilancio ma io mi chiedo quali sono le scelte anzi vi chiedo quali sono le scelte politiche e i progetti che intendete portare avanti mi ricordo che il primo anno eravate insediati da qualche mese e durante il bilancio preventivo ci avete detto insomma questo non è un bilancio nostro nel senso c'è stato il commissario sapete cosa è successo quindi sai noi arriviamo un po' in corsa e non è un nostro bilancio poi è successo che l'anno successivo finalmente quest'anno ci abbiamo potuto mettere un po' più mano però insomma non siamo ancora tanto come dire non siamo ancora rodati per bene la politica dei piccoli passi che il collega Segalini ci ha più volte richiamato mi spiace non sia qua stasera ma immagino che visto il lavoro che fa e la pesantezza che ha subito in quest'ultimo mese insomma si è ampiamente giustificato anzi approfitto per salutarlo perché un po' mi mancano gli scambi di vedute durante il consiglio insieme a lui ecco e quindi questa politica dei piccoli passi bisogna intendersi che passi sono se sono passi in avanti o se sono passi indietro perché indipendentemente dal bilancio pre-covid post-covid chiamatelo un po' come preferite questa sera noi stiamo guardando un bilancio che taglia 400 mettendo insieme un po' tutto taglia 400 mila euro al sociale ora in questo bilancio e in questo periodo soprattutto il sociale penso che sarà il cuore dell'azione politica di qualsiasi amministrazione d'Italia o lombarda che dir si voglia comunque della nostra amministrazione dovrà essere il cuore l'altro cuore sono i profondi cambiamenti che la città dal punto di vista urbanistico e viabilistico avrà la Rex ABB la Rex Cetem S.Lunga che questa sera abbiamo avuto la certificazione che arriverà io ho visto il primo master plan che ci è stato trasmesso poi sappiamo che la super commissione ci sta ci sta lavorando ma mi chiedo se l'avete visto bene quel master plan avete visto bene che cosa c'è dentro che bomba stiamo mettendo nel cuore della città di Lodi e che studio sono stati fatti sia dal punto di vista dell'impatto economico sia dal punto di vista Presidente Presidente ordine cioè scusate non c'è un consigliere di maggioranza con la telecamera accesa la Ferdi ha appena lasciato la radio io non l'ho mai spenta no non si vede io ce l'ho accesa Simone io ce l'ho accesa ho dovuto cambiare il cellulare perché mi si era scaricato il cellulare ma mi vedi? io ce l'ho accesa mi vedi? è comparsa adesso aveva lasciato la riunione no io ho cambiato il cellulare non c'è più traccia Vitali non si vede più traccia provate a farvi la conta e vedete se avete il numero di là Ani è qua in comune sta correndo verso la sala capiglietta Ani è in comune Ani hanno abbandonato Scoppi e Carverini ok grazie Carverini è presente ok ok posso continuare prego prego signor Rianesi quindi dicevo con l'essere lunga io mi chiedo se veramente anche i colleghi della consigliere della maggioranza hanno guardato il master plan perché davvero in quel master plan sono stati fatti degli studi dal punto di vista viabilistico dal punto di vista economico che hanno un impatto fortissimo e che probabilmente non seguono la lettera quello che è contenuto nella legge regionale quindi io mi chiedo questa sera con che coraggio ci venite a rimproverare che non studiamo che non approfondiamo che non portiamo delle proposte quando voi stessi ci presentate un bilancio e cito testualmente psicolabile un bilancio dove ci sono la riduzione dei servizi l'avete scritto nella nota integrativa al bilancio dove fate dei tagli sociali e dove sempre a voi e cito testuali parole ci sono una serie di incongruenze quindi io davvero vi faccio questa domanda quindi le domande sono due quali sono le scelte politiche e progetti con che coraggio venite a proporci un bilancio pieno di incongruenze psicolabile questa sera anzi questa sera questa mattina alle 4.08 ormai del sabato santo e passo alla presentazione di due ordini del giorno che presenterò molto rapidamente presidente allora il primo ordine del giorno aspetti che recupero il file allora il primo ordine del giorno siccome penso fermamente che l'opera della protezione civile in generale ma anche qua nella città di Lodi abbia bisogno di quantomeno un nuovo impulso ma un nuovo impulso con 500 euro a bilancio vedo molto difficile che possa essere dato quindi questo mio ordine del giorno lo subordino visto che arriverà dopo come votazione rispetto all'ordine del giorno già presentato dal collega Caserini quindi se il suo ordine del giorno verrà approvato io ritiro il mio e non lo votiamo se l'ordine del giorno del collega Caserini perché sappiamo bene che parte la premessa che insomma un caso spinoso che ci ha portato sulla bocca di tutto il mondo per qualche motivo non lo voleste votare assolutamente assolutamente va bene quindi chiedo sostanzialmente in questo leggo solo il dispositivo in questo ordine del giorno chiedo di prevedere per la prossima io l'ho chiamata maxi variazione giusto per intenderci su quello che faremo da qua a molto breve quindi nella prevedere con la prossima maxi variazione di bilancio adeguate somme a disposizione della protezione civile almeno raddoppiandolo almeno raddoppiando la disponibilità di Euro 2000 stanziate fino all'anno 2019 quindi questo è il primo poi dopo vi mando il testo che così ce l'avete davanti l'altro ordine del giorno nasce da quello che avevo già chiesto in giunta e che avevo già chiesto a mezzo stampa qualche settimana fa noi sappiamo bene che in questa situazione appunto che ci troviamo a dover gestire come amministratori e come cittadini a dover vivere tanti di noi fanno parte di associazioni o di organizzazioni siano associazioni del volontariato associazioni o organizzazioni culturali o nel campo del no profit o addirittura nel campo delle attività sportive quindi io oltre al fatto che sicuramente può essere utile lo slittamento dei pagamenti di quelle che sono alcuni affitti di mobili o strutture comunali che il comune di questa amministrazione ha già messo in campo parte di essi erano anche già previsti dal DL Cura Italia io chiedo questa sera con questo impegno di valutare di prevedere l'azzeramento degli affitti durante i mesi di inattività per tutti gli immobili e strutture di proprietà comunali che sono in concessione alle realtà che fanno vivere la nostra città sopra c'è riferimento alle associazioni che ho citato prima e valutare nell'ultimo quadrimestre del 2020 misure di abbattimento dei costi che vadano a favore dell'associazione e organizzazione di vario genere quindi è un impegno concreto questo è il cosa possiamo fare noi a livello comunale per dare una mano al tessuto che mantiene viva la città che apporta un valore aggiunto quindi io propongo questo ordine del giorno avevo lanciato anche una una petizione una raccolta firme per sostenere questa richiesta e siamo siamo già oltre almeno ho guardato oggi pomeriggio siamo già oltre le 170 firme quindi 170 cittadini che chiedono comunque un aiuto concreto alle associazioni dove loro vivono e associazioni che contribuiscono appunto a rendere viva la nostra città adesso vi mando gli emendamenti e niente termino qua per ora il mio intervento grazie grazie consigliere milanesi ha chiesto la parola al consigliere Corbellini sì grazie signor presidente allora io stasera ho un intervento ma sostanzialmente sarò breve credo che credo che credo che ehm ma bisogna scaricare contenuti e oggettuali a fare una reazione a quello che è il provvedimento che stiamo approvando questa sera questa mattina oramai quello che mi permetta dire era semplicemente la conferma dell'impegno alla condivisione degli atti futuri come era stato poi anche dato dall'assessore per quanto riguarda la commissione che presiedo batti in commissione alle forze di opposizione e anche comunque in ampia condivisione con tutta l'amministrazione quindi tra maggioranza e opposizione credo che la cosa fondamentale in questo momento sia effettivamente guardare e lavorare per il per il domani soprattutto con quelle che saranno variazioni maxi allenamento mega provvedimento quello che andremo a discutere più avanti in futuro quando ci sarà diciamo così la possibilità di uscire dall'esercizio provvisorio con l'approvazione di stesse di oggi e di rimettere mano sostanzialmente al bilancio con correttezza e anche con più cognizione di causa da quello che sarà il continuus e il post coronavirus sempre ammesso e concesso che il post sia a breve pertanto volevo fare un attimo proprio la precisazione che ho fatto anche a seguito dell'intervento del presidente della commissione bilancio e rinvio ogni discussione di merito nei contenuti del provvedimento che si discute stasera a quando ci saranno le effettive variazioni senza ripercorrere quello che è stato fatto ma soprattutto cercando di capire quello che si andrà a scaricare a terra e a fare per l'interesse e nel bene della cittadinanza e della comunità leudigiana per il domani grazie signor presidente concluo grazie consigliere Corbellini e chiesto la parola al consigliere Pavese sì grazie presidente in questa seduta di consiglio siamo chiamati a discutere e approvare il bilancio preventivo presentato dall'amministrazione comunale questo documento è l'atto politico fondamentale perché definisce i parametri per governare il presente e traccia il percorso politico per realizzare il futuro della nostra città vorrei fare innanzitutto i miei complimenti all'assessore al bilancio al dirigente Gianni a tutto il personale della direzione organizzativa uno e a tutta la giunta comunale per la professionalità e l'abnegazione con cui ha cominciato questo percorso partiamo da un punto fermo e incontestabile il bilancio di previsione ha registrato il parere favorevole dei revisori dei conti che al di là di tutte le chiacchiere attestano la coerenza la congruità e l'attendibilità delle previsioni di bilancio però io non vorrei soffermarmi i tecnicismi non ho la presunzione di contestare il lavoro di esimi professionisti ai quali va il mio ringraziamento per la professionalità e la serietà con cui svolgono il loro lavoro ma vorrei entrare nel merito alle scelte politiche e posso dirmi soddisfatto delle scelte dell'amministrazione soprattutto perché coerenti con gli indirizzi del Consiglio Comunale nessuno all'inizio di questo percorso avrebbe potuto immaginare che la data del 21 febbraio avrebbe cambiato le nostre vite la nostra società e la nostra socialità in poche parole avrebbe cambiato il mondo intero questo maledetto virus ha fatto sì che il bilancio che discutiamo questa mattina necessiti di misure correttive perché è del tutto evidente che l'amministrazione dovrà continuare la strada già intrapresa di mettere in campo misure adeguate a quella che sarà la fase di ripresa ma anche misure di sostegno alle famiglie e alle attività produttive e alle associazioni siano esse culturali sportive o di ogni altro genere sono rimasto sinceramente allibito dalle polemiche che l'opposizione ha mosso in queste settimane prima di tutto per il contesto in cui stiamo vivendo e inoltre soprattutto perché è del tutto prive di fondamento hanno addirittura avanzato la pretesa che l'amministrazione ritirasse questo bilancio e ne producesse uno nuovo adattato alla situazione causata dal covid-19 ma chi di loro ha avuto incarichi nelle precedenti amministrazioni dovrebbe ben sapere che la preparazione di un bilancio richiede parecchi mesi di lavoro nonché la produzione di innumerevoli atti allegati ciò avrebbe portato sicuramente tempi di attesa maggiori e avrebbe costretto i lodigiani ad attendere per molto tempo le risposte adeguate a questa emergenza ben più semplici lineare è invece la via scelta dell'amministrazione di approvare celermente questo bilancio anche se precedente la pandemia tuttora in corso e predisporre poi un'adeguata variazione di bilancio che vada ad inserire e implementare le misure necessarie ad affrontare il presente e anche il futuro del coronavirus molte misure riguardanti l'istruzione le politiche giovanili le pari opportunità la cultura il turismo le attività produttive lo sport sono già state anticipate nella commissione sviluppo svoltasi in preparazione a questo consiglio comunale l'assessore Molinari si è soffermata in particolare sulle politiche di contrasto alla violenza sulle donne e sui progetti a favore dei minori vittime di violenza e di violenza assistita le iniziative messe in campo dal centro antiviolenza a causa dell'emergenza si sono molto ridotti i contatti al centro antiviolenza rispetto al periodo precedente l'emergenza si sta lavorando su un progetto che possa consentire alle donne vittime di violenza di poter usare una parola d'ordine da dire in farmacia in modo da segnalare in maniera creptata il proprio disagio e poter attivare misure previste per questi casi per l'istruzione nell'assistenza educativa ai minori disabili c'è un importante aumento degli importi stanziati a bilancio per andare incontro alle aumentate esigenze in collaborazione con la cooperativa che svolge il servizio l'assessore ha lavorato su un progetto di assistenza da svolgere da remoto data di impossibilità di interventi da svolgere a domicilio il progetto credo possa essere di grande supporto ai docenti oltre che di vero sostegno ai ragazzi più fragili che di fatto hanno le maggiori difficoltà a non sentirsi esclusi con la didattica a distanza oltre soprattutto a fare in modo che non si perda il lavoro che l'educatore ha svolto con il ragazzo o la ragazza e i progressi da questi ottenuti considerato il fermo delle attività scolastiche l'amministrazione ha deciso che per i servizi integrativi non goduti verranno effettuati rimborsi che però saranno possibili dopo una variazione nella quale si dovrà tenere conto anche delle decisioni in ordine alla durata della chiusura delle scuole da sottolineare anche la sanificazione dei locali di tutti gli immobili scolastici delle scuole di competenza del comune di Lodi per quanto riguarda le politiche giovanili il comune di Lodi con alcuni partner che hanno anche previsto un cofinanziamento ha formulato il progetto un palco in comune questo progetto a causa della chiusura delle scuole dovrà necessariamente slittare all'autunno perché è fondamentale la partecipazione delle scuole l'obiettivo di questo progetto è quello di coprogettare percorsi che rendano comunicabili le proposte e le istanze dei giovani ma anche la rappresentazione che i giovani stessi hanno della realtà locale dei luoghi che vivono delle scelte messe in campo e delle possibili proposte che li vedano partecipi e responsabili dei progetti decisionali delle amministrazioni locali per questo progetto il comune di Lodi ha messo in campo 18.800 euro pervenuti grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia altro appuntamento che a causa della pandemia in corso è stato rimandato all'autunno è il Job Day in forma giovani attraverso il progetto Digitalo ha sostenuto e promosso l'iniziativa Shield 19 di Iatta che ha avuto lo scopo di realizzare con la stampa in 3D visiere protettive ritengo sia positivo che il comune senza alcun costo possa partecipare a questo progetto che vuole in qualche modo aiutare ad andare incontro a chi sta affrontando questo momento di emergenza e di difficoltà queste visiere possono essere utilizzate non solo dal personale sanitario ma anche dai volontari delle associazioni e dalle cassiere dei supermercati personale tutto il quale non può che andare il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine per quanto concerne lo sport è stata già disposta la dilazione dei pagamenti per l'utilizzo delle palestre al 30 giugno fino a 5 rate legate al periodo di utilizzo e gli investimenti previsti nel bilancio c'è la messa a norma completa dello stadio d'Ossenina la sistemazione della palestra spezzaferri e la sistemazione della pista di atletica interventi fondamentali che la città attende da anni e che l'amministrazione sarà sicuramente in grado di effettuare le tariffe per l'utilizzo delle palestre non sono state variate rispetto allo scorso anno evidenziando l'attenzione che l'amministrazione mette alla pratica sportiva in merito al settore del turismo si sta cercando di implementare progressivamente il portale Visit Lodi che permetterà di entrare nel circuito regionale per veicolare le attività di Lodi inoltre sul progetto Lodi Sotterranea che è già tutto finanziato e che rappresenta un asse strategico quanto alle attività produttive è stato disposto lo spostamento del pagamento della Tosa al 30 di giugno per quanto riguarda la cultura come già affermato anche dal vice sindaco in commissione abbiamo dovuto interrompere due cicli di iniziative di notevole spessore e qualità per la città ovvero le iniziative riguardanti le celebrazioni relative ai 150 anni della nascita di Ada Negri e il ciclo di concerti l'arte dei suoni in Santa Chiara Nuova in collaborazione con l'Accademia Gerundia che hanno permesso alla città di partecipare a concerti variegati scoprendo questa splendida struttura restaurata dalla precedente amministrazione era in preparazione la rassegna di Lodi al Sole con la presentazione a marzo dell'avviso pubblico rivolto a raccogliere proposte e la scelta del programma ad aprile purtroppo la situazione di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo ha impedito di rispettare il calendario che ci eravamo prefissati gli ultimi due anni hanno visto la città partecipare numerosa alla rassegna e gli esercizi pubblici beneficiare di questa notevole affluenza quest'anno ad oggi non sappiamo da quando e se potranno essere svolti eventi pubblici nelle piazze e quindi finché non avremo questo elemento diventa impossibile ipotizzare il formato della rassegna ci tengo comunque a sottolineare l'importanza se possibile di offrire momenti di socializzazione culturale musicale di intrattenimento ai ludigiani dopo due mesi di reclusione forzata ma necessaria le tariffe delle sale conferenze sono state ridotte l'anno scorso per l'utilizzo ai fini commerciali e nonostante questo ma come avevamo previsto il gettito è aumentato dimostrando un maggior apprezzamento per la qualità di questi spazi quest'anno sono rimaste immutate tranne che la tariffa per l'utilizzo dello spazio espositivo dell'ex chiesa dell'angelo che passa da 200 a 300 euro ogni due settimane per la finalità non commerciale e da 400 a 600 euro per la finalità commerciale la motivazione è semplice se si utilizza per 4 ore la sala rivolta si pagano come minimo 240 euro per utilizzare uno spazio espositivo prestigioso a tempo pieno per 14 giorni come quello dell'ex chiesa dell'angelo non è logico che si paghi meno l'attuale stagione teatrale del teatro alle vigne era la migliore degli ultimi 30 anni come apprezzamento da parte del pubblico in termini di abbonamenti e perché la stagione di prosa stava registrando il tutto esaurito praticamente in quasi tutti gli spettacoli segno del grande lavoro svolto dal direttore Curtolo a cui non può andare che un ringraziamento per quanto fatto in tema di rilancio del teatro e dell'attività adesso connesse prosegue progressivamente poi anche la messa a norma della struttura teatro che ricordiamolo sempre abbiamo ereditato non a norma come tutti gli impianti sportivi tutti gli edifici scolastici e l'archivio si stanno quindi mettendo in campo tutti quegli interventi riguardanti i presidi antincendio richiesti dai vigi del fuoco a seguito di un sopralluogo avvenuto dopo la presentazione della scia sarà poi presentato un progetto su un bando regionale di cui si farà carico Giona al fine di consentire l'adeguamento anche degli impianti elettrici a questo progetto il comune comparteciperà per una quota pari a 30.000 euro che è stata stanziata a bilancio tra gli investimenti credo che in questi settori in due anni e mezzo della nostra amministrazione sia stato fatto davvero molto i programmi presenti e futuri sono di livello e siamo certi che compatibilmente con le restrizioni normative i risultati si potranno vedere grazie 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 ha chiesto la parola la consigliera armani grazie presidente vorrei iniziare il mio intervento ricordando i consiglieri comunali che fino all'approvazione del bilancio comunale annuale di previsione 2020 21 22 è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio nella commissione bilancio il dirigente dottor Gianni ha spiegato in modo dettagliato ma forse non tutti l'hanno compreso il motivo per cui non c'è stata la possibilità di riscrivere il bilancio la riscrittura avrebbe cambiato le prospettive delle entrate delle spese e inoltre ad oggi le direzioni stanno eseguendo il riaccertamento dei residui sarebbe difficile ipotizzare una variazione a invarianza di risorse con il bilancio approvato si torna ad essere pienamente operativi e si può accelerare il lavoro per l'approvazione del rendiconto verrà probabilmente scelta la strada di un maxi emendamento a zero spese da approvare entro maggio il mantenimento per altri due mesi fino a maggio richiesto dalla minoranza dell'esercizio provvisorio non permette al comune la possibilità di fare affronte a nuove spese le spese fino all'approvazione del bilancio non possono essere superiori a un dodicesimo dell'anno precedente la giunta comunale il 6 marzo ha approvato il bilancio con conseguente passaggio in consiglio comunale dal 21 febbraio con l'inizio e il perdurare dell'emergenza covid-19 il bilancio in analisi da approvare non contiene informazioni per l'emergenza ma anche alla luce dell'ordine del giorno presentato dalla consigliera Gualteri a nome di tutta la maggioranza impegna il sindaco e la giunta effettuare una verifica relativa agli effetti determinati dell'emergenza sanitaria sulle poste di bilancio dell'ent e ad adottare seppur nella necessità di garantire per maniera dei relativi equilibri ogni provvedimento che possa garantire il più ampio sostegno alle famiglie e alle attività produttive della città di Lodi dopo questa doverosa premessa vorrei sottolineare brevemente alcune peculiarità di questo bilancio prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne si tratta di un piano quadriennale dal 2020 al 2023 dove il comune di Lodi che è l'ente capofila insieme al centro orsa minori e alle case rifugio selezionate svolgono attività di prevenzione e sostegno informazioni nei confronti delle donne vittime di violenza il centro è aperto 15 ore settimanali con tre sportelli Casal Posterlengo Codogno e l'ospedale di Lodi la reperibilità telefonica è 24 ore su 24 nel 2019 sono state prese in carico circa 200 donne per favorire la fuoriuscita dalla violenza purtroppo nel periodo di emergenza i contatti si sono ridotti vorrei ricordare anche il progetto ora che so scelgo progettare la parità che ha un contributo regionale di 27 mila euro con capofila sempre orsa minore più l'istituto comprensivo 1 o 4 più l'istituto piazza che prevede dei corsi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per il contrasto degli stereotipi di genere e prevenire la violenza nella coppia adolescenziale per l'istruzione ed assistenza educativa ricordo il progetto Io lavoro da casa un progetto per continuare a distanza anche le attività di laboratorio con skype e tutorial alle famiglie destinato alla scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado per i più piccoli si effettuano delle videochiamate con whatsapp di un'ora e mezza alla settimana in merito agli investimenti verrà messa a norma la dosenina gli spogliatoi della scuola spezzaferri la pista di atletica con la progettazione e sistemazione sia del manto della pista e la sostituzione di parte delle attrezzature la manutenzione straordinaria delle scuole per cui le progettazioni sono già state fatte ad esempio l'adeguamente antincendio alla Don Milano e all'Alcobar scuole le sistemazioni per risolvere i problemi di infiltrazione da ricordare anche l'archivio storico che è nel suo organico anche una persona del servizio civile c'è il progetto preliminare e una parte dei documenti è già stata trasferita il resto verrà trasferito al termine dell'emergenza la destinazione sarà l'ex edificio mi piace anche ricordare i concerti l'arte dei suoni presso la chiesa di Santa Chiara Nuova che è veramente splendida va vista il primo e il terzo sabato del mese in collaborazione con Accademia Girundia infine visto che è un argomento che ogni volta che parliamo di bilancio voglio ricordare perché mi piace molto è i tempi di pagamento so che ne ha già parlato la consigliera Ferri però lo ridico è una cosa positiva secondo me nell'esercizio 2019 l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legge 66 del 2014 è stato pari a meno 0,41 giorni di cui nel quarto trimestre meno 6,37 giorni infine voglio anche io ringraziare tutti i dirigenti e gli uffici che hanno lavorato in modo impeccabili per mesi per ridigere questo bilancio che stiamo per approvare anche se precedente all'emergenza grazie per l'attenzione sì, grazie mi pare aveva chiesto di intervenire in replica l'assessore Sobatti non la sentiamo non la sentiamo assessore non la sentiamo non la sentiamo non la sentiamo assessore non la sentiamo tanto che prova assessore lascio la parola eventualmente al sindaco intanto perché non non riusciamo a sentirla eh signor sindaco prego per la replica non mi sento non mi sento non mi sento no no è come ma un messaggio eh l'assessore Sobatti non riusciamo a sentirla se vuole passare alla replica lei signor sindaco si fa in tutta che vuole la spazia sì eh magari l'assessore Sobatti è meglio che esca e si ri reinserisca magari per l'audio nel frattempo intervengo io ma semplicemente per fare qualche puntualizzazione sulle dichiarazioni di alcuni consiglieri io mi dispiace che non ci sia il consigliere Caserini ho sentito che vuole le mie dimensioni che non rappresentano rappresento soltanto il sindaco della Lega non è vero perché nel momento in cui ho assunto il ruolo da sindaco sono il sindaco di tutti è vero sono espressione comunque di un movimento politico che si chiama Lega però ho sempre svolto il mio ruolo penso nella maniera più corretta e con tutto l'impegno che dal momento in cui mi sono insediata ci ho messo veramente l'anima poi possono piacere o non possono piacere ovviamente come in tutte le cose poi saranno gli elettori a fine mandato a decidere sull'operato mio e della mia squadra di giunta e ovviamente di tutta la maggioranza detto ciò scelte politiche che vogliamo portare avanti che non si sono sentite da parte del consigliere milanesi ma io credo che le scelte politiche siano chiare nel nostro mandato amministrativo intanto mettere mano in particolar modo sul patrimonio esistente ci siamo occupati con in particolar modo sulle manutenzioni manutenzioni sulle scuole manutenzioni sugli edifici di proprietà pubblica abbiamo pesantemente agito anche sul comparto delle strade sulla viabilità sui rifacimenti dei manti stradali piuttosto che di una parte nei marciapiedi è ovvio che se mi dite avete fatto poco Lodi non è una città piccolissima io credo che più di 3 milioni di euro investiti nel nostro metà mandato credo che sia una cifra importante sostenuta da questa amministrazione poi mi sono sentita anche dire che ho detto menzogne piuttosto che ho fatto lo scaricabarile io non sono abituata né a mentire né a fare lo scaricabarile con nessuno questo che sia ben chiaro e sinceramente queste eh critiche e soprattutto queste pesanti accuse le rimando direttamente ai mittenti anche perché mi dispiace ripeto che non ci sia il consigliere Caserini però che mi venga girato un whatsapp la sera alle 10 di sera per il tramite del presidente cerri e si eh voglia avere una risposta immediata scusate ma non funziona proprio nella metodologia degli accessi agli atti ripeto la mattina dopo come avevo oggi avuto modo di spiegare ho chiamato il presidente Sancilio mi ha spiegato che questa relazione era stata richiesta da parte del dei membri del CDA della fondazione Santa Chiara e questa relazione è stata elaborata e messa a disposizione dei consiglieri ad uso interno se i consiglieri vogliono un accesso agli atti ci sono le metodologie per farlo detto ciò poi sulla parte magari del sociale visto che l'assessore Sobacchio voleva intervenire lascio lascia lei per quanto riguarda gli ordini del giorno allora partirei innanzitutto con una disamina a nome di tutta l'amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle quello dove impegna il Consiglio Comunale a valutare le istituzioni di un fondo economico finalizzato a supportare l'acquisto di farmaci e di dispositivi di protezione individuale già dalla giornata di giovedì abbiamo iniziato cioè di ieri abbiamo iniziato con la distribuzione delle mascherine donate da Regione Lombardia e dalla donazione soprattutto del distretto dell'Oginan sono 37.000 mascherine che stiamo distribuendo porta a porta a tutta la città oggi ho avuto modo di interloquire anche con la Settore Foroni e Regione Lombardia disporrà di ulteriori farmacie da mettere a disposizione della cittadinanza quindi primo ordine del giorno bocciato secondo ordine del giorno valutare e di reperire risorse necessarie affinché venga trovata una soluzione che consenta a tutte le persone senza dimora senza chissà dimora di poter vivere in sicurezza anche durante il giorno anche qua il consigliere Vigano ha detto che non ha mai risposto è vero non ho mai risposto alla mail che ha inviato ma gli ho dato risposta comunque quando ho avuto l'opportunità di farlo in commissione se non mi vado errato e poi abbiamo comunque avuto modo di collaborare anche con la carica del progetto insieme andando a individuare la soluzione alternativa di un ulteriore dormitorio con l'edificio messo a disposizione dalla chiesa evangelica in zona martinezza per quanto riguarda la possibilità anche durante il giorno ci sta lavorando l'assessore Sobacchi con i servizi sociali per trovare una soluzione in tal senso quindi anche su questo ci stiamo lavorando per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno valutare l'istituzione di un fondo con dotazione economica consona accompagnato da una convenzione con gli hotel cittadini finalizzati a mettere a disposizione i cittadini sottoposti a misure di isolamento degli ambienti consoni a prezzo agevolato grazie al contributo a valere sul fondo anche su questo sono più di due settimane che mi sto informando su diverse realtà che hanno già fatto convenzionamenti anziché andare e procedere d'imperio con il sequestro sostanzialmente delle strutture alberghiere da parte delle prefetture come previsto dal dal dpcm sto già lavorando su perché ho già ricevuto la disponibilità di una struttura alberghiera e nella giornata del 9 ho mandato una lettera al prefetto al presidente di regione alla protezione civile regionale sia al settore che al dirigente ad ATS e a SST per presentare un progetto in tal senso e sono in ho messo a disposizione ovviamente allegando anche la disponibilità di questo albergo che potrebbe entrare e la convenzione ovviamente ci sto lavorando con con gli enti perché ho chiesto un incontro anche in videoconferenza per poter entrare fino allo specifico del progetto e la presentazione proprio del progetto e anche qua i fondi da quello che ho avuto modo di riscontrare dovrebbero in parte essere comunque anticipati da un intergestore e poi tornati dalla protezione civile almeno queste sono le informazioni che ho avuto io al netto di ciò ho trovato anche eventualmente delle partnership per eventualmente andare a a trovare un punto di ristoro eventualmente di compensazione di fondi quindi anche questo inizia poi quarto punto all'ordine del giorno rivedere radicalmente nella successiva variazione di biancio e nel rispetto delle norme in materia di contabilità degli enti la spesa prevista per gli eventi di intrattenimento sostando le somme sulla spesa per i bisogni sociali anche qua nel momento in cui come abbiamo già avuto modo di dire sia io che l'assessore SICEL e anche diversi interventi dei consiglieri stiamo già lavorando su un accertamento di entrate di spese per poi fare una variazione sempre mantenendo in equilibrio il bilancio ovviamente detto ciò potrebbe anche al netto della ripartenza o meno e quindi della possibilità o meno di poter fare una programmazione di eventi che possano dare anche respiro alle attività economiche e anche alla cittadinanza perché questo è molto importante dopo sono 45 giorni più o meno che rimaniamo a casa e questo insomma lo valuterei post approvazione e post riaccertamento e valutazione poi di manovra correttiva per il covid quindi anche questo bocciato punto 5 predisporre una variazione di bilancio che tenga conto della situazione emergenziale post emergenziale di cui al cui interno ci siano le misure a sostegno di famiglie e imprese anche qui l'ordine del giorno che abbiamo presentato come maggioranza nasce dalla risposta all'interrogazione del consigliere milanesi che ho predisposto e ho inviato se non erro ieri o l'altro giorno e quindi l'ordine del giorno predisposto dalla maggioranza sostanzialmente va in quella direzione che richiede il punto 5 togliendo poi tutto il percorso di definizione delle commissioni consigliari che però ovviamente ci sarà un passaggio in pre pre consiglio come ho già avuto modo di dire in commissione capigruppo quindi anche questo bocciato ovviamente a favore dell'ordine dell'ordine del giorno predisposto dalla maggioranza il settimo ordine del giorno quello credo sia il settimo quello che parla di protezione civile Presidente mi correga se sbaglio il settimo invece propongo di votare a favore perché la protezione civile al netto che avevamo già iniziato una riorganizzazione con un bando per ampliare comunque il nostro organico di protezione civile credo credo che sia un importante aspetto della nostra amministrazione cioè della nostra macchina comunale i volontari sono veramente una risorsa e soprattutto sul nostro territorio al netto al netto di tutto è un valore aggiunto che ha il comune di luoghi e per tanto la possibilità di prevedere una proposta di variazione in più per la protezione civile trova il nostro accoglimento qual è il settimo perché noi non ce li abbiamo numerati come cioè non ce li abbiamo numerati se ci dà un riferimento è quello inviato dal consigliere milanesi non so se è il settimo o l'ottavo vabbè tanto noi i numeri non ce li abbiamo quindi allora il mio è l'ottavo il settimo è quello del collega Caserini almeno prima lo vedevo nel foglio della segretaria che abbiamo ordinato deve essere l'ottavo se ci date un riferimento perché noi non ci dica lei presidente da casa noi non ce li abbiamo numerati quindi il comune si riferisce le messe credo mai quando poi li portiamo alla votazione leggo diciamo chi l'ha presentato e il dispositivo finale in modo tale che siamo tutti più sicuri però anche capire qual è che bocciate qual è che promuovete sarebbe utile scusate posso interrompere un attimo il sindaco l'ordine del giorno di milanesi posto che il sindaco ha detto che lo che lo prendiamo lo accettiamo voglio solo fare una precisazione che l'anno 2019 c'erano stanziati 2000 e ne sono stati impegnati 900 quindi lo accettiamo con un distanziamento di 2000 euro ma infatti assessore sicel e presidente io mi riferisco all'ordine del giorno questo inviato dal consigliere milanesi sì però se noi raddoppiamo la cifra del 2019 nel 2019 è la possibilità di prevedere con la prossima maxi variazione di bilancio adeguate somme a disposizione della protezione civile almeno raddoppiando la disponibilità di 2000 stanziata fino al stanziati stanziamo 2000 euro quest'anno mi permetta allora se nel 2019 erano messi a previsione 2000 euro la mia proposta è torniamo a 2000 euro e raddoppiamolo per quest'anno ma ripeto ripeto erano stanziati 2000 ne sono stati impegnati 900 se noi raddoppiamolo l'impegno del 2000 del 2000 diventano diventano 2000 anzi diventano più se noi raddoppiamo l'impegnato non lo stanziato è 2000 euro quella è la precisione che ho capito ma io non chiedo di raddoppiare l'impegnato chiedo di raddoppiare lo stanziato e poi non sono stati spesi e ho capito ma se sono non sono stati spesi ma la protezione civile si comprano le scarpe antinfortunistiche loro si comprano il materiale loro hanno fatto il patentino per il taglio della legna con la sega elettrica se non sono pagati loro 2018 2019 c'era previsto zero impegnato zero quindi quindi facciamo terminare un risultato non riusciremo a doppiare lui sembra comunque una cifra signor sindaco prego termini il parere sugli ordini del giorno e l'ultimo punto è quello di valutare di prevedere l'azzeramento degli affitti durante i mesi di inattività per tutti gli immobili e strutture di proprietà comunale date in concessione alle realtà che fanno vivere la nostra città e valutare nell'ultimo quattrimestre del 2020 misure di abbattimento dei costi che vada a favore delle associazioni e organizzazioni di vario genere anche qua non possiamo accogliere questo ordine del giorno poiché al netto dell'emergenza di quanto ho detto poc'anzi ovvero il riequilibrio delle entrate e delle uscite ed eventuali azioni che andremo a fare dopo l'approvazione del bilancio gli affitti non possiamo azzerarli completamente perché sono indipendenti comunque un contratto d'affitto quindi credo che dal punto di vista tecnico legale procedurale non si possa fare questa cosa qua ed è per questo che voteremo contro scusi signor sindaco non ho sentito sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Caserini relativo per il ritiro del ricorso in appello eccetera lei ce l'ha questo sì no però comunque il ricorso non lo togliamo posso accogliere un ordine del giorno dove mi chiede di ritirare un appello che va bene non ce l'ho cominci grazie allora se se siete d'accordo prima dovremmo votare gli ordini del giorno a questo punto posso posso far la replica io prego l'assessore sobacchi prego visto che i sociali sono stati tirati tirati in ballo tantissimo assessore sobacchi credo abbia acceso anche il cellulare o un altro dispositivo provato col cellulare ragione ma non riesco spegniamo lo butti via aspetta scusate allora visto che i sociali sono stati tirati in ballo sia per i tagli poi esunti che avete detto che sono stati fatti al bilancio volevo un attimino precisare anche se adesso nell'emergenza coronavirus sarà rivisto anche tutto i veri calcoli del passaggio dal consorzio all'asp perché con il consorzio oltre a pagare la quota di 3 euro d'abitante pare a un complessivo di 135.675 sosteneva anche altri costi gestionali la quota delle cartelle tutela minori per un complessivo di 153.600 euro la quota della cartella penale minorire pare a euro 600 per un complessivo di 26.400 se si sommano le tre voci per i soli costi gestionali il comune di Lodi pagava 316.657 euro pertanto solo limitandosi ai costi gestionali la differenza tra consorzio e asp è di euro meno 132.657 euro a favore della gestione asp non solo al comune di Lodi verranno direttamente erogati i contributi della misura 6 regionale per gli interventi a favore dei minori vittime di violenza e di violenza assistita che tale importo è di 216.250 euro tutte queste voci vanno in parte a compensare i maggiori costi derivanti dei servizi ma nonostante questo il risparmio per il comune dovrebbe essere pari all'8% quindi di 257.259 euro comunque nonostante questo io dico che le verifiche dei costi dell'ASP vanno fatti più avanti perché adesso è solo due mesi che siamo tre mesi diciamo che siamo con ASP un'altra cosa le borse lavoro non sono state azzerate le borse lavoro vengono erogate mediante trasferimento dell'ufficio di piano che poi le attiva dopo un lungo e complesso ITER che tende a mettere in contatto le aziende con i beneficiari quello che del comune è una compartecipazione lo stanziamento del 2020 è stato azzerato perché i trasferimenti effettuati negli scorsi anni a favore dell'ufficio di piano presentano ancora dei residui che ci hanno permesso di valutare la prosecuzione di quelle già in essere e l'attivazione di quelle nuove ad esempio abbiamo attivato quest'anno in concorso col CPA la scuola di lingua italiana per le donne estoniere e abbiamo attivato delle borse lavoro per il babysitteraggio dei loro bambini in modo che queste persone potevano andare a scuola e avere i bambini con delle babysitter a scuola di italiano il fondo anticrisi è stato azzerato in questo momento per le valutazioni del reddito di cittadinanza ma se è necessario lo ripristiniamo come l'anno scorso poi i contributi economici non sono stati tagliati perché come per il fondo si vuole verificare l'impatto del reddito di cittadinanza anche qui e da rimarcare che l'andamento di questo fondo rispecchia l'esigente che i servizi sociali rivelano nel corso dell'anno pertanto le risorse necessarie sono quelle che effettivamente devono essere erogate in corso d'anno nel 2019 ad esempio lo stanziamento iniziale pari a euro 229.600 è stato ridotto a fine anno a euro 201.000 e tutte le richieste pervenute sono state accolte i servizi educativi è stato ridotto questa è stata è stata una mia decisione non tanto per ridurre i servizi educativi estivi ma perché nel mese di giugno erano veramente pochi i bambini e io sono andata anche alla colonia Caccialanza e pensavo per il mese di giugno di pensare ad un progetto diverso dando dei voucher per partecipare a dei centri ricreativi estivi di cui mi sono pervenuti alcuni progetti che mi sembravano più più attivi e più belli per loro proprio non tanto per tagliare delle risorse poi dopo quando veniva andava a regime la colonia Caccialanza con tutti i bambini presenti la cosa diventava era diversa per lo 100 anziani lo stanziamento del 100 anziani è stato ridotto perché nel 2019 erano stanziati 10.000 euro ma alla fine non si sono mai rilevate esigenze particolari se ci fossero delle esigenze anche qui sarebbero distanziati l'assistenza domiciliare erano stati spesi 200 a fine 2019 282.000 euro esattamente lo stesso importo che è stato stanziato quest'anno e non ci sono state soddisfatte tutte le richieste pervenute e non c'è stata nessuna lista d'attesa quindi non sono stati dei tagli sono stati delle riflessioni sul bilancio congue a quello che abbiamo speso l'anno prima con l'evidenza di ripristinare qualora ci fosse bisogno un'altra cosa sui buoni spesa sui buoni spesa sono sono pervenute al comune di Lodi 1238 richieste e queste richieste sono pervenute sia telefono che per sms e il fatto di avere così tante richieste è dovuto anche per la facilità con cui gli utenti hanno potuto mettersi in contatto con i servizi sociali e ad oggi sono stati già contattate quasi la metà delle richieste alcune poi si è visto che erano doppie perché avevano mandato più volte la richiesta un terzo di queste richieste non hanno diritto i buoni saranno erogati già dalla settimana prossima quindi abbiamo fatto più tempestivamente che potevamo io volevo anche dire un'altra cosa che in questo momento i servizi sociali stanno lavorando tantissimo stanno lavorando 17 persone per erogare questi buoni per contattare le famiglie ed erogare questi buoni il centro anziani sta lavorando tantissimo per supportare tutti gli anziani e intanto anche il servizio ordinario dei servizi sociali va avanti lo stesso quindi il sociale secondo me sta lavorando sta lavorando molto io ho finito grazie 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 assessore mi pare volevo una breve replica l'assessore sì che se ho era per fare l'intervento eventualmente della Sobacchi ma la Sobacchi ha detto tutto quindi quindi passiamo quindi alla contro alla contro replica se ci sono interventi diciamo dichiarazione di voto pure giusto contro replica siamo siamo alla contro replica e poi dobbiamo votare gli ordini del giorno esatto scusì presidente ho fatto io la contro replica annunciando anche l'intenzione della maggioranza sugli ordini del giorno sì però dopo c'è la contro replica da parte dei consiglieri e poi ci sono le dichiarazioni di voto e poi ci sono la votazione sui giorni del giorno quindi poi noi con la contro replica chiudiamo la discussione generale sul dupe e sul bilancio e poi passiamo alle votazioni ha chiesto la parola il consigliere fu regato grazie presidente vediamo di andare un po' mi sentite sì diciamo così però è veramente ora tarda faccio 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 supplica anche da parte di tutti allora cerco di condensare il più possibile allora prima di tutto volevo segnalare che mi sono dimenticato prima che forse è una cosa importante che mi sembra che ci sia un errore nella delibera delle tariffe dei servizi a domani individuale nel trasporto scolastico magari se volete domani vi mando una mail perché è invertita la tariffa dell'andata ritorno per i fuori città 250 200 quindi che non vorrei che poi facciamo c'è la deliberazione che avete fatto in giunta che secondo me sbagliate rispettavano prima allora devo dire che per quanto riguarda quello che ha detto il sindaco non mi è piaciuto molto l'atteggiamento con cui sono stati trattati le varie proposte i vari ordini del giorno cioè passandone uno dopo l'altro bocciato 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 quando diversi ordini del giorno adesso non voglio stare a riprendere i testi poi tanto dopo ci saranno le varie dichiarazioni di voto però voglio dire chiedevano di valutare delle proposte eccetera e è molto comodo votarvi il vostro ordine del giorno che vi impegna a fare una cosa che dovreste fare già di vostro mentre il nostro ordine del giorno sulla variazione di bilancio vi impegna a vi impegnerebbe a fare un passaggio nelle commissioni con delle aduizioni delle associazioni di categoria del terzo settore eccetera di conseguenza mi sembra ci sia una bella differenza e quindi cioè per votarvi un ordine del giorno di quel tipo lì potevate anche non presentarlo secondo me però fate quello che volete ovviamente per quanto riguarda il sociale io devo ricostruire un attimo i numeri perché con l'assessore Sovacchi allora prima di tutto i contributi economici c'è stato detto chiaramente in commissione che c'era un elemento dovuto al rito di cittadinanza che comunque noi non condividiamo perché secondo noi il rito di cittadinanza non deve produrre risparmi per i servizi sociali devono essere fondi che devono essere reinvestiti in servizi sociali o per altri servizi o per mantenere il livello dei servizi e comunque sono dei risparmi che devono essere dimostrati inoltre c'è stato detto che quello lì è stato un taglio e c'è stato detto in commissione quindi adesso per far quadrare il bilancio questo c'è stato detto che servivano i soldi per far quadrare il bilancio sono state tolte delle decine milaia di euro uno l'azzeramento delle borse del fondo lavoro vale la stessa cosa detta per i redditi di cittadinanza cioè non bisogna far mancare le risorse ma i servizi sociali cioè non è che togliamo le risorse perché tanto poi in corso d'anno le troviamo ci sono i residui quei soldi rimangono lì è la prima volta in dal 2012 a oggi che vengono tagliati dei fondi sulle borse lavoro sul fondo anticrisi siete voi che avete cominciato il nuovo modo di finanziamento dall'anno scorso dove decidete di riparire i fondi in corso d'anno per noi è una prospettiva che non condividiamo perché secondo noi ma questo assessore Subaki l'abbiamo già parlato l'anno scorso quei fondi ci devono essere dall'inizio dell'anno perché nel bilancio preventivo si stabiliscono le priorità secondo noi la priorità deve essere essere sicuri che le persone le fasce in difficoltà ci siano lì i fondi necessari poi i fondi vanno sui concerti sul resto questo è il modo con cui noi riteniamo di portare avanti la nostra posizione politica poi ognuno c'è la sua per carità di Dio però questo è per quanto riguarda invece in particolare il consorzio il consorzio allora in sostanza lei prima di tutto un dato lei in commissione welfare ha detto che il risparmio delle cartelle era 245 mila euro e adesso viene fuori che 180 e va bene e dopo dice c'è il risparmio della quota di fondi di solidarietà la quota di fondi di solidarietà dei 3 euro famosi serviva prima di tutto in una funzione di solidarietà territoriale che oggi viene meno quindi noi penalizziamo i piccoli comuni oggi togliendo quella parte lì di fondi di solidarietà per di più andava a cambiare delle tariffe quindi lei fa un conto e le dice il risparmio dovrebbe essere dell'8% quindi di circa 250 mila euro nel frattempo devo attaccare il compito di circa 250 mila euro l'8% stiamo a concludere con il segliere si adesso scusi concludo sul punto e la chiudo allora 250 mila euro le dice che il risparmio allora noi abbiamo i 316 mila euro che risparmiamo 180 mila meno 180 mila euro che escono secondo me è un po' tardi ma penso che faccia 130 sarebbe il risparmio che abbiamo a bilancio secco per di più io le chiedo e lei lo sa benissimo nei servizi e domande individuali c'è scritto qual è la quota di costo a carico del comune per il servizio di urni dei disabili quel servizio lì prima noi col consorzio pagavamo la tariffa media che era 12.300 euro adesso con la media delle tariffe con l'ASP di Codogno è 13.900 euro a bilancio avete messo la stessa cifra dell'anno scorso quando il costo mediamente è aumentato di 1.500 euro a persona che accede e questo poi in mente quindi l'avete fatto anche sulle altre partite dove le tariffe sono cambiate rispetto alla ricostruzione che avete fatto anche nella delibera di dicembre quindi è comodo contare i risparmi quando non mettete tutti i costi grazie grazie consigliere Fulegato ho chiesto la parola al consigliere Catiraghi grazie presidente allora guardi come prima cosa direi che più che fare una supplica a noi di essere veloci dovrebbe fare ammenda lei presidente perché l'avevamo detto noi che sarebbe finita così che sarebbe stato l'ennesimo bilancio discusso alle 5 di mattina al terzo anno di bilancio preventivo dovrebbe aver imparato che ormai le cose vanno così per di più avevamo pure le esperienze delle commissioni che duravano molto di più le commissioni via Skype rispetto a quelle di persona per cui non faccia un appello a noi si faccia ammenda lei e adesso anche chiedere a mettere fretta il consigliere fu regato che ha diritto di parlare e gli taglia addirittura i tempi perché ci avete fretta e la gente giustamente a sonno vuole andare a dormire è proprio un comportamento ingiusto da lei che dovrebbe garantire l'imparzialità e garantire i nostri diritti delle minoranze comunque venendo al dunque per quanto riguarda l'emendamento dell'ordine del giorno scusate del fondo per i farmaci guardi sindaca penso che questo dimostri proprio palesemente la sua incapacità di essere amministratrice di tutti e dimostra quanto invece sia una donna di partito perché lei ha iniziato esordendo dicendo abbiamo distribuito le mascherine di regione Lombardia allora innanzitutto come lei ben saprà le mascherine di regione Lombardia sono un modello similare alla mascherina chirurgica e non sono quindi mascherine che ad esempio le FP2 che la gente si compra se ha un paziente affetto di coronavirus in casa o deve portare ad esempio assistenza agli anziani così quindi il grado di protezione più elevato lei in questo modo lo lascia tutto a carico del cittadino per di più come sa sono pure mascherine usegetta quindi quella cosa lì se uno la tratta con tutti i crismi con tutte le precauzioni otto ore e poi la deve buttare quindi quello che è stato dato dura un giorno considerando che poi sono due per famiglia se uno ad esempio ha un nucleo familiare di tre persone ecco capisce lei che insomma sono insufficienti inoltre lei ha parlato solamente delle mascherine il nostro ordine del giorno chiedeva un impegno per finanziare in generale le spese per farmaci perché la gente non prende solamente le mascherine le farmacie come lei saprà visto che si legge i bilanci delle farmacie comunali tutti gli anni fatturano milioni di euro anche quando non c'era bisogno delle mascherine quindi vuol dire che il bisogno delle persone non è circoscritto alla mascherina ci sono una serie di farmaci e adesso che le persone hanno avuto un decremento del loro reddito era lì che era importante essere presenti e aiutare le famiglie quindi ci spiace che lo boccerà però appunto questo dimostra palesemente A che non ha capito la situazione B che deve sempre deporre la bandierina del partito e dire abbiannato le mascherine di regione Lombardia poi per quanto riguarda l'emendamento dell'ordine del giorno dei senza tetto ha risposto a me in commissione non adegano perché c'era stato l'avvicendamento e lei mi rispose che vi stavate attivando per l'apertura di un altro dormitorio serale e che io le ho ribadito che il punto della questione non era solamente che non ci fossero abbastanza alloggi per la sera ma che queste persone non avevano un posto dove stare durante il giorno in un contesto in cui le norme nazionali obbligano le persone a stare a casa ma se uno non ha una residenza dove stare automaticamente noi li mettiamo nell'illegalità e non è solamente un problema legale circoscritto alle persone che agli ospiti dei dormitori è un problema generale è un problema che riguarda tutti perché riguarda la loro salute e la salute anche di tutti i lodigiani perché se poi queste persone qua sono positive escono e stanno in giro e quindi magari vanno a contatto con altre persone diventano un pericolo per tutto ma anche qua si vede il grado di riflessione approfondimento che è stato fatto tra l'altro poi faccio presente che quando lei mi ha detto questa mi ha dato questa risposta qua erano 15 giorni fa quindi in 15 giorni alla fine non è stato attivato il servizio giornaliero cioè ci stiamo lavorando e voi per tenere aperto un posto dove tenere dove dare una dimora a queste persone durante il giorno in 15 giorni non l'avete fatto poi per quanto riguarda l'hotel nessuno ha parlato di sequestro questa è una cosa che lei ha parlato di andare a sequestrare gli hotel nessuno ha parlato di sequestrare tanto è vero che si parlava di predisporre un fondo il che voleva dire dare lavoro ad albergatori che adesso hanno chiuso la loro attività quindi gli si permetteva di riaprire e di riavere un reddito quindi si alimentava anche l'economia locale quindi non c'entra niente il sequestro e poi ha confermato anche lei sono due settimane lei fa che mi sto informando cioè in due settimane ancora questa cosa non è stata fatta e la boccia con la cosa di dire sono due settimane che ci sto lavorando vabbè poi in merito all'ordine del giorno presentato dalla maggioranza noi voteremo a favore perché insomma leggendo quell'emendamento lì insomma scusi quell'ordine del giorno viene chiesta una cosa molto insomma condivisibile cui non possiamo essere contro viene chiesto alla giunta di fare la giunta viene chiesto alla giunta di fare la giunta di guardare come sono cambiate le entrate come variano le uscite e in base a quello di sistemare il bilancio cercando di soddisfare i bisogni dei lodigiani cioè vi stanno chiedendo la sua maggioranza la maggioranza che la sostiene in consiglio le sta chiedendo di iniziare a lavorare e quindi anche noi le chiederemo di iniziare a lavorare e voteremo a favore ah ultima cosa in chiusura il reddito di cittadinanza tanto alla fine attaccato devoperato a misura assistenzialista e tutto voi lo avete preso e avete risparmiato 200 e passa 1000 euro sui servizi sociali dicendo tanto ormai sono coperti dei fondi del governo quindi da una parte tanto sembra da attaccare e criticare ma poi appena c'è la possibilità di tenersi due soldi in saccoccia non è che avete potenziato i servizi sociali no vi siete tenuti i soldi e andate a scrocco le spese dello Stato bravissimi grazie consigliere Casiraghi chiesto la parola al consigliere Milanese adesso si ah ok avevo il microfono un po' in basso prego sì volevo fare qualche puntualizzazione perché ho sentito parlare ad esempio il consigliere Pavese ci ha detto che noi pretendevamo un bilancio che corrispondesse alla situazione in cui ci troviamo certo pretendevamo un bilancio e lo pretendiamo tuttora ma come lo pretendete anche voi della maggioranza quindi poi che il termine pretendere non gli piace non piace nemmeno anche a me ma rende bene l'idea credo ha usato un termine che calza pennello pretendevamo noi pretendiamo un bilancio che possa corrispondere alle esigenze che i nostri cittadini hanno in questa situazione e lo ripeto noi siamo chiamati a fare tutto quello che è il nostro possesso nelle nostre capacità nelle nostre facoltà economiche mentali eh di risorse di qualsiasi genere ci possano venire in mente per venire fuori da questa situazione quindi lo pretendevamo sì pretendevamo e questa è una prima puntualizzazione poi dal sindaco ho sentito molti mi sto informando stiamo lavorando stiamo facendo dei condizionali dei work in progress io spero che poi questi work in progress a un certo punto abbiano una concretizzazione che non ci debba essere sempre un intervento esterno che possa essere il governo centrale che ci manda dei soldi piuttosto che i consiglieri di minoranza che si attivano come è successo per Santa Chiara perché altrimenti continuava la mi viene da dire carneficina forse anche un termine forte ma che rende bene credo proprio la realtà di quello che è accaduto e continua a cadere dentro alla nostra casa di riposo non ho sentito nessun nessuna puntualizzazione rispetto a quello che il progetto è se lungo è vero che non è la sede però anche un richiamo rispetto a alcune sollecitazioni che sono state fatte ad esempio sugli studi dal punto di vista economico viabilistico e urbanistico che sono stati fatti un accenno dall'assessore all'urbanistica o meglio dal sindaco che è la delega all'urbanistica stasera stamattina ce lo potevamo aspettare visto che ci ha di fatto ufficializzato che a se lunga arriverà l'Odi per quanto riguarda le farmacie io ho sentito l'assessore che scusate l'assessore il sindaco che facendo un richiamo nel DUP mi ero dimenticato di dirlo prima parlava di le farmacie stanno andando molto bene ora io ho chiesto i dati delle farmacie mi sono stati dati in un primo momento i dati fino al 31 di novembre poi ho chiesto i dati dal dal mese di dicembre a gennaio questo l'ho chiesto a fine febbraio circa una telefonata molto cortese del presidente Ceriani mi ha detto guarda siamo un po' in difficoltà con questa situazione la contabilità glieli manderò quindi visto che il sindaco ci dice che le farmacie comunali stanno andando bene cosa che io auspico e mi auguro con tutto il cuore le chiedo di sollecitare casomai quando ha tempo manderò una mail nei prossimi giorni dopo Pasqua per appunto avere questi dati capire effettivamente le farmacie comunali si stanno andando bene o meno a maggior ragione che le farmacie comunali si stanno andando bene io penso che sia un loro compito preciso non ricaricare quelle grosse somme sulle mascherine che indipendentemente da l'ordinanza del presidente Fontana di regione Lombardia che ci obbliga a mettere le mascherine dipendentemente da quello perché sono state vendute prima di quell'ordinanza stiamo parlando di un bene di primissima necessità in una situazione di pandemia e io il mio sindaco mi aspetto che alzi il telefono e prenda per le orecchie anzi addirittura chiede le dimissioni del presidente della controllata del comune che a sua volta controlla le farmacie comunali che ha permesso un ricarico del genere su un bene di prima necessità e se l'idea non l'ha avuta lui vado a vedere chi ha avuto l'idea all'interno delle farmacie comunali e alzo il telefono e o tiro per le orecchie ma probabilmente anche lì c'è la possibilità di un sindaco che davvero tiene perché queste non sono piccole cose un sindaco se davvero ci tiene alza il telefono e dice come mai è successa questa cosa di chi è la responsabilità perché poi il risvolto politico la responsabilità politica ce l'ha lei signor sindaco ma la responsabilità poi diciamo amministrativa nel senso stretto del termine ce l'ha il presidente Ceriani in Astem e probabilmente ce l'ha qualcun altro nelle farmacie comunali ho terminato grazie mi pare che non ci siano più interventi quindi passiamo agli ordini del giorno allora all'ordine del giorno numero uno presentato dal movimento 5 stelle dove il consiglio comunale impegna la giunta a valutare l'istituzione di un fondo economico finalizzato a sopportare l'acquisto di farmaci e dispositivi di protezione individuale mascherine e guanti in lattice rivolte ai cittadini in situazione di difficoltà economica questo è il primo ordine del giorno allora possiamo scusate consigliere Piacentini grazie presidente purtroppo le fasi concitate di questo bilancio non ci aiutano a intervenire tutti quanti per dire quanto siete stati scandalosi questa sera vi è stato sottolineato nell'intervento conclusivo da parte del consigliere Furegato una punta secca relativa alla nota integrativa del bilancio 2020 in cui c'è scritto chiaramente che se volete tagliare i servizi nessuno in fase di controlettica si è permesso di dire nulla niente per voi è una cosa normale quindi ditelo andate fuori ditelo ai cittadini dobbiamo tagliare i servizi o vogliamo tagliare i servizi ditelo dopodiché caro sindaco lei non è il sindaco di tutti lo ha già dimostrato più volte e le spiego anche quando sul caso Mense non glielo dico più ma alla fine lei non è il sindaco di tutti perché si è lamentata di come il governo le ha scaricato la necessità di dover distribuire i 243 mila euro lei si è lamentata dicendo che non è possibile che si scarichi ai sindaci come decidere e chi a dare quei soldi ma non si è permessa di lamentarsi niente di dire niente di come la regione vi ha scaricato la responsabilità di distribuire i pannolini pampers spacciati come mascherine e io quando sento dire che il governo Conte non gli ha dati è perché non ha dato l'obbligo di mettere le mascherine mentre invece la regione Lombardia si e quindi è tenuta a distribuire quel pampers che ha distribuito e che abbiamo distribuito per cui avete fatto più di riunioni di giunta in cui dovete decidere come fare e per cui anche è uscita una piantina prima di qualsiasi comunicazione non si sa come è uscita dalla giunta ma non vi vergognate ma non vi vergognate poi avete deciso di distribuirla nel modo possibile nella modalità in cui si presenta la rotina solitamente con la sirena dei vigili urbani distribuendo le mascherine prese da un sacchetto neanche ingustate niente distribuite a mano date così senza dire che quelle robe quei dispositivi durano esattamente dalle 6 ore e non di più quindi alle persone viene distribuito qualcosa che il giorno dopo è bene che buttino via se no fanno peggio qui davanti un ordine del giorno che vi chiede di fare una cosa precisa no contro bocciato a prescindere dall'atteggiamento che ha tenuto fino a poco tempo fa quando ha commentato gli ordini del giorno peraltro poi quando ci sarà dichiarazione di voto sul vostro ordine del giorno rispetto al nostro in relazione al proseguo e a quello che succederà dopo cercheremo di notare le differenze che ci sono tra il vostro ordine del giorno e quello che ci sono noi quindi su questo ordine del giorno voteremo assolutamente a favore consigliere milanesi mi sentite? sì io penso che questo ordine del giorno sia assolutamente ricevibilissimo e non vedo nessuna motivazione per cui anche la la maggioranza non non debba votare a favore lo condivido ho già detto quello che insomma in qualche modo dovevo dire prima su una questione mascherine e su su altre cose quindi non mi dilungo ma il mio voto sarà sicuramente favorevole un attimo solo consigliere Degano sì grazie presidente sono abbastanza rammaricato delle parole dalle parole della sindaca in quanto secondo me non è stata in grado di valutare attentamente il nostro ordine del giorno sono rammaricato perché voleva essere una proposta di buon senso che andava in aiuto ai cittadini soprattutto in regione Lombardia dove c'è questo obbligo di indossare questi dispositivi ma ripeto il nostro ordine del giorno poi non va solo in funzione delle mascherine ma anche dei farmaci i cittadini sempre di più e lo dimostra il fatto che sono arrivate 1238 richieste per quanto riguarda i buoni spesa ma tutte queste famiglie tutte queste persone le 1238 che saranno tutte famiglie a loro volta faranno fatica anche ad accedere ai farmaci quindi ripeto mi sembrava ci sembrava come Movimento 5 Stelle di fare una bella proposta a tutti i colleghi con la speranza di contribuire anche a fronteggiare al meglio questa crisi ecco reputo veramente scortese l'atteggiamento della sindaca che con molta superficialità ha bocciato non solo questo emendamento anche gli altri senza di fatto riflettere su quello che stava valutando grazie grazie consigliere Degano possiamo passare al vuoto sull'ordine del giorno numero uno prego la dottoressa di procedere con l'appello nominale Casanova contraria Vignani contrario morale contrario contrario Contrario. Tani. Tani arriva. Tani è qua. Tani. Contrario. Armanni. Contraria. Tavese. Contrario. Perdi Claudia. Contraria. Bargiardi. Contraria. Vargi. Contraria. Bollani. Contraria. Corbellini. Contrario. Grusotto. Contraria. Walteri. Contraria. Caravenni. Contraria. Bonetti. Contrario. Gendarini. Mi sa che non c'è. No, Gendarini non c'è. Puregato. Favorevole. Tanti aferri. Favorevole. Porcioli. Favorevole. Giorgettini. Favorevole. Milanesi. Favorevole. Fugge. Favorevole. Casiraghi. Favorevole. Legano. Favorevole. Cominetti. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Caserini non c'è. Giusto. Non c'è. E scoppi. Non c'è. Quindi il totale. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Contrari. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, conti, cinque, 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 cinque. Favorevole. Allora, sono venti contrari e otto favorevoli, quindi diciamo è respinto. Passiamo al secondo ordine del giorno, sempre a firma, la prima firma del figliere del cano, dove il Consiglio Comunale impegna la Giunta a valutare di reperire le risorse necessarie affinché venga trovata una soluzione che consenta a tutte le persone senza fissa dimora di poter vivere in sicurezza anche durante il giorno. Consigliera Pozzoli. Sì, grazie Presidente. Su questo tema che mi sembra veramente molto importante, già in commissione ci eravamo confrontati e l'assessore Sobacchi sembrava avere già una soluzione abbastanza sicura. Quindi non capisco tutta questa contrarietà rispetto a questo ordine del giorno che va nella direzione di procurare sicurezza a queste persone che sono senza fissa dimora e a tutta la cittadinanza perché altrimenti diventa veramente un problema anche di sanità pubblica generalizzata. Quindi tutto questo faremo, vedremo, lo stiamo facendo. Quando sembrava che in commissione la cosa fosse già quasi compiuta, non mi trova, insomma, non mi raccapezzo. E quindi voteremo assolutamente a favore di questo ordine del giorno. Grazie. Consigliere Milanesi. Sì, grazie Presidente. Ma io penso anche di, presumo, anzi vi chiedo, ce lo bocciate perché vi stiamo chiedendo di fare quello che avreste già dovuto fare da un mese a questa parte? Perché è pacifico, almeno pacifico non lo so, perché poi mi risulta che solamente uno delle persone senza tetto è registrato con residenza in Proletto, ma i senza tetto dovrebbero essere registrati tutti con residenza in Palazzo Proletto. Di conseguenza la questione dei senza tetto non è una questione secondaria che è derogata a denti terzi, come può essere la Caritas, come possono essere altre associazioni che operano appunto nel terzo settore. Signor Sindaco, è anche compito suo, anzi mi verrebbe da dire principalmente compito suo, tanto più che due dei dormitori della città sono gestiti, sono di proprietà comunale, gestiti, dati in gestione appunto a un'associazione del terzo settore. e francamente dopo più di un mese che ci sono delle ordinanze restrittive che ci obbligano per la sicurezza nostra e di tutti gli altri cittadini, di tutto il resto della popolazione, ci obbliga a stare in casa, mi sembra davvero, non trovo una parola esatta per definire, mi sembra davvero enorme il fatto che ci sia ancora qualcuno che per una disorganizzazione da parte di quello che è l'ente comunale, rimanga ancora in giro per strada. Ci sono dei senza tetto che si devono spostare da un punto all'altro della città, dalle docce, al dormitorio, al centro diurno, ci sono delle grosse criticità, ne abbiamo parlato sia nella commissione Capigruppo dove le avevo chiesto anche se era al corrente un po' di questa situazione, sembrava quasi di sì e sembrava già in via di risoluzione, l'abbiamo richiesto, l'ha ricordato la collega Pozzoli, nella commissione Welfare e anche l'assessore Sobacchi, no ma con Medici Senza Frontiera abbiamo fatto i sopralluoghi, siamo in via di risoluzione e speriamo anche di trovare delle docce da campo, perché il tema qua è cercare di mantenere le persone a casa o comunque nello stesso luogo senza che vadano in giro, perché se vanno in giro senza controllo durante il giorno, perché non c'è nessuno deputato a un controllo e nessuno deputato ad accoglierli perché durante il giorno non è previsto nessun tipo di discorso che li possa tenere nello stesso luogo, queste persone vanno in giro, mettono a rischio la loro incolumità ma quella degli altri e lei signor Sindaco è l'autorità della sanità pubblica, quindi non se ne può fregare di questa situazione, siamo a un mese e io sentire ancora stiamo lavorando e perdoni signor Sindaco, le chiedo davvero, lavori più in fretta, lavorate più in fretta, assessore Sobacchi, perché se domani mattina ci svegliamo e c'è uno di queste persone che è positivo, mi spiegate come facciamo a gestirla? Come li gestiamo se questi vanno poi continuamente in giro? Diventa un problema, quindi prima che arriviamo poi a dover rincorrere, a metterci le pezze, che poi le pezze non ci stanno bene perché sono sempre delle cose posticce, facciamo una cosa che veramente doveva essere fatta settimane fa, mi sembra di rivedere Santa Chiara 2, finché non c'è il problema non facciamo niente, speriamo che Dio ce la mandi buona e poi interveniamo quando il caso va sulla stampa o quando pure la famosa stalla è stata aperta e i buoi famosi sono scappati. Quindi vi chiedo davvero, acceleriamo su questa partita, acceleriamo e prendete in mano in maniera decisa la questione e garantiamo che queste persone durante il giorno possano rimanere nello stesso luogo dignitoso con tutte le prescrizioni per la loro incolumità e quella degli operatori che li assistono e condividono con loro il tempo e lo spazio e davvero diamo una stretta finale. Grazie consigliere Milanesi, consigliere Degano, ricordo che per dichiarazione di voto sono tre minuti. Grazie. Grazie Presidente. Grazie a tutti. Io ho sentito, io veramente faccio un appello ai colleghi della maggioranza, ma questo ordine del giorno lo ritenete inopportuno? Lo ritenete negativamente? Lo ritenete negativo? Io non lo so, io non vorrei, guardate, io sono veramente rammaricato per tutto un po' il periodo, ma anche da questi comportamenti. Ci si chiede di essere propositivi, lo siamo e questi ordini del giorno lo dimostrano, però dall'altra parte ci vengono bocciati sistematicamente senza neanche darci una spiegazione seria, seria, seria. Io mi auguro che, tornando ai cittadini senza fissa dimora, io mi auguro che tutto vada bene, però sappiate che se domani mattina uno solo di questi dovesse contagiarsi, voi sarete i primi responsabili perché è da un mese che chiediamo, con toni pacati, di affrontare seriamente questa situazione. E se domani mattina ci fosse un contagiato che mette in pericolo quelli, gli altri cittadini che dormono con lui, ma soprattutto mette in pericolo anche la cittadinanza, visto che questi poi vanno in giro. E voi dovreste, e voi sareste i primi responsabili, perché non avete fatto ad oggi nulla, nulla, per mettere in sicurezza queste persone. Grazie. Ovviamente voteremo a favore. Grazie, consigliere Degano. Possiamo procedere al voto. Prego. Casanova. A Uge, a vero. Come? Consigliere Uge, lei si era prenotato, l'ho già aperto. No. Era su questo? Come crede, presidente? Se vuole fare lei la dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, prego. Non l'ho vista. Io, anche da un punto di vista giuridico, intendo che le osservazioni del consigliere Degano siano assolutamente conformi. Siamo di fronte a un problema, evidente, non mettere una pezza immediatamente che equivale a un'omissione. E quindi saremmo di fronte a una situazione colposa. e quindi invito tutti i componenti della maggioranza a riflettere seriamente su questa cosa. Perché poi rimane agli atti un'omissione da parte vostra. Grazie. Grazie, consigliere Uge, possiamo passare al voto? Prego. Casanova. Contraria. E non è omissione. Vignami. Contrario. Razzini. Contraria. Vedi Reonova. Contrario. Cerri. Contrario. Castinezzi. Contrario. Calderini. Calderini. Calderini non sento. Calderini c'è. Contrario. Salutario. Coltario. Contrario. Sani. Contrario. Armardi. Contraria. Bavese. Contrario. Peri Claudia. Contraria. Bazzardi. Contrario. Laszzi. Contrario. G positivo. Contrario. Contrario. Borsalini. Contrario. contraria 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 favore favorevole 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 gli argentini favorevole mianesi favorevole Urgetti favorevole Casiraghi favorevole Degamo favorevole Comilenti non c'è Caserini non c'è e Scotti non c'è quindi sempre otto favorevoli eventi contraria 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 eventi favorevole Otto non è approvato passiamo all'ordine del giorno numero 3 sempre a firma dei consiglieri Casiraghi Degano dove il consiglio comunale impegna la giunta a valutare l'istituzione di un fondo con dotazione economica consul accompagnato da una convenzione con gli hotel cittadini finalizzati a mettere a disposizione dei cittadini sottoposti a misura di isolamento degli ambienti consoli a presto agevolato grazie al contributo a valere sul fondo non ci sono interventi per cui passiamo al voto prego Casanova Casanova Sardiniani Contrario contraria si scusi ero in bagno quello dell'albergo contraria Carcinetti contraria Calderini contraria Mostavini contraria Contrario Armand contraria Pavese Contrario Contraria Masardi Contraria Maggi Contraria Contraria Corbettini Contraria Contraria Guarderi Contraria Caravelli Contraria Volenti Contraria Poi Gendarini non c'è Puregato Favorevole Taniaferri Favorevole Orzoni Favorevole Giacentini Favorevole Gianesi Favorevole 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 Abbiamo sempre Rotto Favorevoli E 20 Allora Ordine del Giorno numero 3 Contraria i 20 Favorevoli 8 È respinto Passiamo All'ordine del Giorno numero 4 Dove La firma del Prima firma Del Consigliere Piacentini Dove Si impegnano Il sindaco E la giunta A rivedere Radicalmente Nella successiva Variazione Di bilancio E nel rispetto Delle norme In materia Di contabilità Di eventi locali La spesa Prevista Per gli eventi Di intrattenimento Sportando le somme Sulla spesa Per i bisogni Sociali Votazioni E chiedono Contraria Presidente Non c'è neanche l'attimo Per scrivere Il prenoto C'è La segretaria Subito sul voto C'è Non è come il consiglio comunale Che bisogna schiacciare il bottone Bisogna aprirla chat Scrivere Mi prenoto Non è così Immediato No Consigliere Chiedo scusa Ma non abbiamo visto E pensavo Che non c'era nessuna prenotazione No Non ho proprio neanche fatto in tempo Arrivare alla chat Ci mancherebbe Prego Consigliere Dalle dichiarazioni Dalle dichiarazioni poste in commissione Dalle condizioni che ci sono in essere Dal fatto che non si sa quando si ripartirà Nella variazione successiva che verrà fatta Quella che è stata chiamata come max emendamento Si possa rimodulare quella che è la spesa ad oggi Come ben ha detto il consigliere Furegato Più alta di sempre stanziata per la del sole Partiamo da questo concetto che oggi la spesa è quella più alta di sempre A preventivo Quindi cerchiamo di rimodularla anche in questo senso Sarebbe anche il caso poi magari di parlare del contributo al teatro Di quant'altro Ma starà dentro tutta la revisione Però almeno solo via il sole Prendiamoci un impegno concreto Io posso capire che è il momento per ripartire Ma c'è anche la condizione di sobrietà Da dover tenere per dare delle risposte ai nostri cittadini Quindi voteremo contrari Cioè favorevoli Sì grazie Semplicemente per dire che il mio voto sarà favorevole È stato detto anche in commissione dello stesso vice sindaco Che comunque la programmazione di quella che può essere L'organizzazione degli eventi estivi Quest'anno subirà sicuramente delle Quanto meno delle restrizioni Bisognerà anche immaginare un nuovo tipo di socialità Anche per quanto riguarda gli spettacoli Io credo che questa sera Approvando questo ordine del giorno Semplicemente si dica Signore prendiamo atto di questa situazione E prendendo atto di questa situazione Siamo consapevoli che Lo stanziamento a bilancio Questo bilancio Che stiamo approvando stasera Per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi Particolare a questo punto L'odio al sole Non è congrua E quindi Arriveremo con la maxivariazione A spostare queste somme Da un'altra parte Molto probabilmente È semplicemente un impegno Di questo genere politico Poi dopo di che Tutte le questioni tecniche Di dove spostare le somme Quanto spostare le somme È ovvio che poi Attengono ad un secondo momento Però questo è l'impegno Che vi chiediamo Di assumervi Con questo ordine del giorno Il sindaco Ho già detto che non lo voterete Mi piace perché davvero Era una cosa concreta Che andava direttamente A beneficio Di quelle che possono essere Le casse comunali Per tante altre partite Grazie Consigliere Casiraghi Grazie Presidente Sì, trovo veramente pazzesco Cioè nel senso Siete consapevoli pure voi Che tutti quei soldi Non li spenderete Perché comunque Finendo il lockdown Se tutto va bene Il 2 maggio A giugno, a luglio Gli eventi saranno comunque In qualsiasi modo rivisti E rimpiccioliti Quindi Ha senso Tenere tutti quei soldi lì Bocciate fondi per le mascherine Bocciate contributi per gli hotel Per tenere tutti i fondi Sull'odio del sole Pazzesco Noi voteremo a favore Comunque dell'emendamento Grazie Passiamo al voto Casanova Contrario Vignami Contrario Grazie Contraria 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 tra aria da阿ieme cont нак rile contrario contrario aria contraria 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 contrario favorevole 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 sì ok milanese avvocato di favorevole 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 legato favorevole quindi sempre 8 allora l'ordine del giorno numero 4 è restinto contraria i 20 favorevoli 8 passiamo all'ordine del giorno numero 5 a firma prima firma del consigliere piacentini il consiglio comunale impegna il sindaco della giunta a predisporre una variazione di bilancio che tenga conto della situazione emergenziale e porta emergenziale al cui interno ci siano misure sostegno di famiglie e imprese a coinvolgere nel percorso di definizione della variazione le commissioni consigliari favorendo l'audizione di associazioni di categoria sindacati in realtà del terzo settore e del volontariato consigliere milanese sì io ringrazio il collega piacentini colleghi del pd che hanno tradotto semplicemente in parole scritte su un ordine del giorno quindi su un foglio di carta che ha un valore di fronte al consiglio comunale che impegna appunto la giunta di quello che è stato detto nelle varie commissioni ovvero l'impegno a partecipare a coinvolgere tutta l'opposizione insieme appunto ai consiglieri di maggioranza e alla giunta per fare dei ragionamenti rispetto alla maxi variazione in estrema sintesi questo che il collega piacentini ha enucleato in modo molto preciso in modo molto preciso io personalmente mi aspetto che ci siano almeno una commissione per ogni tematica che viene tra ogni come una commissione tematica almeno un paio di commissioni bilancio se si vuole fare una una discussione dove si coinvolgono realmente le opposizioni e devono essere delle commissioni molto aperte dove obiettivi oggettivamente è possibile modificare qualcosa più che una virgola o un punto alla fine di una frase ecco quindi il mio voto non può che essere favorevole in continuità di quello che dalla da parte della maggioranza sia assessori che i presidenti di commissione hanno già in commissione espresso e promesso grazie consigliere piazzentini sì grazie presidente guardate la differenza tra questo ordine del giorno e quello che ha presentato la maggioranza è evidente e passa all'interno del secondo punto cioè coinvolgere nel percorso di definizione delle variazioni di commissioni consigliari favorendo l'audizione di associazioni di categoria sindacati in realtà del terzo settore del volontariato cioè cerchiamo di predisporre questa variazione al netto di tutto quello che è stato detto precedentemente al punto prima quindi preparare una variazione di preparare una variazione di bilancio che tenga conto la situazione emergenziale post emergenziale che però sia costruita secondo le necessità di tutti cercando di raccogliere le esigenze di tutti il vostro ordine del giorno non fa nient'altro che descrivere quello che una normale giunta io capisco che sia complicato da da definire da decifrare perché voi in questa giunta qua non lo siete una giunta normale non siete una giunta normale perché il vostro ordine del giorno dice ad effettuare quanto prima una verifica relative determinati agli effetti determinati dell'emergenza sulle poste di bilancio dell'ente adottare nella necessità di garantire il permanente relativi equilibri ogni provvedimento che possa garantire il più ampio sostegno alle attività produttive della città di lodi e alle famiglie voi questo lo dovete fare è inutile capitato un ordine del giorno su una cosa che dovete fare perché se non lo fate non solo siete incoscienti ma siete anche pazzi quindi quella cosa che voi vi votate votare come ordine del giorno è una cosa che dovete fare mentre noi invece oltre a dover fare quel tipo di analisi cerchiamo di coinvolgere tutti quelli che sono gli stakeholder su questo tema cerchiamo di coinvolgere tutti perché di tutti abbiamo bisogno per costruire qualcosa che sia efficace per tutti perché questa emergenza ha colpito tutti quindi per favore la differenza tra questo ordine del giorno che mettiamo in votazione qui voteremo favorevoli e il vostro è sostanziale grazie grazie consigliere casiraghi grazie sì io provo anche un attimino a guardarla con gli occhi di voi consiglieri di maggioranza cioè nel senso non siete praticamente mai coinvolti in nulla nel processo di definizione di questo bilancio nessuno va mi ha chiesto nulla e adesso è inutile che poi dopo chi viene dopo di me mi replica perché poi tanto alla fine lo sappiamo insomma le cose ce le si dice non venite mai coinvolti quindi quello che qua veniva chiesto è dato che dobbiamo andare stiamo votando un bilancio che sostanzialmente appunto non corrisponde per nulla a la realtà attuale vi hanno chiesto un atto di fiducia prima adesso voi come fate a dare ancora un atto di fiducia? ma voi non avete voglia di intervenire di provare di sedervi insieme tutti insieme in una commissione dire questa cosa magari la possiamo fare un po' meglio questa cosa la possiamo fare cioè io mi chiedo ma quanta gente voi consiglieri di maggioranza che magari vanno scritto per dirvi che non riescono a trovare la mascherina che fanno fatica a trovare la mascherina cioè che fanno fatica ad avere un posto dove andarsi a far la quarantena cioè come fate a votare per escludervi dal percorso con cui verrà costruito il bilancio che dovrà far fronte all'emergenza io mi provo veramente piena tante volte per come state avvilendo il vostro ruolo cioè siete dei meri esecutori della giunta vi dicono pillola rossa, pillola rossa, pillola blu, pillola blu e voi mandate giù tutto guarda io sono senza parole comunque voteremo a favore grazie possiamo passare al voto Casanova contraria Vignani Contrario Rosini Contraria Andrea Leonora Contraria Cerni Contraria Cassinetti Contraria Calderini Contraria Contraria Mostaviglini Contraria Tani Franco Hai chiamato Dario Contraria Armando Contraria Con Dario Ansari Dario Sussorio Contraria Dario Dario Contrario Contrario Quartieri Contraria Caravelli Contraria Bonetti Contrario Giuregato Favorevole Stagiaferri Favorevole Concioli Favorevole Gli Accentini Favorevole Milanesi Favorevole Urgelli Favorevole Cosiraghi Favorevole Legano Legano Favorevole Favorevole Sì ok Ok Allora sempre Contrario 20 Favorevoli 8 E respinto Passiamo Io ho numerato Il numero 6 Che è l'ordine del giorno Presentato A prima firma Del consigliere Caserini Dove Impegna la giunta A ritirare il ricorso In appello Contro l'ordinanza Del tribunale Di Milano Per l'accesso A prestazione Devolate Di destinare Risparmio derivanti Dalle migliori Spese legali Per finanziare L'acquisto Di materiali Per i volontari Della produzione Civile E in secondo ordine Gli interventi Solidarietà Verso le persone Le famiglie D'attività Economiche In difficoltà A causa Della emergenza Copia 19 Questo è il numero 6 Se non ci sono interventi Se vogliamo Consigliere Milanesi Mi pare di aver capito Che il sindaco Anche su quest'ordine Del giorno Abbia detto Che voterete Contrario Il mio voto È favorevole E il vostro Voto contrario Penso che sia Inqualificabile Grazie Consigliere Casiraghi Sì Grazie In realtà Su questo punto Diciamo Voterete Voterete Contrario Insomma Boccerete Questo ordine Del giorno Perché poi Tanto alla fine I soldi che vengono spesi Non sono soldi vostri Sono soldi del comune Non tirate fuori niente Di tasca vostra Per cui è sempre bello Fare brillanti Con i soldi Con i soldi pubblici E non risponderne Io ribadisco Come è già stato detto In altre sedi Come abbiamo già detto In altre sedi Qualora poi andrete avanti Con queste che sono Cause temerarie E le perderete Andremo a chiedere il conto A tutti quelli Che poi hanno continuamente Votato Per portare avanti Questa cosa Quindi voterò Favorevolmente Grazie Consigliere Furegato 20 pro di consiglieri Hanno difeso I fondi Di Lodi al sole E adesso Voteranno Contrario Alla possibilità Di togliersi Un'impiccio In realtà Perché Diciamoci la verità Questa è una Spada di Damocle Che è sopra A mio parere È sopra la giunta Quindi questa qua Era anche un'occasione Per uscirne Però voi tanto stasera Avete deciso che bocciate tutto Tanto che avete anche Bocciato un ordine del giorno Che in realtà Quello precedente Era stato presentato Più o meno Molto simile Nel consiglio comunale Di Casale Ed è stato votato In modo unanime Quindi è molto curioso Che voglio dire Stasera sia stato A Casale Lo fanno Ascoltano tutte le commissioni Nelle commissioni Ascoltano E ascolteranno Le associazioni di categoria Nella formazione Della variazione di bilancio Quindi non so Se il sindaco Casanova Vuole fare una telefonata Al suo collega del mio Magari le può raccontare Come fanno loro le cose Per quanto riguarda Questo ordine del giorno È una proposta Assolutamente di buon senso Che vi toglierebbe Anche un'impiccio Ma Secondo me Vi volete fare del male E quindi voterete contrario Noi voteremo a favore Grazie Grazie Possiamo passare al voto Casanova Contraria Minano Contraria Gravini Contraria Perri Gravianova Contraria Contraria Castinetti Contraria Calverini Contraria 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 Noi we can't be over si Contraria Contraria Mercolini Contraria wandini Contraria Contraria Quasteri Contraria Caraventri Contraria Bonetti Contrario Puregato Favorevole E perri Favorevole Possori Abbandonato Possori Non c'è Abbandonato Abbandonato? A che ora? Lo ha scritto Presidente 6 e 0 3 0 6 e 0 3 6 e 0 3 Favorevole 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 Non dovrebbe essere Una sola Favorevole 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 Sono 7 favorevoli E 20 contrari Allora L'ordine del giorno È restinto Passiamo All'ordine del giorno Numero 7 Che è quello Presentato dalla maggioranza Dove il Consiglio Comunale Impegna Sinto Per la Giunta Ad effettuare Quanto prima Una verifica Relativa agli effetti Determinati All'emergenza sanitaria Sulle porte di bilancio Dell'ente E adottare Seppur Nella necessità Di garantire Il permanere Dei relativi equilibri Ogni provvedimento Che possa garantire Il più ampio sostegno Alle famiglie L'attività produttive Della Stabilone Consigliere milanese Sì, grazie Presidente Io condivido Allo spirito Di questo Di quest'ordine del giorno Perché Capisco Che da parte Dei colleghi Di maggioranza Cerchino di impegnare Una Non giunta A comportarsi Da giunta Quindi io Non posso che votare Favorevole A questo ordine del giorno In cui chiede appunto A una non giunta Di comportarsi Come se fosse Una giunta Grazie Grazie Consigliere milanese Consigliere piacentini Ma non c'era Degano Aspuglia Degano Consigliere Degano Poi mi sentite Consigliere Degano Consigliere Degano Grazie Presidente Sì Io di fronte A questo Posso? Mi sentite? Sì sì Prego Scusate Mi sentite? Prego consigliere Prego Grazie Grazie Presidente Grazie Presidente Sì io Allora Premetto che Noi come Movimento 5 Stelle Voteremo a favore Di questo Ordine del giorno Perché Le cose che vengono chieste Non si può dire di no Insomma Ecco Sono cose Non dico scontate Però in una situazione In cui ci troviamo È il minimo sindacale Però Mi aspettavo Un ordine del giorno Come questo Presentato Dall'opposizione Di fronte a Magari L'assenza Di una giunta Un'opposizione Presenta un ordine Del giorno Di questo tipo Ma presentato Dalla maggioranza Può voler dire Solo una cosa Che neanche i consiglieri Di maggioranza Si fidano Della giunta E quindi vogliono Impegnare la giunta In queste cose Che una giunta Dovrebbe fare Di default In automatico Evidentemente I consiglieri Di maggioranza Hanno reputato Che la giunta Senza questo ordine Del giorno Queste cose Non le avrebbe fatte Ed ecco che Presenta questo ordine Del giorno Siamo alla follia Totale Grazie Presidente Grazie Votiamo a favore Perché per la prima volta Abbiamo la possibilità Di dire alla giunta Che può E deve lavorare È una cosa straordinaria Quindi votiamo a favore Perché questa occasione Io non me la faccio scappare Poi se ci fosse stata Anche la volontà Di condividere le scelte Con l'opposizione Come richiesto Sempre E da tempo Cosa che in quell'ordine Del giorno lì Non c'è Quindi farete ancora Di testa vostra Vi daranno un preconfezionato Un premasticato Che andrà ancora In commissione bilancio Che poi andrà ancora In consiglio Che poi si potranno presentare Degli ordini Del giorno Degli emendamenti Che tanto voi boccerete Perché è sempre La stessa questione Però per una volta Vi abbiamo fatto lavorare Grazie Passiamo al voto Casanova Avorevole Favorevole 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 Cassinetti Favorevole Calderini Favorevole Mortatini Favorevole Stati Favorevole Armandi Favorevole 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 milanesi favorevole favorevole ma nessuno fanno 27 votanti 26 favorevoli e un astenuto quanti favorevole 26 favorevoli e un astenuto allora è approvato con 26 favorevoli e un astenuto passiamo all'ordine del giorno numero 8 dove il consiglio comunale impegna sindaco è giunto a valutare la possibilità di prevedere con la prossima maxi variazione di bilancio dei guardi sopra disposizione della protezione civile almeno raddoppiando la disponibilità di 2.000 stanziata fino all'anno 2019 ci sono io prenotato presidente milanesi stavo arrivando consigliere milanesi prego ovviamente volterò a favore l'ho proposto io l'ho del giorno quindi pacifico semplicemente per specificare che nel dispositivo io parlo dei 2.000 euro stanziati nel 2019 non impegnati che erano poi 900 come ha detto l'assessore Siccheri quindi io parlo 2.000 euro stanziati nel 2019 che moltiplicato da due fa 4.000 euro faccio questa specifica perché prima l'assessore Siccheri ha fatto un po' di confusione ecco stanziati 2.000 euro quindi 2.000 euro per due 4.000 grazie grazie presidente sì voteremo a favore perché soprattutto in un momento come questo la protezione civile cioè è scandaloso che non abbia fondi e sufficienza che debbano mettere di tasca loro i volontari i soldi per farsi il brevetto per comprare il materiale che non lo faccia il comune poi il giochetto quello che ha tentato di fare l'assessore Siccheri è proprio inascoltabile che se voi stanziate 2.000 e poi non siete in grado di spenderne 2.000 ne spendete solo 900 non è che raddoppiate i 900 la domanda è che al posto il consigliere milanesi è si raddoppiano i 2.000 quindi stanziare 4.000 euro siamo favorevoli non ci sono altri interventi per cui passiamo il voto casanova favorevole 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 per via nuova favorevole 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 calderini favorevole mostavini favorevole 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 armate favorevole 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 peri Claudia peri Claudia peri Claudia peri Claudia eccomi se lo sconnesco favorevole Bazzardi favorevole Bazzi favorevole Bollani favorevole corpettini favorevole 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 furegato favorevole E' attenzivi? Amorevoli Mi è attenzivi? Amorevoli Ok? Aspenuto 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 Persistiro, Carriaghi Amorevoli Vegano Favorevole Io conto un aspenuto 26 favorevoli 26 favorevoli Un aspenuto E' approvato Passiamo all'ordine del giorno numero 9 Prima firma del consigliere milanesi Dove il consiglio comunale impegna sindaco e giunta A valutare di prevedere l'azzeramento degli affitti Durante i mesi di natività per tutti gli immobili strutture di proprietà comunale Date in concessione alle realtà che fanno vivere la nostra città E valutare nell'ultimo quadrimestre del 2020 E misure di abbattimento dei costi che vada a favore dell'associazione e organizzazione di vario genere Consigliere milanesi Sì, grazie presidente Io se non ho capito male la maggioranza non intende votare questo ordine del giorno Quindi va da sé che a verbale apparirà che la maggioranza Questa sera ha deciso di non occuparsi delle associazioni e delle organizzazioni Che operano nel campo del volontariato Che operano nel campo delle società sportive Che operano nel campo della cultura Che operano nel campo del no profit del terzo settore Quindi va a verbale questo Io la sindaca mi diceva l'azzeramento Ma bisogna vedere se non è tecnicamente possibile Io tra l'altro non parlo solamente di alzeramento Ma parlo appunto soprattutto nel trimestre 2020 Ve lo leggo testuale Va bene, non sto a rileggere Comunque parlo di misure di abbattimento dei costi Che vadano a favore appunto di queste realtà Quindi insomma mi sembra un po' strumentale La motivazione della sindaca In ogni caso il mio voto è ovviamente favorevole Io faccio davvero fatica a capire Come si possa decidere di non valutare neanche una cosa Se il consigliere milanesi avesse proposto Di azzerare gli affitti delle società sportive Di abbattere i costi Nell'ultimo quadrimestre del 2020 Magari la giunta dice Io non mi sento sicuro di poter fare questa cosa E allora chiedo alla mia maggioranza di non farlo Ma che la maggioranza in consiglio comunale Cioè tutti i consiglieri comunali Dicono alla giunta di non valutare la possibilità Nei prossimi mesi Di mettere in campo delle misure a favore delle associazioni E in particolare delle società sportive Cioè scusate ma consiglieri comunali Cari colleghi Ma cosa state facendo? Ma bisognerebbe votare a favore? Stiamo chiedendo di valutare il fatto Di fare misure per le società sportive La giunta dovrebbe solo valutare E voi consiglieri Gli state dicendo di non farlo Secondo me è proprio perché è molto tardi Annuncio il voto favorevole del Partito Democratico Grazie Grazie consigliere Fuegato Passiamo al voto Prego Allora Caranova Contrario 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 Per Italia Contrario 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 contraria 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 favorevole favorevole sconvolta contraria favorevole 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 e quindi 1,2,3,4,5,6 sono 7 favorevoli e contraria allora 20 contraria favorevole 7 è respinto passiamo ora al voto sul provvedimento il provvedimento relativo al DUP se ci sono interventi la lodi che vorrei è questo qua il provvedimento giusto documento unico di programmazione punto 5 consigliere piacentene grazie presidente anche se qui mi dicono che devo piantare con gli interventi però andrò avanti ad oltranza non mi interessa nulla perché questa cosa qua l'avete voluto a voi e quindi lo sapevate che finivamo in questo senso qua in questo modo qua e quindi state lì e state seduti a votare quindi sul DUP io avevo posto delle domande o meglio avevo fatto un'affermazione cioè alcune condizioni che erano scritte su obiettivi strategici erano quantomeno un po' strane quindi costantiamo che l'aumento della criminalità dei fenomeni dirigenziali predatori a me piacerebbe sapere al di là che degli obiettivi strategici voteremo sicuramente il contrario dove avete preso i dati che evincono questo obiettivo strategico che vi siete prefissati per il 2020 perché a me sembra una cosa veramente assurda dopodiché stasera abbiamo assistito alla descrizione per più di un'ora del sindaco su un DUP che non era del 2020 ma era in realtà un po' strocchiato in realtà di quello che è stato fatto nel 2019 un po' del 2020 quello che verrà fatto quello che non verrà fatto un po' di numeri un po' di qua un po' di là tra cui siamo passati a parlare dei piccioni ma della nostra città non l'abbiamo conosciuto ora per tornare a quanto ci possiamo dire siete riusciti a votare l'ordine del giorno in cui impegniamo la città con la giunta a fare una variazione di bilancio ma poi a valutare che a tale variazione di bilancio magari ha un aiuto alle associazioni piuttosto che delle associazioni sportive non lo volete fare e quindi avete votato contro ora se vi rendete conto anche voi che c'è qualcosa che non va stasera forse abbiamo raggiunto il risultato sono le sei e mezza e ripeto a me mi scrivo su quello che ho chiesto sul duplo cioè il colmo ci si è scritto là dentro se l'avete letto o non l'avete letto soprattutto sul costantiamo che l'aumento della criminalità e dei fenomeni produttori di lodi non si sa da dove l'avete preso a me stasera forse non abbiamo imparato niente dopodiché del dupe e del bilancio cosa almeno facciamo una dichiarazione unica sia sul punto 5 che sul punto 6 cosa almeno siamo tutti contenti è chiaro che come vi abbiamo già detto quello che è stato fatto quello che avete presentato covid o non covid non era assolutamente ricevibile avete provato a giustificare in tutti i modi ma di fatto non ce l'ha fatto non ce l'ha fatto non siete riusciti a presentare qualcosa che avesse un senso avete posto in priorità delle cose che in questo momento possono essere sicuramente messe da parte e avete lasciato indietro delle altre cose che invece avevano necessità di essere poste in priorità poi ripeto ve l'ha sottolineato bene il consigliere Furegato alla nota al bilancio approvato in giunta 4.1 ma voi ve la sentite di approvare un qualcosa che dice che siete disponibili e orientati per far quadrare il bilancio a tagliare i servizi grazie un attimo solo per protesia perché non vedo la Casiraghi si è prenotato adesso si Casiraghi prego consigliere Casiraghi mi scusi no niente si figuri sì solamente per sottolineare che questa specificazione che insomma sono necessari interventi per combattere l'aumento della criminalità voi voi lo scrivete al terzo anno di mandato quindi dopo tre anni praticamente quasi tre anni che governate scrivete che sono aumentati i reati e avete fatto praticamente cioè la vostra bandiera il vostro cavallo di battaglia era la sicurezza e al terzo anno di bilancio voi scrivete sono aumentati i reati e quindi dovremo concentrarci ecco concentrarci sul punto io più che altro penso che chi scrive queste cose qua debba concentrarsi da dove va a prendersi copia in colla questo qua probabilmente l'ha preso da un dupe di un'amministrazione che era appena stata eletta e quindi doveva andare ad attaccare quella che c'era prima per cui dice ah stanno aumentando i reati adesso noi reprimeremo diventeremo più più severi più cose ma voi siete il terzo anno se sono aumentati siete voi che avete lavorato male per tre anni consigliere Bonetti sì grazie signor presidente volevo fare una dichiarazione di voto rapida ma ci terrei a fare un paio di considerazioni personali quindi parlo a nome di Alessandro Bonetti ma insomma fino alle sei e mezza sono stato qui e ci tengo a dire un paio di cose la prima è che ritengo insomma la pianificazione che ci ha portato a discutere questo bilancio in questa modalità un po' blasfema non solo perché in qualche modo è nata nella diciamo nella notte del venerdì santo e siamo alla vigilia di Pasqua ma la trovo proprio difficile dal punto di vista del concetto di pianificazione con un bilancio firmato il sei di marzo sicuramente ci sono state delle condizioni di contingenza che ci hanno portato a concretizzare il lavoro fatto dagli uffici dalla parte politica e che in qualche modo ci vedevano doverosamente anche questa volta in curva per chiudere il lavoro quindi il sacrificio era giusto farlo ed è giusto farlo anche fino alle sei e mezza se necessario per senso del dovere ma credo assolutamente che qui dobbiamo possiamo e dobbiamo fare assolutamente meglio nell'organizzazione dei lavori la seconda cosa che ci tenevo a dire sempre a livello personale era che sono fortemente dispiaciuto del fatto che questo consiglio comunale non sia iniziato con un pensiero ai nostri concittadini o comunque lodigiani che sono mancati per questa grave situazione che abbiamo vissuto andando invece un po' sui temi ci terrei a fare insomma riprendere alcuni passaggi del consigliere Casiraghi che in qualche modo ha ricordato come l'assessore Maggi facesse l'aperitivino o il caffettino per usare i suoi termini in qualche modo facendo provando a sminuire quella che era la situazione che in quel momento non era facilmente prevedibile mi piacerebbe facesse le stesse dichiarazioni pubbliche ai suoi leader che hanno sminuito fino all'ultimo la situazione e anche al segretario di partito che appoggia la sua coalizione al governo che ha fatto esattamente le stesse cose poi mi spiace che il consigliere Casiraghi ci consideri mangiatori di pillole blu e rosse forse ha detto noi consiglieri quando il suo partito ne ha mangiata prima una verde della Lega adesso sta mangiando quella rossa del Partito Democratico forse sono pillole decisamente più grosse quelle che ingoiano loro detto questo io in queste ultime settimane probabilmente l'avrete visto da dire le ultime sette settimane sono come molti di voi chiuso in casa e purtroppo praticamente ho raddoppiato le mie ore lavorative giornaliere per motivi del cliente che seguo e non ho molto partecipato anzi non ho partecipato a nessuna delle commissioni capigruppo ho delegato sempre dei colleghi non ho partecipato alla commissione di bilancio me ne scuso ma purtroppo ho avuto degli impegni quindi mi sono allineato col mio gruppo ma questo mi ha spinto stasera stanotte stamattina ad ascoltare con maggiore attenzione il dibattito ho ascoltato alcune cose che hanno rivangato ancora il passato ho sentito parlare ancora della chiusura del clam che in qualche modo io ho sempre saputo che non è mai stato chiuso il clam ma semplicemente gli spazi è stato chiesto venissero pagati ho sentito parlare ancora del 50% delle tariffe più alte del pre e post scuola senza però del trasporto scolastico senza però citare l'aumento della qualità del trasporto quindi si parla tanto di questa maggioranza che ricorda il passato ma i primi a farlo spesso sono i colleghi dell'opposizione però ci tengo a precisare una cosa io ho sentito delle analisi molto precise anche se punti di vista differenti del consigliere Furegato e ci tengo a dire che sono d'accordo su una frase che lui ha detto che è quella che questo è il bilancio su cui la maggioranza si gioca al mandato sono assolutamente d'accordo con il consigliere Furegato questo è il bilancio preventivo su cui ci giochiamo lo sprint finale ed è per questo che io forse ho dato meno importanza del fatto che fosse arrivato in anticipo in ritardo pre-post-covid o fosse da fare prima o dopo io credo che le cose importanti siano quelle che mi sono portato a casa stasera che mi tengo a casa stasera la prima è che questa amministrazione si è impegnata a confermare tutti quei lavori di riqualifica ristrutturazione dei plessi scolastici delle messe norme degli impianti sportivi che sono stati evidentemente una delle linee di mandato di questa amministrazione confermarle oggi nonostante tutte queste difficoltà mi sembra un punto importante la seconda cosa che mi porto a casa è che magari non si trova male o non bene nelle pieghe di bilancio ma comunque in questo periodo di difficoltà si è lavorato sull'assistenza educativa su progetti per il contrasto violenza contro le donne i rimborsi del pre post scuola le dilazioni di alcune tariffe forno crematoio che è lavorato a ciclo continuo quindi anche in questa occasione insomma dove si è potuto credo che questa amministrazione almeno in alcune partite abbia cercato di fare del proprio meglio anche perché era una situazione insomma inutile dirlo che nessuno si aspettava quindi io credo che nessuno dei presenti in questa colla anche alle 6 e mezza di mattina o alle 6 e mezza di sera avesse tutte le risposte che questa amministrazione come del resto anche la regione il governo hanno dovuto affrontare ma la terza cosa e l'ultima più importante che mi porto a casa è l'impegno politico che questa maggioranza si è presa stasera con un ordine del giorno che impegna la giunta a scaricare a terra nelle prossime settimane tutte quelle che sono le verifiche e le azioni necessarie per far sì che questo bilancio si concretizzi anche in maniera più solida e concreta appunto a valle e durante questa emergenza sanitaria questo sono le tre motivazioni per cui io e la collezione Maggi Perlodi voteremo favorevoli sia ovviamente al provvedimento di DUP che al bilancio grazie passiamo al voto prego dottoressa Casanova favorevole Vignani favorevole Favorevole Ferri favorevole 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 Cascinetti Favorevole Casperini Favorevole Ophabini Favorevole Tani Tani Favorevole Armandri Favorevole 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 Lazzardi Favorevole Favorevole Baggi Bollani Favorevole Corbenini Favorevole 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 Fabri Favorevole Caraventi Favorevole Bonetti Favorevole Cessarini Non c'è Non avevo cance la Pulegato Contrario Tagliaferri Contrario Ciacentini Contrario Milanesi Contrario Ciacentini Casiraghi Contrario Legamo Contrario Sono sette contrari e venti favorevoli Prego Allora Venti favorevoli Sette contrari approvato Non c'è Di questo qua No Allora passiamo All'approvazione del bilancio di previsione 2020 2022 Consigliere Grazie Grazie Presidente Sì guardi Non mi dilungherò molto sulle motivazioni del perché insomma andremo a gocciare questo bilancio però insomma come abbiamo già detto è arrivato portato qua in aula avete diciamo lavorato con molto ritardo dal 20 febbraio che è scoppiata la crisi fino al 6 marzo non vi siete accorti di quello che stava succedendo e non l'avete modificato dal 6 marzo al 25 marzo praticamente non vi siete svegliati e poi dal 25 marzo fino adesso abbiamo lavorato sabato domenica e stiamo andando ad approvare un bilancio alle 7 di mattina con un consiglio comunale iniziato alle 6 e mezza di sera quindi dopo 12 ore e mezza e un bilancio che non conteneva un euro per l'emergenza covid un bilancio in cui noi avevamo cercato di sottolineare alcune di chiedervi degli interventi urgenti sulle questioni insomma un po' più importanti e che voi avete bocciato e l'unica cosa sostanzialmente che avete accolto è la richiesta della maggioranza alla giunta che gli chiede di mettersi a lavorare e di fare il suo lavoro quindi per questi motivi voteremo contro rispondendo a Bonetti guardi in merito ai lavori della programmazione che va sicuramente rivista io concordo con lui però magari allora facciamo così la prossima volta quando capi gruppo ci sono da decidere queste cose non votate per forza sempre sì basta fargli yes man lo sapevate che sarebbe finito così un bilancio che iniziava la discussione alle sei e mezza di sera un bilancio discusso online lo sapevate che finiva così quindi basta fargli yes man perché vanno dato l'ordine che si fa così e si fa così mettete la testa e incominciate a pensare io lo so che lei pensa cioè sono sicuro che è una bravissima persona e che è in grado di capirle queste cose ma allora tirate fuori un attimino di coraggio ma ribellatevi e dite no un bilancio alle sei e mezza di sera non si può iniziare così tra l'altro qua ci mancano ancora tre punti all'ordine del giorno quando finiamo questo tanto così per dire poi merito guardi il cafferino che uno va in giro se lei mi dice di leader del 5 stelle che sono andati in giro a bersi cafferini a sottovalutare la situazione guardi io non ho nessun problema a dire che sono stati degli stupidi e degli incoscienti non c'è nel senso così a memoria non ce li ho ma se anche me li tira fuori io non ho nessunissimo problema Zingaretti uguale sono degli irresponsabili la differenza è che lei il suo vice sindaco è quello che ha creato la sua chat whatsapp con cui lei interagisce col suo gruppo consigliare quindi lei può dirglielo caro Maggi sei un irresponsabile a fare queste cose qua lei glielo può dire io se Di Maio si fosse andato in giro a bere un caffè cosa faccio? lei invece ce l'ha lì ha creato la chat dove lei scrive ma adesso non faccia cosa buttiamo il blog cioè facciamo i seri è quello che ha creato la chat in cui lei scrive lei alza il telefono e diceva Maggi ma che cavolo stai facendo stai calmo cioè il politico non è che deve per forza sempre prendere una posizione su tutto di fronte a una cosa che uno non conosce può anche stare zitto l'ha fatto lei l'ho fatto io l'hanno fatto in tantissimi si chiama buonsenso grazie sì grazie ha chiesto la parola il consigliere fu regato io voglio ringraziare il consigliere il capogruppo Bonetti stavolta non perché è una persona molto seria ma perché più che altro ha definito il PD pilola rossa quindi l'ha associato ancora al rosso e quindi devo dire che a quest'ora lo ringrazio molto però il riferimento al quando dice il riferimento al passato vuol dire il problema sulle tariffe ok non è stato ricordato un miglioramento del servizio del trasporto scolastico ma le tariffe sono in vigore quindi finché non verranno tolte se poi le toglierete sarò ben contento di non citarle più quindi non è che se si fanno dei passi in avanti sono sempre condizioni di conoscerli il problema è quando questi passi non vengono fatti per quanto riguarda questo bilancio e questo bilancio secondo me andava un po' passatemi il termine per l'ora smascherato nel senso che il rischio era che passasse come un bilancio che fosse necessario approvare e poi da stravolgere per l'emergenza covid quando anche abbiamo avuto la conferma abbiamo scoperto che è invece un documento su cui la maggioranza investe molto e su cui noi siamo profondamente in disaccordo perché è proprio il contrario di quello che pensiamo in relazione alla visione della spesa del comune nel sostegno degli ultimi dell'idea che abbiamo sempre portato avanti con cui ci siamo presentati alle elezioni mettendo ambiente sociale e solidarietà una città si chiama viva inclusiva e sostenibile era il nostro slogan elettorale l'inizio del nostro programma e quindi noi quell'idea la continueremo a portare avanti che evidentemente è diversa dalla vostra visto che il sabato è il giorno dell'uomo è il giorno del limite io credo che dobbiamo anche poi renderci conto del appunto del limite a cui la nostra discussione arriva perché la mia impressione è che in qualsiasi caso l'Odi ha bisogno di molto di più probabilmente da tutti noi e quindi c'è davvero da fare qualcosa di più per la nostra città perché per di più in questa situazione emergenziale ma in generale ha bisogno davvero di uno slancio maggiore perché abbia quello che si merita e quindi annuncio il voto contrario del Partito Democratico grazie grazie consigliere Furegato chiede la parola al consigliere Milanesi sì grazie Presidente a corpo anche delle considerazioni sul DUP non ovviamente con tre minuti di tempo non sporerò sicuramente caro sindaco cara giunta e cara maggioranza io ma tutti noi penso che tutti i cittadini di Lodi vogliamo un sindaco vogliamo una giunta che sappia ispirare fiducia che sappia spingere i propri cittadini a creare valore aggiunto e che questo valore aggiunto poi si tramuti in qualcosa di concreto ecco io nel DUP che la sindaca questa sera ci ha presentato non ho non ho visto questi tre elementi che chiedo quindi fiducia valore aggiunti e concretezza non li ho proprio visti quindi il mio voto che prima ho dato il contrario sul DUP era sostanziato per in questi questa motivazione sul bilancio è già stato detto tutto anche da voi bilancio psicolabile incongruo inadeguato ovviamente sotto il punto di vista delle scelte politiche e amministrative che non corrispondono a quello che è l'esigenza in cui ci troviamo a vivere è un bilancio senza cuore dipendentemente dal covid o non dal covid è un bilancio senza cuore che acquistate permettendo anzi che avete approntato che avete preparato prevedendo dei riduzioni di servizi dei tagli sul sociale una serie di partite tralasciate completamente quindi indipendentemente da quello che è la situazione io davvero eh credo che questo bilancio vada comunque eh bocciato a pieni voti ovviamente retrovoti e visto che siamo ormai a sabato santo che notoriamente è un giorno di pausa è un giorno di meditazione lo dico per prima a me stesso ma lo auguro soprattutto al sindaco e alla sua giunta che sia davvero un giorno di meditazione perché eh dobbiamo capire davvero come poter affrontare la sfida che nella quale ci troviamo già ma che nei prossimi mesi sarà ancora più ardua e ripeto l'ho già detto più di una volta questa sera e credo che lo voglio ripetere con forza noi dobbiamo fare tutto quello che è a nostra disposizione per vincere questa sfida e signor sindaco giunta consigliere di maggioranza sappiate perché che per quanto mi riguarda per quanto riguarda il mio gruppo l'Od Civica se ci sarà coinvolgimento serio con eh delle questioni ben delineate noi sicuramente il nostro contributo saremo pronti a darlo consigliere Uge abbiamo idee molto diverse tra minoranza e opposizione però mi è piaciuto molto lo stile dell'accessore Sikel che secondo me oltre a essere sul pezzo e ha dato dimostrazione anche di di competenza ha il coraggio di dire quello che pensa io poi magari non condivido tutto però mi pare l'unico veramente schietto nella maggioranza mi è piaciuto molto lo stile del del capogruppo Bonetti col quale chiaramente abbiamo anche anche con lui ho idee diverse però ha sempre uno stile rispettoso per quanto riguarda tutte le persone che hanno peccato in sobrietà da ci sono persone che hanno sbagliato da tutte le parti politiche quindi persone che sui social network hanno esagerato in un senso o nell'altro quindi chi senza peccato scagli la prima pietra in questo momento io ribadisco secondo me l'unione fa la forza in questo momento l'unione non c'è e quindi per forza di cosa l'amministrazione di Lodi è meno forte in un momento di emergenza io questa sera non ho visto la minima apertura anche le cose più più ovvie non so le cose che potevano apparire anche le più le più condivisibili e questa cosa mi lascia mi lascia molta amarezza concludo visto l'orario dicendovi mi illumino d'immenso perché è mattino grazie grazie consigliere ogè possiamo passare al voto sul bilancio prego casanova favorevole vignami favorevole pagini favorevole per leonora favorevole cazfinetti favorevole 혹 favorevole 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 o regione favorevole 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 e uscita a persa la commissione favorevole favorevole che non c'è legato contrario 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 legano contrario sono sette contrari e diciannove favorevoli giusto? sì allora sono diciannove favorevoli siete contrario è approvato passiamo al punto 7 la ratifica della deliberazione di giunta comunale variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione prego l'assessore sicel arrivo grazie presidente questa è la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 14 del 14 2 2020 intanto ringrazio tutti di aver partecipato a questo consiglio e ringrazio per l'approvazione del bilancio ma un punto ancora più urgente dell'approvazione del bilancio non ha questa ratifica di giunta che è del 14 di febbraio e va ratificata in consiglio entro 60 giorni questa è la variazione di spesa per le spese referendarie e noi avevamo fatto una variazione di bilancio per rendere disponibili 113 mila euro per il referendum e adesso facciamo la ratifica in consiglio grazie grazie assessore ci sono interventi scusate scusate ma mi si è proprio sconnessa la sono qualche meri proprio nel momento in cui votavo è partita la connessione ok allora passiamo il voto prego dottoressa sulla favorevole 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 calderini favorevole favorevole ma non mi ha sentito favorevole sì ah ok eh terry claudia favorevole 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 come favorevole puregato astensione astenuto milanesi astenuto urgetto casilani astenuto edegamo astenuto sono sette astenuti e 19 favorevoli sette astenuti approvato controlliamo se c'è l'immediata non è detto allora votiamo votiamo l'immediata esegibilità allora allora Casanova favorevole Vignami favorevole Raffini favorevole Ferri Eleonora favorevole Ferri Scimetti Calferini favorevole Boccavini favorevole Tani Tanti favorevole Armand favorevole Favete Favorevole 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 Varti Mi sentite? E adesso sì Favorevole Favorevole Bollani Favorevole Volpettini Favorevole Fusotto Favorevole Favorevole Caraventi Favorevole Favorevole Bonetti Favorevole astenuto astenuto 6 astenuto 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 7 e 20 giusto? 7 astenuti e 20 favorevoli è approvata l'immediata passiamo al punto 8 variazione di bilancio finanziario di previsione 2020-2022 prego, sessore Sicker sì, con questa variazione di bilancio praticamente in vista l'ordinanza 658 del 29 marzo della presidenza del Consiglio dei Ministri in cui sono stati appunto assegnati 400 milioni di euro e ne disponeva il pagamento ripristiniamo il 243 mila erotti euro che ci sono arrivati dalla protezione civile che avevamo preso con una variazione compensativa dai capitoli della direzione 2 non utilizzati ripristiniamo sui capitoli della direzione 2 i soldi che abbiamo destinati ai buoni ripeto quello che ho detto prima che siamo andati velocemente molto velocemente quindi abbiamo fatto la determina compensativa l'impegno di spesa e i buoni sono arrivati faccio presente al consigliere Casiraghi che probabilmente non ha capito la razza di tutta la velocizzazione del provvedimento che abbiamo messo in atto che adesso in questo momento ci sono 1200 domande e ci sono 15 persone a tempo pieno che stanno valutando i criteri di erogazione quindi il tempo è dettato dal fatto che devono essere valutati i 100 mila euro anche qui non ha capito noi abbiamo ordinato tutti i buoni abbiamo tutti i buoni i 100 mila euro sono stati ordinati solo per una questione di sicurezza qua non siamo una banca i buoni sono contanti l'unico posto armadio all'ufficio mi sono informato all'ufficio servizi sociali c'è un piccolo armadio neanche semi corazzato l'unico posto disponibile dove poterli mettere è qua che c'è una cassaforte all'ufficio economato siccome 120 mila euro di buoni sono quasi 240 milioni del vecchio conio appena cominciamo a erogare questi ordiniamo gli altri e per una questione di sicurezza abbiamo qua meno praticamente possibilità di avere a portata di mano delle 250 mila euro contanti grazie 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 consigliere milanesi sì grazie una domanda assessore quanto ci vuole perché arrivino poi gli altri buoni c'è una cosa immediata in due giorni due o tre giorni dall'ordine all'arrivo dei buoni sono passati due o tre giorni massimo quindi appena iniziano a distribuire l'ufficio economato ordina gli altri e arrivano gli altri ok ok perfetto e invece la distribuzione come avviene? una volta valutati i criteri gli danno i buoni come c'è scritto nel lato no no quello l'ho capito io dico proprio materialmente concretamente cioè vengono portati a casa no vengono li distribuiscono loro in base ai tagli e ma dove? ma scusami sì no giusto cioè fisicamente la gente esce da casa e viene in comune a prendere i buoni o gli vengono portati a casa? no sono qua penso che verranno qua eh sinceramente questo non ho idea bisogna sentire la no vabbè adesso io vi non so se il sindaco poi ha qualcosa più da dirci no allora io volevo semplicemente uno chiedere questa cosa qua come vengono distribuiti e allaccio questo discorso molto brevemente il fatto che so che ci sono le scuole credo soprattutto le primarie che hanno la necessità di distribuire il computer ai ragazzi che hanno appunto che non avevano un device a casa e quindi lo dovevano distribuire l'ho fatto presente anche prima in via informale all'assessore Buzzi approfitto visto che si parla di distribuzione di un bene di prima necessità e con la didattica a distanza anche i computer sono un bene di prima necessità per chi purtroppo a casa non ce l'ha ci sono alcune scuole che hanno la necessità di distribuirli e io direi invece che far uscire la gente andare alle scuole come per i buoni invece di far uscire venire in comune mi sembra sensato che si possa mettere in piedi qualcosa che possa fare in modo che gli arrivi direttamente a casa ok grazie consigliere milanesi ci sono altri interventi consigliere Furegato non la sentiamo non avevo acceso il microfono io non ho capito questa cosa perché io avevo capito dalla commissione welfare che l'amministrazione aveva acquistato 100 mila euro di buoni poi in realtà per un valore di 120 mila euro e che poi avrebbe valutato la possibilità di utilizzare altre strade altri strumenti per erogare quei fondi se non ho capito male eravamo presenti io stavo ascoltando ma siamo tutti commissari presenti alla commissione welfare mi pare che l'assessore Sobacchi abbia detto abbiamo speso 100 mila euro perché così poi ci siamo parafrasi tenuti le mani libere per eventualmente non utilizzare tutti i fondi esclusivamente con lo strumento dei buoni almeno il messaggio a me era arrivato così adesso invece l'assessore si che ci parla di una totalità di buoni quindi tutti i 240 340 3 mila euro saranno presi tutti in buoni quindi questa è una notizia è una novità più il 20% sì no ma è lo strumento la quantità ok 1,2 giusto ok ma l'intero importo di 243 mila euro sarà speso in buoni quindi sì ok grazie un attimo solo grazie consigliere Casiraghi prego grazie presidente sì infatti intervenivo per lo stesso motivo assessore sì che non è che Casiraghi non capisce o i consiglieri di opposizione che non capisce che qui ogni commissione dove uno va c'è sempre qualcosa di diverso viene sempre raccontata una cosa diversa andiamo a riprendere lo streaming della commissione welfare testuali parole sia dell'assessore Sobacchi ribadite poi addirittura dal dirigente De Muro era noi abbiamo preso solo 100.000 euro perché poi non sappiamo se questo qua è il sistema più efficiente ed è il migliore o se può creare dei problemi per cui noi facciamo così eroghiamo la prima tranche testuali parole se poi non sorgono problemi allora riconfermiamo anche il secondo acquisto della seconda tranche adesso lei viene a dire un'altra cosa quindi non è che qua la gente non capisce siete voi che non riuscite a dire la stessa cosa la stessa roba nel percorso ad esempio faccio un altro esempio di ogni commissione ognuno dice la sua nel percorso quando vi abbiamo chiesto ma il maxi emendamento quando è che lo fate in ogni commissione c'era una risposta diversa da una parte dicevano no proviamo il preventivo poi facciamo il maxi emendamento l'altro dicono no facciamo poi anche il consuntivo e poi facciamo il maxi emendamento qui stessa roba tutto ticket no tutto ticket cioè non è che non si capisce siete voi che cioè io mi chiedo ma vi vedete ogni tanto a parlare delle robe no scusi consigliere Casiraghi in commissione ho detto che la prima tascia era di 120.000 euro si vedeva quante domande c'erano e quante quante bisognava erogarne e si valutava poi il percorso comunque i buoni vengono consegnati a casa ah quindi a casa non ritirati perfetto non vengono ritirati comunque io ce l'ho scusate io so che ho fatto dell'uomo si chiede di intervenire si prenota no ma scusate ma votiamo il contrario basta che intervenga uno di voi ci dica le cose come stanno mettetevi d'accordo voi non è che ci dobbiamo mettere d'accordo noi mettetevi d'accordo voi chi è che parla e chi è che dice come funzionano le cose non può funzionare così comunque sono d'accordo presidente quindi chi è che parla e dice come funzionano le cose perché non può essere che qua ogni persona dice una roba diversa eh si prenotarsi e appunto per poter prendere la parola perché se no non ce la facciamo ok allora dia la parola a chi sa come stanno le cose per favore grazie io ho fatto il presumo per rispondere all'assessore Sobatti e stavo rispondendo ma non riuscivo allora all'assessore Sobatti prego allora i buoni devo scusate un attimo il video i buoni adesso sono 1210 domande che sono state valutate dalle assistenti sociali le assistenti sociali stanno già facendo le prime le prime verifiche le prime autocertificazioni verranno distribuiti dalla settimana prossima verranno portati a casa per non far uscire appunto la gente abbiamo fatto tutto per non far partire per non far aspettare la gente ai servizi sociali tutto telefonicamente via e sbagliando tutte le situazioni abbiamo detto che la prima transce era di 120 mila euro volevamo valutare quanti ne potevamo erogare e quanti avevano diritto non ho detto che non venivano erogati tutti o venivano erogati tutti ho detto che valutavamo il percorso cammin facendo io ho finito io ho finito grazie grazie ha chiesto la parola il consigliere Degano grazie presidente siccome sta accadendo anche tra le varie commissioni si dicono spesso cose discordanti e niente volevo solo chiarire alcuni aspetti allora innanzitutto adesso la sobattice ha detto che sono arrivate 1210 richieste quando qualche ora fa ci aveva detto 1238 no 1200 scusa adesso scusatemi ma vado a rivedere il numero no dopo mi risponde dopo mi risponde dopo mi risponde consiglio il consigliere Degano perché se no eh lo so però se non interrotto non riesco a andare avanti e poi eh volevo precisare questo aspetto qua della prima tranche da 100.000 euro da 100.000 euro perché i soldi che ha tirato fuori il comune per questi primi ticket sono 100.000 euro che poi per una trattativa eh con la ditta che ha fornito i ticket eh diciamo c'è stato un un valore aggiunto di 20 di 20.000 buoni di 20.000 ticket scusate e ehm era stato chiaro soprattutto il dirigente De Muro su questo tema qua nel senso che ehm l'aveva giustificata questa prima tranche e non tutti i 243.000 eh dicendo perché valutiamo se la modalità dei ticket funziona bene o se funziona male perché ci sono anche altre possibilità per erogare eh il restante 143.000 euro quindi eh è chiaro apprendiamo apprendiamo stamattina stavo dicendo stasera apprendiamo stamattina che invece è già stato deciso che saranno tutti tutti ticket quindi niente è finito grazie allora le domande sono 1238 e 38 però non sono tutte eh a me non sembra che il dirigente De Muro abbia detto una cosa del genere abbiamo detto della poematale di 120 eh di 120.000 euro e di vedere come come quante ne eroghiamo quanti bisogni ci sono e quanto e quanto viene viene richiesto non mi sembra che abbia detto che ne erogravamo solo quelli sì grazie consigliere Decentini ma scusate ma voi mi rendete conto ma ci state prendendo in giro assessore Sobacchi lei la commissione welfare l'ha fatta domenica 5 la determina che impegna tutti 243.000 euro sui ticket è del 2 ma io non ti conto cioè 243.000 euro erano già impegnati per acquistare solo i ticket il 2 il 2 di aprile quindi lei doveva venire in commissione non a raccontare la stupidata dopo valuteremo faremo perché voi tutti i 243 li avevate già impegnati con la determina del 2 ma li leggete i documenti che fanno i dirigenti ma state scherzando oh ma ragazzi ma sono le 7 e un quarto ma io non mi voglio far prendere per il naso no scusi non volevo prendere per il naso no lei mi sta prendendo per il naso perché questo è il 2 il 2 il 2 la determina del dirigente impegna tutti i 243.000 euro in favore della società che eroga i ticket restaurant secondo un'offerta del 20% in più quindi gli avevate già impegnati il 2 lei da domenica 5 lo doveva sapere perché è suo compito lei fa l'assessore e l'assessore doveva venire a dire che abbiamo già impegnato tutti i soldi 243.000 per comprare i ticket non valuteremo secondo le domande poi definiremo voi li avevate già comprati i ticket li avevate già comprati ma vi rendite conto ma non siete gli a giocare no no infatti eh infatti lei ha raccontato una non verità per non dire una bugia o per dire una cosa non vera in commissione voi la prima tranche l'avete comprata l'avete fatta inviare per un motivo che ha detto bene l'assessore sì che per una questione di sicurezza perché se qualcuno viene dentro e ruba i ticket sono soldi e quindi per una questione di sicurezza l'unico posto era in economato e non si fidava e non vi fidavate da avere 243.000 euro in cassa e quindi l'avete chiesto i primi 100 ma li avevate già comprati tutti l'assessore l'india l'india perché non ci non li può prendere in giro io non volevo prendere in giro lei aprivi in giro tutti stasera e l'ha ripetuto tre volte che dopo vedremo e faremo sono le sette in quarto vi ripeto non prendetemi in giro per favore grazie ok e poi scusi presidente solo per chiudere però a questo punto torniamo alla modalità del ticket elettronico che avevamo proposto all'inizio che non c'era il rischio di furto ticket elettronico se la scheda non l'attivi ti rubano la scheda non ci fanno niente hanno rubato una scheda non hanno rubato un euro alla fine di tutto sto cinema dieci giorni e torniamo che era l'idea e noi andiamo sempre nell'urgenza per intervenire no un attimo per cortesia allora avete fatto gli interventi dobbiamo dare un minimo di forma se no allora allora se non ci sono altri interventi ecco possiamo passare il voto scusi abbiamo fatto la presentazione la replica contro replica adesso siamo in fase di voto quindi ma diciamo che questa qui non si è capita sinceramente perché siete intervenuti tutti di più uno contro l'altro quindi diciamo se c'è una dichiarazione di voto e poi passiamo al voto io ce l'avrei se mi dà la parola la faccio dichiarazione di voto e poi passiamo al voto sì mi vuole constatare che come ha detto l'assessore Sickel qualche ora fa dal governo sono arrivati le somme il 30 di marzo la prima determina come diceva giustamente il collega Pecentini del 2 aprile e siamo all'11 di aprile e se tutto va bene questi buoni verranno distribuiti da martedì ora la situazione è una situazione comunque pesante per tanti per tutti sicuramente anche per l'ente è pesante però signore ecco io vi invito davvero dobbiamo essere più celeri perché questi soldi davvero c'è gente che sta facendo fatica arrivare alla fine del mese se non ho capito male qui stiamo parlando perché delle 1.238 richieste un terzo non avevano diritto quindi stiamo parlando circa di facendo ovviamente una media non ponderata di 300 euro a famiglia quindi io credo che una famiglia che siano 100 o 500 o comunque una media di 300 avrebbero fatto davvero comodo per passare una Pasqua con un po' più di granità di quello che abbiamo adesso quindi il mio invito è ovviamente voterò a favore il mio invito è facciamo il prima possibile facciamo il prima possibile distribuiamo questi soldi il prima possibile alle persone che ne hanno la vera necessità io mi auguro tra l'altro che siano state fatte tutte le verifiche anche incrociando quelli che hanno già diritto a aiuti da altre strutture da altri enti da altre organizzazioni come la Caritas piuttosto che CRS di modo che la platea di chi non aveva e non ha aiuti da nessuno possa essere raggiunta per davvero Sì grazie mi accodo a quanto detto da chi mi ha preceduto mi spiace sinceramente che non ci sia mai chiarezza da parte di questa amministrazione come su Santa Chiara cioè non si capisce mai se è una bugia detta sapendo di mentire oppure se è perché non si sa bene come sono fatte le cose come sono questo sinceramente mi dispiace perché dobbiamo sempre andare a chiedere a scavare a indagare a cogliere dal dettaglio che poi alla fine le cose stavano diversamente allora io non ero presente nella welfare però c'erano ben due colleghi dei quali mi fido ciecamente oltre che quelli delle altre liste e mi sembra che fosse stato ipotizzato un metodo diverso per la seconda tranche o comunque almeno messo in cantiere adesso si apprende che non è così e questo mi dispiace anche proprio nel merito perché per le ragioni che dicevo prima insomma si sarebbe potuta realizzare un'economia di scale eccetera ma non voglio tornarci mi dispiace anche nel metodo proprio della distribuzione che gli assessori non si parlino tra loro cioè l'assessore si che ipotizzava anche che si potesse venire lì in comune che era la stessa cosa che avete ipotizzato a proposito delle mascherine quando pensavate di fare i punti di distribuzione e quando è chiaramente detto che non ci dovevano essere assembramenti mi dispiace mi accodo che ci debbano essere ancora per la distribuzione dei tempi così lunghi perché nell'intento del governo c'era che fossero misure urgenti il tempo passa e siamo ancora a definire la platea comunque il nostro voto sarà di astensione Sì grazie consigliere Casiraghi Sì grazie presidente io vi faccio un appello chiedo che vista la confusione che è stata proprio cristallizzata in questi 20 minuti che voi per una volta siate veramente trasparenti perché io adesso con questo qua vi starò addosso però io voglio che quando poi uno manda una mail non deve aspettare 5, 6, 7 giorni 8 giorni io sto aspettando ancora richiesta di accesso agli atti dal 4 febbraio presidente dal 4 febbraio ho inviato 11 solleciti e queste richieste agli atti non sono mai arrivate e non le faccio come prima ha detto la sindaca che mando il whatsappino la sera di come comunicate voi io non lo so io so che ho fatto una richiesta di accesso agli atti per la relazione di Santa Chiara il 7 aprile via PEC all'indirizzo del comune all'indirizzo mail del comune legal mail del comune e non ho avuto ancora risposta io ho avuto una risposta ufficiale da lei via whatsapp in cui mi dice che la sindaca non ce l'ha quindi io le procedure le rispetto rispettate anche voi le procedure e rispettate anche voi i tempi quindi adesso vi chiedo questo impegno e voglio sentire però una risposta voto a favore ma sarete trasparenti su questo? certo grazie grazie sessore grazie no posso dire posso fare una precisazione io mi scuso probabilmente ho peccato di non aver letto la determina ma ero veramente convinta che fossero stati impegnati solo i 120 mila euro da adesso va bene se non ci sono altri interventi passiamo il voto allora Casanova favorevole 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 cassinetti cartinetti calterini mostabilini 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 favorevole sali favorevole era anche la cassinetti eh sì ti ho fatto già visto cassinetti già fatto armati favorevole 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 bazzardi favorevole 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 potenti favorevole favorevole avuto detto favorevole 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 comunque io a caravelli l'ho vista votare favorevole 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 come si fa a chiedere la rettifica di un voto io credo di aver votato favorevole può essere si può rettificare no chiedo eh se no pazienza no no non capisco chi mi sta parlando furegato furegato come volevo stare astensione aspetti che vanno a riprendere furegato astenuto ok vincitissima grazie quattro voti di astensione uno due tre e venti tre favorevoli e venti tre favorevoli allora venti tre favorevoli in quattro di estensione questo astenuti è approvato dobbiamo votare l'immediata eseguibilità prego allora il massimo se devo cancellare la gassina in ciasco 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 ok casanova favorevole favorevole vignani favorevole pagini favorevole fervi e leonoga favorevole fervi 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 cacinetti calderini favorevole mostabilini favorevole danni favorevole armani favorevole 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 fervi clavia favorevole bazzardi favorevole bacchi favorevole favorevole colpettini favorevole favorevole guatteri favorevole caraventi favorevole comenti favorevole purgato astensione tagliaferri astensione e argentini astenuto tiranesi favorevole 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 approvato riconoscimento debito fuori bilancio punto 9 rimborso spese processuali per sentenza decoltiva ctr 10 minuti per far colazione non ce li prendiamo ma non si può rimandare no presidente c'è onestamente abbastanza disumano i due debiti fuori bilancio non si possono rimandare se non c'è una scadenza è davvero assurdo i debiti fuori bilancio hanno sempre una scadenza specialmente quando è che scadono però però se volete aggiornare diciamo non sia troppo in là ecco perché poi posso 20 minuti 20 minuti ci bastano 20 minuti ragazzi scusate mancano veramente due punti concludiamo e finiamo secondo me questo è il mio parere il bilancio meriterebbe una discussione molto approfondita credo ma facciamo la discussione approfondita sono le 7 e mezza del mattino e 14 mezzamino siamo qua balliamo fate come volete io sto qua c'è c'è neanche più il problema di svegliare i vicini oramai io credo neanche più fattiglio direi diciamo di proseguire terminare l'ordine del giorno riconoscimento fuori bilancio sessore sicel sì allora il punto no sì fuori bilancio rimborso spese processuali per sentenza esecutiva della commissione tributaria di Milano premesso che in data 8 agosto 2008 la commissione tributaria regionale di Milano ha emesso una sentenza a seguito dell'appello presentato dal servizio tributario contro Sporting oggetto dell'avviso di accertamento IMU con la predetta sentenza la commissione tributaria ha rigettato l'appello condannando il comune al rimborso delle spese processuali in 6.000 euro vista la fattura pro forma emessa dal dottor Guarneri per protocollo 66538 del 23 12 2019 per la sentenza emessa dalla CTR quale onorario considerato che la fattispecie soprenunciata costituisce il debito fuori bilancio e dato atto che il richiamato articolo 194 recita che il riconoscimento di legittimità fuori bilancio viene a seguito di sentenze esecutive questo è il motivo per cui si chiede appunto di votare questo provvedimento quindi considerato che con la delibera dell'aggiunta numero 134 del 28 11 2018 è stato autorizzato di proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributale di Milano emessa da cui scatturisce il debito da riconoscersi con il presente atto quindi si delibera di procedere al riconoscimento della legittimità per comprensive 8654 40 comprensive di 6.750 per il rimborso spese 270 per la cassa e 1.544 all'ordo della ritenuta da conto questo era un contenzioso che avevamo già discusso che abbiamo discusso anche in Commissione Bilancio era un avviso di accertamento IMU che era partito negli anni 2014 2015 nei confronti dello Sporting Lodin per omesso un versamento di imposta successivamente era stata presentata istanza poi successivamente è presentata istanza poi la società aveva presentato istanza di rateizzazione che veniva concessa in tre entrate missili che l'ultima è scaduta il 7 aprile del 2019 questo premesso la società ricorre davanti alla Commissione Tributaria Provinciale contestando la pretesa tributaria e con le varie motivazioni che adesso io qui non ho tengo presente e precisa che il Comune di Lodi aveva presentato e redatto le controdeduzioni seguiti da ulteriori memorie precisiamo che il Comune prima di procedere alla presentazione di Costituzioni in giudizio aveva anche acquisito i pareri di due associazioni che è l'ANUTEL e l'ANCITEL in merito alle contestazioni espresse dalle società pareri che hanno confermato la difesa dell'ente in modo particolare sul presunto requisito soggettivo che era se non vado a rato il fatto che la società è una società di capitali successivamente la Commissione Tributaria Provinciale con sentenza successiva del 2017 ha accolto il ricorso e ha annullato parzialmente i provvedimenti dichiarando che l'imposta dovuta dalla società deve essere pari al 21% e ordinando la liquidazione del rimborso per la differenza successivamente in relazione al contenuto di questa sentenza il Comune tramite il funzionario aveva chiesto ulteriori pareri alle due associazioni che ho citato prima quindi ANUTEL e ANCITEL chiedendo conferma se la procedura seguita era corretta sulla base dei precedenti pareri nonché a un commento sulla sentenza emessa in funzione dell'eventuale impugnazione della stessa innanzi alla commissione tributaria regionale i pareri hanno espresso la correttezza della procedura dichiarando la sentenza manifestamente erronea e conseguentemente la legittimità dell'impugnazione stessa quindi successivamente la commissione tributaria con la sentenza del 2018 respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado e risulta corretta l'applicazione dell'imposta corrispondente al 21% e liquida le spese di soccombenza contro il comune per 6.000 euro quindi successivamente il comune ha ritenuto necessario un ulteriore intervento delle due associazioni per avere conferma delle loro posizioni a riguardo ma anche della legittima possibilità di ricorrere in Cassazione quindi entrambe le associazioni sono concordi sulla legittimità dell'impugnazione innanzi alla Cassazione poiché a tutt'oggi non vi è mai stato nello specifico un orientamento giurisprudenziale consolidato di orientamento costante questa era una relazione che mi ero fatto io traendo da quello che mi hanno detto il commissione bilancio non è diventato a vedere non ci sono interventi per cui direi di passare al voto prego dottoressa dichiarazione di voto io per dichiarazione di voto prego grazie presidente sì io insomma ritengo che dopo 13 ore di consiglio comunale onestamente penso per me che non ci siano le condizioni per insomma per poter votare tranquillamente per poter prendere delle decisioni ponderate e ben fondate ritengo che se queste cose accadessero in un'azienda privata cioè dove degli amministratori vengono e si smentiscono a vicenda di fronte a un CDA amministratori del CDA dell'azienda verrebbero cacciati tutti appena nel sedere qua lo facciamo perché non sono nessuno amministra roba sua se qualcosa va male sono soldi pubblici non sono soldi privati per cui voi chi riceve un dettame dal partito vota facilmente sì o no magari io che devo scegliere insomma ponderare la mia decisione ritengo che sia ingiusto metterci farci votare in queste condizioni per cui non parteciperò al voto un attimo consigliere Furegato non la sentiamo consigliere avete ragione presidente grazie no allora io voglio prima di tutto tornare un attimo su quello che è successo perché stasera più di una volta ciò che è stato detto nelle commissioni è stato smentito in consiglio comunale sia per quanto riguarda il regolamento delle entrate dove ci è stato detto che espressamente che era una facoltà che non era una facoltà di legge invece era una facoltà di legge sia per quanto riguarda la questione dei buoni quindi è inaccettabile è totalmente inaccettabile e mi spiace dire alle 8 meno 20 del mattino tenendo qui la gente che nelle commissioni ci siano dette delle cose non vere poi che siano dette con o meno consapevolezza questo non so non ve lo so dire e non mi interessa neanche sinceramente però mi piacerebbe che nelle commissioni venissero date le informazioni corrette e non le informazioni non corrette per quanto riguarda la delibera di cui stiamo parlando a parte che sono completamente d'accordo con consigliere Casiraghi è una follia essere qua alle 8 meno 20 a discutere di un debito fuori bilancio un debito fuori bilancio su allora l'imu di una società che per metà è partecipata dalla nostra partecipata al 99% dove noi abbiamo perso in primo e in secondo grado in commissione ci è stato detto che abbiamo sicuramente ragione noi a questo punto scusate ma uso il beneficio del dubbio perché non me la sento non sono allegati i pareri alla delibera non mi è stato detto chi assiste il comune andiamo a fare andiamo a fare ricorso in Cassazione e oggi riconosciamo il debito fuori bilancio per il il livello di giudizio che abbiamo già perso io sinceramente non è cioè faccio davvero fatica ad esprimermi in questa situazione faccio davvero fatica ad esprimermi è una questione molto complessa giuridicamente a quanto pare è un unicum in Italia per cui c'è stato un parere che ribalta tutta la giurisprudenza precedente e ne stiamo discutendo alla quattordicesima ora di consiglio comunale cioè che tra poco sveniamo io cado dalla sedia e dormo per terra cioè quindi è una è una gestione delle cose che è fuori dal mondo ma non esiste di fare le robe così comunque adesso bisognerà riconoscere questo debito fuori bilancio perché bisognerà pagare l'avvocato che che gli avvocati eccetera e quindi la maggioranza voterà a favore a me francamente cioè mi sembra davvero un modo di procedere che non esiste grazie voto astensione grazie consigliere milanesi sì grazie presidente non entro nel merito dell'ora tarda purtroppo io sono convinto anch'io che dopo quasi 13 ore di consiglio comunale la lucidità sia calata sono altresì convinto che con due punti all'ordine del giorno a questo punto portiamo a termine questo consiglio comunale che non era da farsi e penso che tutti ce lo possiamo ce lo possiamo tranquillamente dire alle 7.43 dell'11 aprile sabato di Pasqua e su quanto per quanto riguarda questo debito fuori bilancio io anche io faccio fatica a capire anzi più che faccio fatica a capire a questo punto mi auguro che il nostro essere apre piste rispetto ad un caso che nella giurisprudenza fino a ad oggi non è stato riscontrato non ci sono evidenze di nessun tipo io spero che a questo punto se proprio dobbiamo fare da apre piste io personalmente di fare il ricorso in Cassazione non sono d'accordo voterò contrario mi auguro solo che se voterete favorevole come io credo a questo punto che ci venga data ragione che il caso dopo il caso mese che è stata una cosa negativa magari può esserci un piccolo caso che diventa una cosa un po' più positiva ripeto il mio voto comunque è contrario io fa la propria prestazione la prestazione è a prescindere dall'esito della causa potrà confermarmi l'avvocato Uge quindi era solo per rispondere a questo inciso del dottor Furegato che poi si tratti di un debito fuori bilancio vada fatto a rientrare perché va pagato un professionista credo che sia un atto dovuto a prescindere dalla necessità sua o di chi con lei vuole entrare nel merito ma nel merito sarà difficilissimo anche se doveste andarvi a leggere tutti gli atti perché dovreste ripercorrere tutti i gradi di giudizio e quindi questo debito fuori bilancio probabilmente non lo riconoscereste mai grazie grazie quindi possiamo passare al voto Scusi Presidente ma io ho risposto però mi sembrava che i consiglieri che mi hanno presieduto avessero fatto delle domande io prima di di votare per fare un razionamento compiuto consigliero lei si deve prenotare e siamo in dichiarazione di voto bravo Cerri no così Presidente Maggi che mi risulti non fa parte del Consiglio Comunale cioè non dovrebbe parlare di sicuro no ma scusate non voglio fare polemiche ma i consiglieri che mi hanno preceduto hanno fatto delle domande agli assessori e io aspettavo delle risposte se no mi intervento consigliere però siamo siamo in dichiarazione di voto ma lei ha il tempo anche tecnico di poter attivare un microfono non è che può dire no ok io le do la parola siamo in dichiarazione di voto non posso fare altro ma guardi rinuncio a parlare perché il metodo è orribile grazie grazie passiamo il voto Presidente però mi perdoni ha ragione il consigliere sono state fatte delle domande siccome le 746 sono per noi consigliere di minoranza o di opposizione chiamateci come volete che siamo qua a fare domande e cercare comunque di avere un minimo di approfondimento se queste domande non ci sono prendo atto se invece ci sono per favore l'assessore Sickel o chi per esso il vice sindaco Maggi se proprio vuole parlare perché ha qualcosa da dire va bene però commettetemi un minimo sì sì io c'è Maggi qualcosa da dire lo sconsiglio volentieri non lo volevo fare di liberale prima siamo in una fase successiva e giustamente siamo in dichiarazione di voto e non possiamo tornare indietro ancora doveva essersi prima eventualmente una risposta non c'è stata siamo andati in dichiarazione di voto dobbiamo procedere con il voto va bene quindi prendo atto che dalla giunta non ci vogliono dare delle risposte va bene grazie facciamo il voto Casanova favorevole Vignami favorevole Casini favorevole 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 casinetti favorevole casinetti favorevole caserini favorevole costabilini favorevole 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 bazzardi bacchi bassi niente non è più così bollani favorevole 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 bollani amorevole a stessione astenuto i dati astensione il contrario non partecipo al voto non partecipo al voto quindi abbiamo tre non partecipati al voto tre astenuti un voto contrario e e diciannove favorevoli diciannove favorevoli contrario uno astenuti tre non partecipo al voto tre è approvato passiamo l'immediata eseguibilità prego dottoressa Casanova favorevole Vignani favorevole favorevole Pedro Leonora favorevole Favorevole Cassinetti favorevole Calderini favorevole Montavidini favorevole Cittani favorevole Armanni favorevole Capete favorevole Filippa favorevole Mazzardi favorevole 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 Voltani favorevole Orgobini favorevole Rzzotto favorevole Favori Favorevole Favorevole Caraberni Favorevole Bonnetti Favorevole Favorevole Milanesi Contrario Ucce Non partecipo al voto Casiraghi Non partecipo al voto Quindi tre Non partecipo al voto Tre sono le astenuti Un voto contrario E 19 Non partecipo al voto Grazie Quindi 19 favorevoli Contrario 1 Astenuti 3 non partecipo al voto 3 Passiamo all'ultimo punto Dell'ordine del giorno Riconoscimento debito fuori bilancio Rimborso processuale Per sentenza esecutiva Sentenza Ctp Prego assessore Seeker Grazie presidente Anche in questo caso si tratta di riconoscimento fuori bilancio Un rimborso spese processuali Per sentenze esecutive Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Numero 3 del 2020 Premesso che in data 9 Dicembre 2019 La Commissione Tributaria Provinciale Ha emesso una sentenza Con la quale a seguito di annullamento Dell'avviso di accertamento È messo nei confronti di una persona fisica Vista la fattura pro forma Emessa dell'Avvocato Marzia Barone Del 31 2020 A seguito della sentenza emessa Della Cpt di Lodi Quindi considerato Come dicevo prima Che la fattispecie soprenunciata Costituisce debito fuori bilancio A norma dell'articolo 194 E dato atto Richiamato articolo Il riconoscimento di legittimità Debiti fuori bilancio Deriva anche da sentenze esecutive Quindi Questa è molto Meno complicata Già è complicata Già è complicata anche per me questa Figuratevi quella di prima Allora Questa è una sentenza Nasce nel 2013 La persona fisica in oggetto Ha presentato istanza Di rimborso IMO A cui il servizio tributario Aveva dato Disponendo Il diniego Aveva dato Il diniego del rimborso E La nota dell'ufficio Per disguido Non è stata regolarmente notificata E La persona fisica Ha presentato ricorso Con il silenzio Il rifiuto della propria istanza Successivamente Le sentenze di primo grado Respingono il ricorso Sempre Dalla Persona fisica in oggetto Confermando le ragioni di merito Esposte nella costituzione In giudizio dell'ente In data 28 10 2016 Viene presentata A mezzo del proprio legale Il ricorso Davanti La Corte di Cassazione Impugnando la sentenza Della commissione tributaria La Corte di Cassazione Il 4 Più del 2019 Ha fornito Per la prima volta Anche qui Life In senso positivo Aprepista Qua in senso negativo Dicevo La Cassazione Ha fornito Per la prima volta Un'interpretazione diversa Riconoscendo l'agevolazione Prevista per i coniugi separati Anche per i conviventi Da tale sentenza È nata È stata altresì introdotta Nella nuova disciplina IVA In vigore dal 2020 Una disposizione specifica Nella quale Il termine coniugi assegnatario Viene sostituito Da co-genitore assegnatario Nel periodo di dipendenza Di giudizio Innanzi alla Corte di Cassazione Il senso tributario Aveva messo i provvedimenti Accertamenti IMO Per l'imposta 2013 Con l'esito della finale Della Cassazione Il seguito tributario Ha dovuto necessariamente Predisporre gli annunamenti Dei provvedimenti emessi E depositarli In commissione tributaria Con la richiesta Di cessata materia Del contendere La commissione tributaria Invece Come dicevo in premessa Con la sentenza Del 3 2020 Ha dichiarato La cessata materia Del contendere Ma ha quantificato Le spese processuali Addibitando nel comune Euro 500 A concludere Assessore Ok grazie Scusate ho avuto io un mancamento Ho sentito una battuta Un tono sarcastico Del tipo Cioè se quella di prima Era una scelta difficile Figuriamoci questa No Siccome io non sono un avvocato legale Questa è molto più semplice Da esprimere Rispetto a quella precedente Ah è più semplice questa Ok A meno male che l'abbiamo tenuto ultima Consigliere milanesi Sì grazie presidente Io guardi Arrivato a questo punto Su questo debito fuori bilancio Sono sincero Non l'ho approfondito Quindi non parteciperò Alla votazione Visto che è l'ultimo intervento Spero mi auguro Di questa lunga nottata Approfitto per fare gli auguri Di buona Pasqua a tutti voi A qualche fedelissimo Che ci sta magari seguendo In streaming Il mio auspicio è che Visto che Pasqua è Come dire per eccellenza Il momento del passaggio Ecco io spero che davvero Questa vena ottimistica Alle 7.57 dell'11 di aprile Sia un passaggio Verso una fase davvero nuova Perché ci attendono davvero Delle sfide che Non possiamo permetterci Di bucare Quindi davvero Ripeto davvero Tante volte perché Davvero ci credo Davvero E quindi Nel farvi gli auguri di buona Pasqua Chiedo alla Giunta Che possa aprirsi una nuova fase Una nuova fase dove si collabora Realmente per quelle che sono Le sorti della nostra città Perché l'Odi è la città che amiamo E una cosa che si Una cosa Una persona Una città che si ama Ha bisogno di tutte le nostre migliori forze Grazie consigliere milanesi Anche per le parole Consigliere Fulegato Grazie Presidente Io prima di tutto Scusate non ho sentito bene L'intervento del Consigliere milanese Perché mi si era staccata la connessione Mi sono andato il telefono Prima di tutto Alla fine di questa maratona Voglio E non l'ho ancora fatto Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali Che hanno lavorato per la preparazione degli atti E che ci hanno permesso di svolgere la nostra funzione E quindi voglio ringraziarli Voglio ringraziare tutti voi Per aver animato la discussione Chi l'ha animata in particolare Per quanto riguarda invece quello che stiamo facendo Presidente Cherry Un ordine del giorno del genere è inguardabile Ancora una volta Cioè non si può andare avanti così Io non so cosa cavolo discutete in capigruppo Però evidentemente non fate discussioni molto proficue Ok E lo dico a tutti i capigruppo Al mio anche Che adesso non so dove deve essere lì Io non lo vedo Non lo vedo perché vedo solo quattro immagini Non so di cosa discutete Non so come avete fatto a decidere una roba del genere Di mettere due debiti fuori bilancio In fondo a un ordine del giorno del bilancio Che praticamente Il bilancio abbiamo iniziato a discutere dopo le 11 Cioè quando volete che finivamo Finiamo quest'ora qua Discutendo ripeto Un ordine del giorno Prima un punto di un debito fuori bilancio Legato a una questione Molto complessa Che andrebbe approfondita bene Da parte del Consiglio Comunale E questa poteva essere l'occasione Non solo per i consiglieri Ma anche per tutta la città Perché noi qua stiamo facendo delle sedute pubbliche Che voglio dire potrebbero vedere tutti i cittadini interessati Su questioni molto importanti Quindi è un modo di procedere assolutamente inaccettabile Ed è stato inaccettabile Il modo in cui è stato trattato il consigliere UG Dove addirittura sono intervenuti i membri della giunta Fuori microfono Dicendo che praticamente UG non poteva parlare Eccetera quando ha semplicemente chiesto Un attimo se si poteva rispondere alle domande Cioè un atteggiamento irricevibile a quest'ora qua Per l'ordine del giorno che voi avete voluto È inaccettabile questo modo di procedere Grazie Consigliere Casiraghi Eh? Consigliere Casiraghi prego Grazie Presidente Guardi io penso che l'osservazione di Furegato sia giustissima Guardi insomma non mi voglio discolpare Aspetta che Ok Non mi voglio discolpare Dico solamente che nell'ultima capigruppo che abbiamo fatto C'erano come dire vedute diverse tra maggioranza opposizione su come doveva svolgersi questa 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 seduta Alla fine è stato messo al voto Aveva vinto la proposta della minoranza diciamo E dopodiché si è visto che in capigruppo allora non si doveva votare Per cui nonostante comunque diciamo l'assemblea dei capigruppo si fosse espressa in un modo Lei Presidente d'Imperio come le spetta da regolamento ha deciso di fare di testa sua Quindi io rinnovo l'invito a smetterla di lavorare così sono tre anni che lavorate così E rinnovo l'invito anche a Bonetti che prima mi ha lanciato l'appello Sei una bravissima persona sei tutto però smettiamola di ragionare così in capigruppo Basta che ognuno va e deve per forza difendere le posizioni della sua maggioranza Quando poi ci portano a discutere i consigli comunali fino alle 8 di mattina Incominciamo a ragionare con la testa e basta continuare a seguire i ditcat del partito Della giunta che dicono che cosa bisogna fare Colgo anche io l'occasione per augurare Buona Pasqua a tutti voi i miei colleghi E a chi ha lavorato fino alle 8 di mattina fino adesso E quei pochi che non hanno mollato a casa che ci stanno ancora seguendo Ciao a tutti Grazie, buona Pasqua Qui non parteciperò al voto per lo stesso motivo di prima Anche a te Elisa, ciao Grazie, grazie Consigliere Uge Grazie Presidente Io A quanto riguarda questa relazione di bilancio Visto la spiegazione che è stata data C'è una sentenza, c'è poco da fare E' chiaro che voterò favorevole Se avesse avuto delle spiegazioni migliori Sulla questione precedente avrei potuto farmi un'idea un po' più compiuta sulla cosa E avrei potuto partecipare meglio a questa... al voto insomma Però evidentemente d'ora in avanti io mi prenotterò sempre in via preventiva Perché vedo che il modo di condurre il dibattito non sempre è imparziale E mi spiace Presidente di dover dire queste cose Perché non appartiene a me fare un attacco di questo tipo Non è nelle mie abitudini Però io mi sono sentito veramente attaccato prima Perché tutto lasciava intendere che ci dovessero essere delle risposte Essendo ci state delle domande precedentemente E invece le risposte non ci sono state Lei immediatamente ha aperto la dichiarazione di voto Senza neanche lasciare il tempo di poter aprire un microfono O di poter scrivermi prenotto Questo è un metodo che secondo me non va bene Presidente Spero che le cose cambino e che ci sia maggior rispetto Per il resto mi unisco agli auguri di Pasqua a tutti Anche alla piccola Alice figlia del Sindaco E spero che troviate tutti una bella sorpresa nel ruolo di Pasqua Grazie Avvocato, ciao Buona passata Grazie Ha chiesto la parola il Sindaco Ringrazio il consigliere Uge Ma ovviamente ringraziamento a tutti voi per la pazienza E il dialogo avuto questa sera Da ieri pomeriggio, tardo pomeriggio fino a questa mattina Colgo l'occasione per ringraziare anche la dottoressa Urbano Il dottor Baini e il dottor Brambati Per la pazienza per aver assistito ai lavori consigliari E colgo l'occasione per rinnovare a tutti voi una buona Pasqua Grazie Sindaco, anche a te Grazie 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 anche al Presidente Cerri Tanti auguri Ha chiesto la parola il consigliere Tercentini Anche se ha parlato il collega Puregato Però Prego Presidente Siete al di là degli auguri del volemo se bene Tutto quello che volete Siete riusciti a battere il record delle 13 ore e 14 minuti Di consiglio comunale E in quel tempo quel record aveva Se non ricordo male un ordine del giorno ben più pesante Di quello che abbiamo avuto stasera E' chiaro e evidente che quello di stasera era un consiglio comunale a spezzare in due Abbiamo provato a dirvi di spostarlo al martedì Perché almeno col martedì Cambiava Cambiava Consigliera Perri Cambiava Perché tanto oggi approviamo tutto quanto Ma le delibere Tutto quello rimane fermo fino a martedì Perché la gente non lavora il venerdì Il sabato, la domenica e il lunedì Per fare tutto martedì Tanti auguri di buona Pasqua Vedetevi questo record che abbiamo frantumato Io credo che però la prossima volta Visto che sono stato richiamato da mio collega In partito La prossima volta in capigruppo però Non prescindio di più da determinate richieste Grazie Buona Pasqua A partito franzumato solo record consigliere piaciuto Grazie Passiamo al voto Come vi vedo già pronti per partire al raso di netto nei vostri letti Prima di chiamarvi per l'appello Vi voglio fare anche io gli auguri Buona Pasqua Grazie Grazie auguri a lei grazie e auguri a tutti ecco di starvi guardati e non avere problemi di salute né per voi né per i vostri familiari soprattutto perché per me questa è questa pacqua in questo momento volevo ringraziare pubblicamente e deloggiare e delfomiare il dottor Brambati e il signor Ibarbaini che ovviamente mi hanno aiutato moltissimo a affrontare questo primo incimento del consiglio fatto nel modo come l'abbiamo fatto oggi abbiamo insieme affrontato impostato in tutto e affrontato le diverse difficoltà che erano in questa nuova esperienza e devo dire che certo l'impatto della durata oraria è stato molto forte ma voglio elogiare incommiare il lavoro di questi due validi dipendenti avrei potuto svolgere questo consiglio senza di loro e senza aver fatto tutta l'impostazione grazie davvero grazie anche da parte mia da parte nostra complimenti grazie adesso appello Casanova favorevole Vignani favorevole Ragini favorevole Henry Eleonora favorevole Henry Cassinetti favorevole Calderini favorevole Favivini favorevole Fulcani favorevole Armatti favorevole Favire favorevole Feli Claudia favorevole Bazzardi favorevole Bazzi favorevole Solani favorevole Polterini favorevole Favorevole Grusotto favorevole Guatteri favorevole Farelli Caravelli favorevole Bonetti favorevole Puregato astenuto astenuto Stagliaverri astenuta Piacentini astenuto Milanesi Milanesi Non partecipo al voto Non partecipa Urgeni Favorevole Non ho capito Favorevole Favorevole Castigliani Non partecipo al voto Esegano Non partecipo al voto Quindi tre non partecipa tre Ci appengono E 20 Sono I favorevoli 21 21 21 Ecco Allora E poi L'immediato Doviamo Esatto E' approvato Il provvedimento Dobbiamo portare All'immediata L'esegibilità Prego Dottoressa Si Casanova Favorevole Dinami Favorevole 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 Ferri Eleonora Favorevole Ferri Favorevole Cascinetti Favorevole Catterini Favorevole Mostapilini Mostapilini Favorevole Favorevole Chi ha risposto? Stavorevole Mostapilini Non c'è C'è No Il microfono Spenso Il microfono Spenso Favorevole 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 Armandine Favorevole 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 Ferri Claudia Favorevole Arsardi Favorevole Fangio Favorevole 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 Fortelini Favorevole Brusotto Favorevole Guaglie Favorevole Carabelle Favorevole Bonetti Favorevole Un regato, astensione Tagliaferri, astensione Viagentini, astenuto Milanesi, non partecipo al voto Uge, non prevole Casiraghi, non partecipo al voto Non partecipo al voto E quindi abbiamo 21 favorevoli, 3 astenuti Che non partecipano Allora, favorevoli 21, 3 astenuti, 3 non partecipano 4 infortunati Sono le 8 e 12 Io rinnovo tutti quanti i migliori auguri di buona volta Buona volta a tutti E speriamo di ritrovarsi anche in tempi migliori E con delle condizioni migliori Questo cercherò senz'altro di fare Grazie a tutti E buona Pasqua a tutti 8 e 13 Buona Pasqua a tutti Buona Pasqua a tutti Buona Pasqua a tutti Auguri Buona Pasqua Auguri Auguri a voi E voi Grazie